Dedica di Dialogo dei Massimi Sistemi Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Vito Marangelli Dialogo dei Massimi Sistemi di Galileo Galilei Dedica Serenissimo Granduca La differenza che è tra gli uomini e gli altri animali, per grandissima che ella sia, chi dicesse poter darsi poco di simile tra gli stessi uomini, forse non parlerebbe fuori di ragione. Qual proporzione ha da uno a mille? Eppure è proverbio vulgato che un solo uomo vaglia per mille, dove mille non vagliano per uno solo. Tal differenza dipende dalle abilità diverse degli intelletti, il che io riduco all'essere o non esser filosofo, poiché la filosofia come alimento proprio di quelli, chi può nutrirsene, il separa in effetto dal comune esser del volgo, in più e men degno grado, come che sia vario tal nutrimento. Chi mira più in alto, si differenzia più altamente, è il volgersi al gran libro della natura, che è il proprio oggetto della filosofia, e il modo per alzare gli occhi, del qual libro, benché tutto quel che si legge come fattura d'artefice onnipotente sia perciò proporzionatissimo, quello, niente di meno, è più spedito e più degno, ove maggiore al nostro vedere apparisce l'opera e l'artifizio. La costituzione dell'universo tra i naturali apprensibili, per mio credere, può mettersi nel primo luogo, che se quella come universal contenente in grandezza tutt'altri avanza, come regola e mantenimento di tutto debbe anche avanzarli di nobiltà. Però, se a nieno tocco mai in eccesso differenziarsi nell'intelletto sopra gli altri uomini, Tolomeo e il Copernico furono quelli che si altamente lessero, s'affisarono e filosofarono nella mondana Costituzione. Intorno all'opere dei quali, rigirandosi principalmente questi miei dialoghi, non pareva doversi quei dedicare ad altri che a vostra altezza, perché posandosi la loro dottrina su questi due, che io stimo i maggiori ingegni che in simili speculazioni ci abbiano lasciate loro opere, per non far discapito di maggioranza, conveniva appoggiarli al favore di quello appo di me il maggiore, onde possano ricevere gloria e patrocinio. E se quei due hanno dato tanto lume al mio intendere che questa mia opera può dirsi loro in gran parte, ben potrà anche dirsi di vostra altezza, per la cui, libera magnificenza, non solo mi si è dato ozio e quiete da poter scrivere, ma per mezzo di suo efficace aiuto non mai stancatosi in onorarmi, sei in ultimo data in luce. Accettila dunque l'altezza vostra con la sua solita benignità, e se ci troverrà cosa alcuna onde gli amatori del vero possano trar frutto di maggior cognizione e di giovamento, riconoscala come propria di sé medesima. Avvezza tanto a giovare che, però, nel suo felice dominio non ha nieno che delle universali angustie che sono nel mondo ne senta alcuna che lo disturbi. Con che, pregando le prosperità per crescere sempre in questa sua pia e magnanima usanza, le fa umilissima reverenza. Dell'altezza vostra serenissima, umilissimo e devotissimo servo e vassallo, Galileo Galilei. Fine della dedica Registrazione di Vito Marangelli Mola dei Bari Premessa di Dialogo dei Massimi Sistemi Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Vito Marangelli Dialogo dei Massimi Sistemi di Galileo Galilei Premessa Al discreto lettore si promulgò agli anni passati in Roma un salutifero editto che, per ovviare ai pericolosissimi scandoli dell'età presente, imponeva opportuno silenzio all'opinione pitagorica della mobilità della terra. Non mancò chi temerariamente asserì quel decreto essere stato parto non di giudizioso esame, ma di passione troppo poco informata, e si udirono querele che consultori totalmente inesperti delle osservazioni astronomiche non dovevano con proibizione repentina tarparlare agli intelletti speculativi. Non potetta c'era il mio zelo inudir la temerità di si fatti lamenti, giudicai come pienamente istrutto di quella prudentissima determinazione comparir pubblicamente nel teatro del mondo come testimonio di sincera verità. Mi trovai allora presente in Roma, ebbi non solo udienze, ma ancora applausi dei più eminenti prelati di quella corte, né senza qualche mia antecedente informazione, segui poi la pubblicazione di quel decreto. Pertanto, il mio consiglio nella presente fatica mostrare alle nazioni forestiere che di questa materia se ne sa tanto in Italia e particolarmente in Roma quanto possa mai averne immaginato la diligenza oltremontana e raccogliendo insieme tutte le speculazioni proprie intorno al sistema copernicano far sapere che precedette la notizia di tutte alla censura romana e che escono da questo clima non solo i dogmi per la salute dell'anima ma ancora gli ingegnosi trovati per delizie degli ingegni. A questo fine ho presa nel discorso la parte copernicana procedendo in pura ipotesi matematica cercando per ogni strada artifiziosa di rappresentarla superiore non a quella della fermezza della terra assolutamente ma secondo che si difende da alcuni che di professione per i patetici ne ritengono solo il nome contenti senza passeggio di adorar l'ombre non filosofando con l'avvertenza propria ma con solo la memoria di quattro principi malintesi tre capi principali si tratterranno prima cercherò di mostrare tutte le esperienze fattibili nella terra essere mezzi insufficienti a concludere la sua mobilità ma indifferentemente potersi adattare così alla terra mobile come anche quiescente e spero che in questo caso si paleseranno molte osservazioni ignote all'antichità secondariamente si esamineranno gli fenomeni celesti rinforzando l'ipotesi copernicana come se assolutamente dovesse rimanere vittoriosa aggiungendo nuove speculazioni le quali però servano per facilità d'astronomia non per necessità di natura nel terzo luogo proporrò una fantasia ingegnosa mi trovavo aver detto molti anni sono che l'ignoto problema del flusso del mare potrebbe ricevere qualche luce ammesso il moto terrestre questo mio detto volando per le bocche degli uomini aveva trovato padri caritativi che se l'adottavano per prole di proprio ingegno ora perché non possa mai comparire alcuno straniero che fortificandosi con larmi nostre ci rinfacci la poca avvertenza in uno accidente così principale ho giudicato palesare quelle probabilità che lo renderebbero persuasibile dato dato che la terra si muovesse spero che da queste considerazioni il mondo conoscerà che se altre nazioni hanno navigato più noi non abbiamo speculato meno e che il rimettersi ad asserire la fermezza della terra e prendere il contrario solamente per capriccio matematico non nasce da non aver contezza di quant'altri ci abbia pensato ma quando altro non fusse da quelle ragioni che la pietà la religione il conoscimento della divina onnipotenza e la coscienza della debolezza dell'ingegno umano ci somministrano ho poi pensato tornare molto a proposito lo spiegare questi concetti in forma di dialogo che per non essere ristretto alla rigorosa osservanza delle leggi matematiche pogge campo ancora a digressioni talora non meno curiose del principale argomento mi trovai molt'anni sono più volte nella maravigliosa città di Venezia in conversazione col signor giovan francesco sagredo illustrissimo di nascita acutissimo d'ingegno venne là di Firenze il signor filippo salviati nel quale il minore splendore era la chiarezza del sangue e la magnificenza delle ricchezze sublime intelletto che di niuna delizia più avidamente si nutriva che di specolazioni esquisite con questi due mi trovai spesso a discorrere di queste materie con l'intervento di un filosofo peripatetico al quale pareva che niuna cosa ostasse maggiormente per l'intelligenza del vero che la fama acquistata nell'interpretazioni aristoteliche ora poiché morte acerbissima ha nel più bel sereno degli anni loro privato di quei due gran lumi Venezia e Firenze ho risoluto prolungare per quanto vagliono le mie debili forze la vita alla fama loro sopra queste mie carte introducendoli per interlocutori della presente controversia ne mancherà il suo luogo al buon peripatetico al quale per soverchio affetto verso i commenti di simplicio è parso decente senza esprimerne il nome lasciarli quello del reverito scrittore gradiscano quelle due grandanime al cuor mio sempre venerabili questo pubblico monumento del mio non mai morto amore e con la memoria della loro eloquenza mi aiutino a spiegare alla posterità le promesse speculazioni erano casualmente accorsi come interviene vari discorsi alla spezzata tra questi signori i quali avevano piuttosto nei loro ingegni accesa che consolata la sete dell'imparare però fecero saggia risoluzione di trovarsi alcune giornate insieme nelle quali bandito ogni altro negozio si attendesse a vagheggiare con più ordinate speculazioni le maraviglie di dio nel cielo e nella terra fatta la radunanza nel palazzo dell'illustrissimo sagredo dopo i debiti ma però brevi complimenti il signor salviati in questa maniera incominciò fine della premessa registrazione di Vito Marangelli Mola di Bari giornata prima parte prima di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org registrazione di Vito Marangelli dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata prima parte prima giornata prima interlocutori salviati sagredo e semplicio salviati fu la conclusione e l'appuntamento di ieri che noi dovessimo in questo giorno discorrere quanto più distintamente particolarmente per noi si potesse intorno alle ragioni naturali e loro efficacia che per l'una parte per l'altra sin qui sono state prodotte dai fautori della posizione aristotelica e tolemaica e dai seguaci del sistema copernicano e perché collocando il copernico la terra tra i corpi mobili del cielo viene a farla essa ancora un globo simile a un pianeta sarà bene che il principio delle nostre considerazioni sia l'andare esaminando quale e quanta sia la forza e l'energia dei progressi peripatetici nel dimostrare come tale assunto sia del tutto impossibile atteso che sia necessario introdurre in natura sostanze diverse tra di loro cioè la celeste e la elementare quella impassibile ed immortale questa alterabile e caduca il quale argomento tratta egli nei libri del cielo insinuandolo prima con discorsi dependenti da alcuni assunti generali e confermandolo poi con esperienze e con dimostrazioni particolari io seguendo gli stesso ordine proporrò e poi liberamente dirò il mio parere esponendomi alla censura di voi ed in particolare del signor simplicio tanto strenuo campione e mantenitore della dottrina aristotelica è il primo passo del progresso peripatetico quello dove Aristotile prova la integrità e perfezione del mondo con la ditarci come i non è una semplice linea né una superficie pura ma un corpo adornato di lunghezza di larghezza e di profondità e perché le dimensioni non sono più che queste tre avendole egli le ha tutte ed avendo il tutto è perfetto che poi venendo dalla semplice lunghezza costituita quella magnitudine che si chiama linea aggiunta la larghezza si costituisca la superficie e sopraggiunta l'altezza o profondità ne risulti il corpo e che dopo queste tre dimensioni non si dia passaggio ad altra sì che in queste tre sole si termini l'integrità e per così dire la totalità avrei ben desiderato che da Aristotile mi fosse stato dimostrato con necessità e massime potendosi ciò eseguire assai chiaro e speditamente semplicio mancano le dimostrazioni bellissime nel secondo terzo e quarto testo dopo la definizione del continuo non avete primieramente che oltre alle tre dimensioni non venè altra perché il tre è ogni cosa e il tre è per tutte le bande e ciò non viene egli confermato con l'autorità e dottrina dei pitagorici che dicono che tutte le cose sono determinate da tre principio mezzo e fine che è il numero del tutto e dove lasciate voi l'altra ragione cioè che quasi per legge naturale co tal numero si usa nei sacrifici degli dei e che dettante pur così la natura alle cose che sono tre e non a meno attribuiscono il titolo di tutte perché di due si dice amen due e non si dice tutte ma di tre si bene e tutta questa dottrina l'avete nel testo secondo nel terzo poi ad pleniorum scientiam si legge che l'ogni cosa il tutto e il perfetto formalmente sono li stesso e che però solo il corpo tra le grandezze è perfetto perché esso solo è determinato da tre che è il tutto ed essendo divisibile in tre modi è divisibile per tutti i versi ma dell'altre chi è divisibile in un modo e chi in due perché secondo il numero che gli è toccato così hanno la divisione e la continuità e così quella è continua per un verso questa per due ma quello cioè il corpo per tutti di più nel testo quarto dopo alcune altre dottrine non prove gli stesso con un'altra dimostrazione cioè che non si facendo trapasso se non secondo qualche mancamento e così dalla linea si passa alla superficie perché la linea è manchevole di larghezza ed essendo impossibile che il perfetto manchi essendo egli per tutte le bande però non si può passare dal corpo ad altra magnitudine or da tutti questi luoghi non vi pare egli a sufficienza provato come oltre alle tre dimensioni lunghezza larghezza e profondità non si dà transito ad altra e che però il corpo che le ha tutte è perfetto salviati io per dire il vero in tutti questi discorsi non mi son sentito stringere a concedere altro se non che quello che ha principio mezzo e fine possa ed evadirsi perfetto ma che poi perché principio mezzo e fine sono tre il numero tre sia numero perfetto ed abbia ad aver la facoltà di conferire perfezione a chi laverà non sento io cosa che mi muova a concederlo e non intendo e non credo che verbi grazia per le gambe il numero tre sia più perfetto che il quattro o il due ne so che il numero quattro sia di imperfezione agli elementi e che più perfetto fusse che fusser tre meglio dunque era lasciare queste vaghezze ai retori e provare il suo intento con dimostrazione necessaria che così convien fare nelle scienze dimostrative semplicio perché voi pigliate per ischerzo queste ragioni eppure tutta dottrina dei pitagorici i quali tanto attribuivano ai numeri e voi che siete matematico e credo anche in molte opinioni filosofo pitagorico pare che ora dispreziate i loro misteri salviati che i pitagorici avessero insomma stima la scienza dei numeri e che platone stesso ammirasse l'intelletto umano e lo stimasse partecipe di divinità solo per l'intender egli la natura dei numeri io benissimo lo so ne sarei lontano dal farne l'istesso giudizio ma che i misteri per i quali pitagora e la sua setta avevano in tanta venerazione la scienza dei numeri sieno le sciocchezze che vanno per le bocche e per le carte del volgo non credo io in veruna maniera anzi perché so che essi a ciò le cose mirabili non fussero esposte alle contumelie e al dispregio della plebe dannavano come sacrilegio il pubblicare le più recondite proprietà dei numeri e delle quantità incommensurabili ed irrazionali da loro investigate e predicavano che quello che le avesse manifestate era tormentato nell'altro mondo penso che taluno di loro per dar pasto alla plebe e liberarsi delle sue domande gli dicesse i misteri loro numerali esser quelle leggerezze che poi si sparsero tra il vulgo e questo con astuzia ed accorgimento simile a quello del sagace giovane che per torsi d'attorno l'importunità non so se della madre o della curiosa moglie che la sediava a ciò le conferisse i segreti del senato compose quella favola onde essa con molte altre donne rimasero di poi con gran risa del medesimo senato schernite simplicio io non voglio esser nel numero dei troppo curiosi dei misteri dei pitagorici ma stando nel proposito nostro replico che le ragioni prodotte da aristotile per provare le dimensioni non esser né poter esser più di tre mi paiono concludenti e credo che quando ci fosse stata dimostrazione più necessaria aristotile non l'avrebbe lasciata indietro sagredo aggiungetevi al manco se l'avesse saputa o se la gli fosse sovvenuta ma voi signor salviati mi farete ben gran piacere di arrecarmene qualche evidente ragione se alcuna ne avete così chiara che possa essere compresa da me salviati anzi e da voi e dal signor simplicio ancora e non pur compresa ma di già anche saputa se ben forse non avvertita e per più facile intelligenza piglieremo carta e penna che già veggio qui per simili occorrenze apparecchiate e ne faremo un poco di figura e prima noteremo questi due punti A B e tirate dall'uno all'altro le linee curve ACB ADB e la retta AB vi domando quale di esse nella mente vostra è quella che determina la distanza tra i termini A B e perché sagredo io direi la retta e non le curve sì perché la retta è la più breve sì perché le una sola è determinata dove le altre sono infinite ineguali e più lunghe e la determinazione mi pare che si deve prendere da quel che è uno è certo salviati noi dunque avviamo la linea retta per determinatrice della lunghezza tra due termini aggiunghiamo adesso un'altra linea retta e parallela alla AB la quale sia CD sì che tra esse resti frapposta una superficie della quale io vorrei che voi mi assegnaste la larghezza però partendovi dal termine A ditemi dove e come voi volete andare a terminare nella linea CD per assegnarmi la larghezza tra esse linee compresa dico se voi la determinerete secondo la quantità della curva AE oppure della retta AF oppure simplicio secondo la retta AF e non secondo la curva essendosi già escluse le curve da simil uso segredo ma io non mi servirei né dell'una né dell'altra vedendo la retta F andare obliquamente ma vorrei tirare una linea che fosse a squadra sopra la CD perché questa mi par che sarebbe la brevissima ed unica delle infinite maggiori e tra di loro ineguali che dal termine A si possono produrre ad altri ed altri punti della linea opposta CD salviati parmi la vostra elezione e la ragione che ne adducete perfettissima tal che sin qui noi abbiamo che la prima dimensione si determina con una linea retta la seconda cioè la larghezza con un'altra linea pur retta e non solamente retta ma di più ad angoli retti sopra l'altra che determinò la lunghezza e così abbiamo definite le due dimensioni della superficie cioè la lunghezza e la larghezza ma quando voi aveste a determinare un'altezza come per esempio quanto sia alto questo palco dal pavimento che noi abbiamo sotto i piedi essendo che da qualsivoglia punto del palco si possono tirare infinite linee e curve e rette e tutte di diverse lunghezze ad infiniti punti del sottoposto pavimento di quale di cotali linee vi servireste voi sagredo io attaccherei un filo al palco e con un piombino che pendesse da quello lo lascerei liberamente distendere sino a che arrivasse prossimo al pavimento e la lunghezza di tal filo essendo la retta e brevissima di quante linee si potessero dal medesimo punto tirare al pavimento direi che fosse la vera altezza di questa stanza salviati benissimo e quando dal punto notato nel pavimento da questo filo pendente posto il pavimento a livello e non inclinato voi faceste partire due altre linee rette una per la lunghezza e l'altra per la larghezza della superficie di esso pavimento che angoli conterrebbero elleno con esso filo sagredo conterrebbero sicuramente angoli retti cadendo esso filo a piombo ed essendo il pavimento ben piano e ben livellato salviati adunque se voi stabilirete alcun punto per capo e termine delle misure e da esso farete partire una linea retta come determinatrice della prima misura cioè della lunghezza bisognerà per necessità che quella che deve definire la larghezza si parta ad angolo retto sopra la prima e che quella che ha da notare l'altezza che è la terza dimensione partendo dal medesimo punto formi pur con le altre due angoli non obliqui ma retti e così dalle tre perpendicolari avrete come da tre linee une e certe e brevissime determinate le tre dimensioni a b lunghezza a c larghezza a d altezza e perché chiara cosa è che al medesimo punto non può concorrere altra linea che con quelle faccia angoli retti e le dimensioni delle sole linee rette che tra di loro fanno angoli retti devono essere determinate adunque le dimensioni non sono più che tre e chi ha le tre le ha tutte e chi le ha tutte è divisibile per tutti i versi e chi è tale è perfetto eccetera simplicio e chi lo dice che non si possano tirare altre linee e perché non possio far venire di sotto un'altra linea sino al punto A che sia a squadra con l'altre salviati voi non potete sicuramente ad un stesso punto far concorrere altro che tre linee rette sole che fra di loro costituiscano angoli retti sagredo sì perché quella che vuol dire il signor simplicio para me che sarebbe lì stessa di A prolungata in giù ed in questo modo si potrebbe tirarne altre due ma sarebbero le medesime prime tre non differenti in altro che dove ora si toccano solamente allora si segherebbero ma non apporterebbero nuove dimensioni simplicio io non dirò che questa vostra ragione non possa essere concludente ma dirò bene con Aristotile che nelle cose naturali non si deve sempre ricercare una necessità di dimostrazione matematica sagredo sì forse dove non la si può avere ma se qui ella ci è perché non la volete voi usare ma sarà bene non ispendere più parole in questo particolare perché io credo che il signor salviati ad Aristotile e da voi senza altre dimostrazioni avrebbe conceduto il mondo esser corpo ed esser perfetto e perfettissimo come opera massima di Dio salviati così è veramente però lasciata la general contemplazione del tutto venghiamo alla considerazione delle parti le quali Aristotile nella prima divisione fa due e tra di loro diversissime ed in certo modo contrarie dico la celeste e la elementare quella ingenerabile incorruttibile inalterabile impassibile eccetera e questa è esposta ad una continua alterazione mutazione eccetera la qual differenza cava egli come dal suo principio originario dalla diversità dei moti locali e cammina con tal progresso uscendo per così dire dal mondo sensibile e ritirandosi al mondo ideale comincia architettonicamente a considerare che essendo la natura a principio di moto conviene che i corpi naturali siano mobili di moto locale dichiara poi i movimenti locali esser di tre generi cioè circolare retto e misto del retto e del circolare e li due i primi chiama semplici perché di tutte le linee la circolare e la retta sole sono semplici e di qui restringendosi al quanto di nuovo definisce dei movimenti semplici uno essere il circolare cioè quello che si fa intorno al mezzo ed il retto all'insù e dall'ingiù cioè all'insù quello che si parte dal mezzo all'ingiù quello che va verso il mezzo e di qui inferisce come necessariamente conviene che tutti i movimenti semplici si ristringano a queste tre spezie cioè al mezzo dal mezzo e intorno al mezzo il che risponde dice egli con certa bella proporzione a quel che si è detto di sopra del corpo che esso ancora è perfezionato in tre cose e così il suo moto stabiliti questi movimenti segue dicendo che essendo dei corpi naturali altri semplici ed altri composti di quelli e chiama corpi semplici quelli che hanno da natura principio di moto come il fuoco e la terra conviene che i movimenti semplici siano dei corpi semplici ed i misti dei composti in modo però che i composti seguano il moto della parte predominante nella composizione sagredo di grazia signor salviati fermatevi al quanto perché io mi sento in questo progresso pullular da tante bande tanti dubbi che mi sarà forza o dirgli se io vorrò sentir con attenzione le cose che voi soggiungerete o rimuover l'attenzione dalle cose da dirsi se vorrò conservare la memoria dei dubbi salviati io molto volentieri mi fermerò perché corro ancora io simil fortuna e sto di punto in punto per perdermi mentre mi conviene veleggiare tra scoglie ed onde così rotte che mi fanno come si dice perdere la bussola però prima che far maggior cumulo proponete le vostre difficoltà fine della giornata prima parte prima registrazione di Vito Marangelli Mola di Bari giornata prima parte seconda di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox punto org registrazione di Emanuela dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata prima parte seconda salviati io molto volentieri mi fermerò perché corro ancora io simil fortuna e sto di punto in punto per perdermi mentre mi conviene veleggiare tra scoglie e onde così rotte che mi fanno come si dice perder la bussola però prima che far maggior cumulo proponete le vostre difficoltà sagredo voi insieme con Aristotile da principio mi separaste alquanto dal mondo sensibile per additarmi l'architettura con la quale egli doveva essere fabbricato e con mio gusto mi cominciaste a dire che il corpo naturale è per natura mobile essendo che si è definito altrove la natura esser principio di moto qui vi nacque un poco di dubbio e fu per qualche agione Aristotile non disse che dei corpi naturali alcuni sono mobili per natura e altri immobili avvenga che nella definizione viene detto la natura esser principio di moto e di quiete che se i corpi naturali hanno tutti i principi di movimento o non occorreva metterla quiete nella definizione della natura o non occorreva indurre tal definizione in questo luogo quanto poi al dichiararmi quali egli intende essere i movimenti semplici e come egli determina dagli spazi chiamando semplici quelli che si fanno per linee semplici che tali sono la circolare e la retta solamente lo ricevo chietamente né mi curo di sottilizzarli in distanza della elica intorno al cilindro che per essere in ogni sua parte simile a se stessa par che si potesse annoverare tra le linee semplici ma mi risento bene alquanto nel sentirlo ristringere mentre par che con altre parole voglia replicare le medesime definizioni a chiamare quello movimento intorno al mezzo e questo sursum et deorsum cioè in su e in giù li quali termini non si usano fuori del mondo fabbricato ma lo suppongono non pur fabbricato ma di già abitato da noi che se il moto retto è semplice per la semplicità della linea retta e se il moto semplice è naturale sia pure egli fatto per qualsivoglia verso dico in su in giù innanzi indietro a destra e a sinistra e se altra differenza si può immaginare purché sia retto dovrà convenire a qualche corpo naturale semplice o se no la supposizione d'aristotile è manchevole vedesi inoltre che aristotile accenna un solo essere al mondo il moto circolare e in conseguenza un solo centro al quale solo si riferiscano i movimenti retti in su e in giù tutti indizi che egli amira di cambiarci le carte in mano e di volere accomodare l'architettura alla fabbrica e non costruire la fabbrica conforme ai percetti dell'architettura che se io dirò che nell'università della natura ci possono essere mille movimenti circolari e in conseguenza mille centri vi saranno ancora mille moti in su e in giù inoltre e ipone come è detto moti semplici e moto misto chiamando semplici il circolare e il retto e misto il composto di questi dei corpi naturali chiama altri semplici cioè quelli che hanno principio naturale al moto semplice e altri composti e i moti semplici li attribuisce a corpi semplici e a composti il composto ma per moto composto e non intende più il misto diretto e circolare che può essere al mondo ma introduce un moto misto tanto impossibile quanto è impossibile a mescolare movimenti opposti fatti nella medesima linea retta sì che da essi ne nasca un moto che sia parte in su e parte in giù e per moderare una tanta sconvenevolezza impossibilità si riduce a dire che tali corpi misti si muovono secondo la parte semplice predominante che finalmente necessita altrui a dire che anche il moto fatto per la medesima linea retta è alle volte semplice e talora anche composto sì che la semplicità del moto non si attende più dalla semplicità della linea solamente nota tu Aristotile determini i moti semplici esser quelli che si fanno per linee semplici la retta e la circolare ora se la semplicità si deve attendere dalla semplicità della linea il moto per una retta che passi per il centro sarà semplice e come tale potrà essere naturale di qualche corpo semplice e tale ancora sarà quello che traversi il cerchio senza passare per il centro tuttavia poi tu dirai che il moto per la medesima retta sino al centro sarà contrario al conseguente per la medesima retta oltre al centro e non vorrai più che il medesimo moto che tu chiamavi semplice merced all'esser fatto per un'istessa retta semplice convenga al medesimo corpo semplice e vorrai che nella stessa retta semplice siano moti contrari per convenirsi il moto semplice al corpo semplice bisogna che sia un moto la cui semplicità si attenda da altro che dalla semplicità della linea perché così il moto al centro non sarebbe proprio naturale dei gravi più che il moto dal centro fine della nota semplicio oh non vi par è la differenza bastevole se il movimento semplice assoluto sarà più veloce assai di quello che viene dal predominio e quanto viene più velocemente all'ingiù un pezzo di terra pura che un pezzuol di legno sagredo bene signor semplicio ma se la semplicità si ha da mutare per questo oltre che ci saranno centomila moti misti voi non mi saprete determinare il semplice anzi di più se la maggiore e minor velocità possono alterare la semplicità del moto nessun corpo semplice si muoverà mai di moto semplice avvenga che in tutti i moti retti naturali la velocità si va sempre augmentando e in conseguenza sempre mutando la semplicità la quale per essere semplicità conviene che sia immutabile e quel che più importa voi graverete Aristotile d'una nuova nota come quello che nella definizione del moto composto non ha fatto menzione di tardità né di velocità la quale ora voi ponete per articolo necessario ed essenziale aggiungi che neanche potrete da cota regola tra frutto veruno impero che ci saranno dei misti e non pochi dei quali altri si muoveranno più lentamente e altri più velocemente del semplice come per esempio il piombo e il legno in comparazione della terra e però tra questi movimenti quale chiamerete voi il semplice e quale il composto Simplicio chiamerassi semplice quello che viene fatto dal corpo semplice e misto quel del corpo composto Sagredo benissimo veramente e che dite voi signor Simplicio poco fa volevi che il moto semplice e il composto mi insegnassero quali siano i corpi semplici e quali misti e ora volete che dai corpi semplici e dai misti io venga in cognizione di qualsiasi il moto semplice e quale il composto regola eccellente per non saper mai conoscerne i moti nei corpi oltre che già venite a dichiararvi come non vi basta più la maggior velocità ma ricercate una terza condizione per definire il movimento semplice per il quale Aristotele si contentò d'una sola cioè della semplicità dello spazio ma ora secondo voi il moto semplice sarà quello che viene fatto sopra una linea semplice con certa determinata velocità da un corpo mobile semplice or sia come a voi piace e torniamo ad Aristotele il quale mi definì il moto misto esser quello che si compone del retto e del circolare ma non mi trovò poi corpo alcuno che fusse naturalmente mobile di tal moto salviati torno dunque ad Aristotile il quale avendo molto bene e metodicamente cominciato il suo discorso ma avendo più la mira di andare a terminare e colpire in uno scopo prima nella mente sua stabilittosi che dove direttamente il progresso lo conduceva interrompendo il filo ci esce traversalmente a portar come cosa nota e manifesta che quanto ai moti retti in su e in giù questi naturalmente convengono al fuoco e alla terra e che però è necessario che oltre a questi corpi che sono appresso di noi ne sia un altro in natura al quale convenga il movimento circolare il quale sia ancora tanto più eccellente quanto il moto circolare è più perfetto del moto retto quanto poi quello sia più perfetto di questo lo determina dalla perfezione della linea circolare sopra la retta chiamando quella perfetta e imperfetta questa imperfetta perché se è infinita manca di fine e di termine se è finita fuori di lei ci è alcuna cosa dove ella si può prolungare questa è la prima pietra base e fondamento di tutta la fabbrica del mondo aristotelico sopra la quale si appoggiano tutte le altre proprietà di non grave né leggero di ingenerabile incorruttibile ed esente da ogni mutazione fuori della locale eccetera e tutte queste passioni afferma egli esser proprie del corpo semplice e mobile di moto circolare e le condizioni contrarie di gravità leggerezza corruttibilità eccetera le assegna a corpi mobili naturalmente di movimenti retti la onde qualunque volta nello stabilito sin qui si scuopra mancamento si potrà ragionevolmente dubitar di tutto il resto che sopra gli viene costrutto io non nego che questo che sin qui aristotel ha introdotto con discorso generale dipendente da principi universali e primi non venga poi nel progresso riconfermato con ragioni particolari e con esperienze le quali tutte è necessario che vengano distintamente considerate e ponderate ma già che nel detto sin qui si rappresentano molte e non piccole difficoltà eppur converrebbe che i primi principi e fondamenti fossero sicuri fermi e stabili a ciò che più risolutamente si potesse sopra di quelli fabbricare non sarà forse se non ben fatto prima che si accresca il cumulo dei dubbi vedere se per avventura sì come io stimo incamminandoci per altra strada ci indirizzassimo a più diritto e sicuro cammino e con precetti d'architettura meglio considerati potessimo stabilire i primi fondamenti però sospendendo per ora il progresso d'aristotile il quale a suo tempo ripiglieremo e partitamente esamineremo dico che delle cose da esso dette sin qui convengo seco e ammetto che il mondo sia corpo dotato di tutte le dimensioni è però perfettissimo e aggiungo che come tale ei sia necessariamente ordinatissimo cioè di parti con somme perfettissimo ordine tra di loro disposte il quale assunto non credo che sia per essere negato né da voi né da altri semplicio e chi volete voi che lo neghi la prima cosa egli ed aristotile stesso e poi la sua denominazione non par che sia presa d'altronde che dall'ordine che egli perfettamente contiene salviati stabilito dunque con tal principio si può immediatamente concludere che se i corpi integrali del mondo devono essere di loro natura mobili è impossibile che i movimenti loro siano retti o altri che circolari e la ragione è assai facile e manifesta impero che quello che si muove di motoretto muta luogo e continuando di muoversi si va più e più sempre allontanando dal termine onde i si partì e da tutti i luoghi per i quali successivamente ei va passando e se tal moto naturalmente se gli conviene adunque egli da principio non era nel luogo suo naturale e però non erano le parti del mondo con ordine perfetto disposte ma noi suppunghiamo quelle essere perfettamente ordinate adunque come tali è impossibile che abbiano da natura di mutare luogo e in conseguenza di muoversi di motoretto inoltre essendo il motoretto di sua natura infinito perché infinita e indeterminata è la linea retta è impossibile che mobile alcuno abbia da natura principio di muoversi per linea retta cioè verso dove è impossibile di arrivare non vi essendo termine prefinito e la natura come ben dice Aristotile medesimo non intraprende a fare quello che non può essere fatto ne intraprende a muovere dove è impossibile pervenire e seppur alcuno dicesse che sebbene la linea retta in conseguenza il moto per essa è produttibile in infinito cioè interminato tuttavia però la natura per così dire arbitrariamente gli ha assegnati alcuni termini e dato naturali istinti a suo corpi naturali di muoversi a quelli io risponderò che ciò per avventura si potrebbe favoreggiare che fosse avvenuto nel primo caos dove confusamente e inordinatamente andavano in distinte materie vagando per le quali ordinare la natura molto acconciamente si fosse servita dei movimenti retti i quali sì come muovendo i corpi ben costituiti gli disordinano così sono acconci a ben ordinare i bravamente disposti ma dopo l'ottima distribuzione e collocazione è impossibile che in loro resti naturale inclinazione di più muoversi di motoretto dal quale ora solo ne seguirebbe il rimuoversi dal proprio natural luogo cioè il disordinarsi possiamo dunque dire il motoretto servire a condurre le materie per fabbricare l'opera ma fabbricata che l'è o restare immobile o se mobile muoversi solo circolarmente se però noi non volessimo dire con Platone che anche i corpi mondani dopo l'essere stati fabbricati e del tutto stabiliti furono per alcun tempo dal suo fattore mossi di motoretto ma che dopo l'essere pervenuti in certi e determinati luoghi furono rivolti a uno a uno in giro passando dal motoretto al circolare dove poi si sono mantenuti e tuttavia si conservano pensiero altissimo e degno ben di Platone intorno al quale mi sovviene aver sentito discorrere il nostro comune amico accademico linceo e se ben mi ricorda il discorso futale ogni corpo costituito per qualsivoglia causa in istato di quiete ma che per sua natura sia mobile posto in libertà si muoverà tutta volta però che gli abbia da natura inclinazione a qualche luogo particolare che quando è fusse indifferente a tutti resterebbe nella sua quiete non avendo maggior ragione di muoversi a questo che a quello dall'aver questa inclinazione ne nasce necessariamente che egli nel suo moto si andrà continuamente accelerando e cominciando con moto tardissimo non acquisterà grado alcuno di velocità che prima e non sia passato per tutti i gradi di velocità minori o vogliamo dire di tardità maggiori perché partendosi dallo stato della quiete che è il grado di infinita tardità di moto non ci è ragione nessuna per la quale ed ebbe entrare in un tal determinato grado di velocità prima che entrare in un minore e in un altro ancor minore prima che in quello anzi par molto ben ragionevole passar prima per i gradi più vicini a quello d'onde si parte e da quelli ai più remoti ma il grado di dove il mobile piglia a muoversi è quello della somma tardità cioè della quiete ora questa accelerazione di moto non si farà se non quando il mobile nel muoversi acquista né altro è l'acquisto suo se non l'avvicinarsi al luogo desiderato cioè dove l'inclinazione naturale lo tira e là si condurrà egli per la più breve cioè per linea retta possiamo dunque ragionevolmente dire che la natura per conferire in un mobile prima costituito in quiete una determinata velocità si serve del farlo muover per alcun tempo e per qualche spazio di moto retto stante questo discorso figuriamoci aver il dio creato il corpo verbi grazia di giove al quale abbia determinato di voler conferire una tal velocità la quale egli poi debba conservare perpetuamente uniforme potremo con platone dire che gli desse di muoversi da principio di motoretto e accelerato e che poi giunto a quel tal grado di velocità convertisse il suo motoretto in circolare del quale poi la velocità naturalmente conviene essere uniforme sagredo io sento con gran gusto questo discorso e maggiore credo che sarà dopo che mi abbiate rimossa una difficoltà la qual è che io non resto ben capace come di necessità convenga che un mobile partendosi dalla quiete ed entrando in un moto al quale egli abbia inclinazione naturale passi per tutti i gradi di tardità precedenti che sono tra qualsivoglia segnato grado di velocità e lo stato di quiete li quali gradi sono infiniti sì che non abbia potuto la natura contribuire al corpo di giove subito creato il suo moto circolare con tanta velocità salviati io non ho detto né ardirei di dire che alla natura e a dio fosse impossibile conferire quella velocità che voi dite immediatamente ma dirò bene che de facto la natura non lo fa tal che il farlo verrebbe ad essere operazione fuora del corso naturale e però miracolosa nota muovasi con qualsivoglia velocità qualsi sia ponderosissimo mobile e incontri qualsivoglia corpo costituito inquiete benché debolissimo e di minima resistenza quel mobile incontrandolo giammai non gli conferirà immediatamente la sua velocità segno evidente di che ne è il sentirsi il suono della percossa il quale non si sentirebbe o per dir meglio non sarebbe se il corpo che stava inquiete ricevesse nell'urto del mobile la medesima velocità di quello fine della nota segredo adunque voi credete che un sasso partendosi dalla quiete ed entrando nel suo moto naturale verso il centro della terra passi per tutti i gradi di tardità inferiori a qualsivoglia grado di velocità salviati credolo anzi ne sono sicuro e sicuro con tanta certezza che posso renderne sicuro voi ancora sagredo quando in tutto il ragionamento d'oggi io non guadagnassi altro che una tal cognizione me lo riputerei per un gran capitale salviati per quanto mi par di comprendere dal vostro ragionare gran parte della vostra difficoltà consiste in quel dover passare in un tempo ed anco brevissimo per quelli infiniti gradi di tardità precedenti a qualsiasi velocità acquistata dal mobile in quel tal tempo e però prima che venire ad altro cercherò di rimuovervi questo scrupolo che doverà essere agevolcosa mentre io vi replico che il mobile passa per i detti gradi ma il passaggio è fatto senza dimorare in veruno talché non ricercando il passaggio più di un solo istante di tempo e contenendo qualsivoglia piccol tempo infiniti istanti non ce ne mancheranno per assegnare il suo a ciascheduno degli infiniti gradi di tardità e sia il tempo quanto si voglia breve sagredo sin qui resto capace tuttavia mi par gran cosa che quella palla d'artiglieria che tal mi figuro essere il mobile cadente che pur si vede scendere con tanto precipizio che in manco di dieci battute di polso passerà più di du-gento braccio di altezza si sia nel suo moto trovata congiunta con sì picciol grado di velocità che se avesse continuato di muoversi con quello senza più accelerarsi non l'avrebbe passata in tutto un giorno salviati dite pure in tutto un anno né in dieci né in mille siccome io mi ingegnerò di persuadervi ed anco forse senza vostra contraddizione ad alcune assai semplici interrogazioni che io vi farò però ditemi se voi avete difficoltà nessuna in concedere che quella palla nello scendere vada sempre acquistando maggior impeto e velocità sagredo sono di questo sicurissimo salviati e se io dirò che l'impeto acquistato in qualsivoglia luogo del suo moto sia tanto che basterebbe ricondurla a quell'altezza adonde si partì me lo concedereste sagredo concedereilo senza contraddizione tutta volta che la potesse applicare senza essere impedita tutto il suo impeto in quella sola operazione di ricondurse medesima o altro uguale a sé a quella medesima altezza come sarebbe se la terra fosse perforata per il centro e che lontano da esso cento o mille braccia si lasciasse cadere la palla credo sicuramente che la passerebbe oltre al centro salendo altrettanto quanto scese e così mi mostra l'esperienza a cadere d'un peso pendente da una corda che rimosso dal perpendicolo che il suo stato di quiete è lasciato poi in libertà cala verso detto perpendicolo e lo trapassa per altrettanto spazio o solamente tanto meno quanto il contrasto dell'aria e della corda o di altri accidenti l'impediscono mostrami di stesso l'acqua che scendendo per un sifone rimonta altrettanto quanto fu la sua scesa salviati voi perfettamente discorrete e per chi io so che non avete dubbio in concedere che l'acquisto dell'impedito sia mediante l'allontanamento dal termine dove il mobile si parte e l'avvicinamento al centro dove tende il suo moto arete voi difficoltà nel concedere che due mobili uguali ancorché scendenti per diverse linee senza aver uno impedimento faccia un acquisto di impeti uguali tutta volta che l'avvicinamento al centro sia uguale sagredo non intendo bene il quesito salviati mi dichiarerò meglio consegnarne un poco di figura però noterò questa linea a b parallela all'orizzonte e sopra il punto b trezzerò la perpendicolare b c e poi congiugnerò questa inclinata c a intendendo ora la linea c a essere un piano inclinato e squisitamente pulito e duro sopra il quale scenda una palla perfettamente rotonda e di materia durissima ed una simile scenderne liberamente per la perpendicolare c b domando se voi concedereste che l'impeto dell'ascendente per il piano c a giunta che la fusse al termine a potesse essere uguale all'impeto acquistato dall'altra nel punto b dopo l'ascesa per la perpendicolare c b sagredo io credo risolutamente di sì perché in effetto a men due si sono avvicinate al centro ugualmente e per quello che pur ora ho conceduto gli impeti loro sarebbero ugualmente bastanti a ricondur loro stesse alla medesima altezza salviati ditemi ora quello che voi credete che facesse quella medesima palla posata sul piano orizzontale a b fine della giornata prima parte seconda registrazione di Emanuela giornata prima parte terza di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox .org registrazione di Emanuela dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata prima parte terza SAGREDO starebbe ferma non avendo esso piano veruna inclinazione SALVIATI ma sul piano inclinato CA scenderebbe ma con moto più lento che per la perpendicolare CB SAGREDO sono stato per rispondere risolutamente di sì parendomi pur necessario che il moto per la perpendicolare CB debba essere più veloce che per l'inclinata CA tuttavia se questo è come potrà il cadente per l'inclinata giunto al punto A aver tanto impeto cioè tal grado di velocità quale e quanto il cadente per la perpendicolare avrà nel punto B queste due proposizioni par che si contraddicano SALVIATI adunque molto più vi parrà falso se io dirò che assolutamente la velocità dei cadenti per la perpendicolare e per l'inclinata siano uguali e pur questa è proposizione verissima sì come vera è questa ancora che dice che il cadente si muove più velocemente per la perpendicolare che per la inclinata SAGREDO queste al mio orecchio suonano proposizioni contraddittorie e al vostro signor Simplicio Simplicio ed a me parli stesso SALVIATI credo che voi mi burliate fingendo di non capire quel che voi intendete meglio di me però ditemi signor Simplicio quando voi vi immaginate un mobile essere più veloci di un altro che concetto vi figurate voi nella mente Simplicio figurami l'un passare nell'istesso tempo maggiore spazio dell'altro ovvero passare spazio uguale ma in minor tempo SALVIATI benissimo e per mobili ugualmente veloci che concetto vi figurate Simplicio figurami che passino spazi uguali in tempi uguali salviati e non altro concetto che questo Simplicio questo mi par che sia la propria definizione de moti uguali sagredo aggiunghiamoci pure quest'altra di più cioè chiamarsi ancora le velocità esser uguali quando gli spazi passati hanno la medesima proporzione che i tempi nei quali sono passati e sarà definizione più universale salviati così è perché comprende gli spazi uguali passati in tempi uguali e gli ineguali ancora passati in tempi ineguali ma proporzionali a essi spazi ripigliate ora la medesima figura ed applicandovi il concetto che vi figurate del moto più veloce ditemi perché vi pare che la velocità del cadente per cb sia maggiore della velocità dello scendente per la ca semplicio parmi perché nel tempo che il cadente passerà tutta la cb lo scendente passerà nella ca una parte minore della cb salviati così sta e così si verifica il mobile muoversi più velocemente per la perpendicolare che per l'inclinata considerate ora se in questa medesima figura si potesse in qualche modo verificare l'altro concetto e trovare che i mobili fussero ugualmente veloci in amendue le linee ca cb semplicio io non ci so veder cosa tale anzi pur mi par contraddizione al già detto salviati e voi che dite signor sagredo io non vorrei già insegnarvi quel che voi medesimi sapete e quello di che pur ora mi avete arrecato la definizione sagredo la definizione che io ho adotta è stata che i mobili si possono chiamare ugualmente veloci quando gli spazi passati da loro hanno la medesima proporzione che i tempi nei quali gli passano però a voler che la definizione avesse luogo nel presente caso bisognerebbe che il tempo dell'ascesa per ca al tempo della caduta per cb avesse la medesima proporzione che la stessa linea c a alla c b ma ciò non so io intender che possa essere tutta volta che il moto per la c b sia più veloce che per la c a salviati eppur è forza che voi li intendiate ditemi un poco questi moti non si vaneglino continuamente accelerando sagredo vanno si accelerando ma più nella perpendicolare che nell'inclinata salviati ma questa accelerazione nella perpendicolare è ella però tale in comparazione di quella dell'inclinata che prese due parti uguali in qualsivoglia luogo di esse linee perpendicolare e inclinata il moto nella parte della perpendicolare sia sempre più veloce che nella parte dell'inclinata sagredo signor no anzi potrò io pigliare uno spazio nell'inclinata nel quale la velocità sia maggiore assai che in altrettanto spazio preso nella perpendicolare e questo sarà se lo spazio nella perpendicolare sarà preso vicino al termine c e nell'inclinata molto lontano salviati vedete dunque che la proposizione che dice il moto per la perpendicolare è più veloce che per l'inclinata non si verifica universalmente se non dei moti che cominciano dal primo termine cioè dalla quiete senza la qual condizione la proposizione sarebbe tanto difettosa che anche la sua contraddittoria potrebbe essere vera cioè che il moto nell'inclinata è più veloce che nella perpendicolare perché è vero che nell'inclinata possiamo pigliare uno spazio passato dal mobile in manco tempo che altrettanto spazio passato nella perpendicolare ora perché il moto nell'inclinata è in alcuni luoghi più veloce e in altri meno che nella perpendicolare adunque in alcuni luoghi dell'inclinata il tempo del moto del mobile al tempo del moto del mobile per alcuni luoghi della perpendicolare avrà maggior proporzione che lo spazio passato allo spazio passato ed in altri luoghi la proporzione del tempo al tempo sarà minore di quella dello spazio allo spazio come per esempio partendosi due mobili dalla quiete cioè dal punto c della seguente figura 5 uno per la perpendicolare cb e l'altro per l'inclinata ca nel tempo che nella perpendicolare il mobile avrà passata tutta la cb l'altro avrà passata la ct minore e però il tempo per ct al tempo per cb che gli è è uguale harà maggior proporzione che la linea tc alla cb essendo che la medesima alla minore ha maggior proporzione che alla maggiore e per l'opposito quando nella ca prolungata quanto bisognasse si prendesse una parte è uguale alla cb ma passata in tempo più breve il tempo nell'inclinata al tempo nella perpendicolare avrebbe proporzione minore che lo spazio allo spazio se dunque nell'inclinata e nella perpendicolare possiamo intendere spazi e velocità tali che le proporzioni tra essi spazi siano e minori e maggiori delle proporzioni dei tempi possiamo ben ragionevolmente concedere che vi siano anche spazi per i quali i tempi dei movimenti ritengano la medesima proporzione che gli spazi sagredo già mi sentì elevato lo scrupolo maggiore e comprendo esser non solo possibile ma dirò necessario quello che mi pareva un contraddittorio ma non però intendo per ancora che uno di questi casi possibili o necessari sia questo del quale abbiamo bisogno di presente sicché vero sia che il tempo dell'ascesa per CA al tempo della caduta per CB abbia la medesima proporzione che la linea CA alla CB onde si possa senza contraddizione dire che le velocità per la inclinata CA e per la perpendicolare CB siano uguali salviati contentatevi per ora che io abbia rimossa l'incredulità ma la scienza aspettatela un'altra volta cioè quando vedrete le cose dimostrate dal nostro accademico intorno ai moti locali dove troverete dimostrato che nel tempo che il mobile cade per tutta la CB l'altro scende per la CA sino al punto T nel quale cade la perpendicolare tiratavi dal punto B e per trovare dove il medesimo cadente per la perpendicolare si troverebbe quando l'altro arriva al punto A tirate da esso A la perpendicolare sopra la CA prolungando essa e la CB sino al concorso e quello sarà il punto cercato intanto vedete come è vero che il moto per la CB è più veloce che per l'inclinata CA ponendo il termine C per principio dei moti dei quali facciamo comparazione perché la linea CB è maggiore della CT e l'altra da C sino al concorso della perpendicolare tirata da A sopra la CA è maggiore della CA e però il moto per essa è più veloce che per la CA ma quando noi paragoniamo il moto fatto per tutta la CA non con tutto il moto fatto nel medesimo tempo per la perpendicolare prolungata ma col fatto in parte del tempo per la sola parte CB non repugna che il mobile per CA continuando di scendere oltre al T possa in tal tempo arrivare in A che qual proporzione si trova tra le linee CA CB tale sia tra essi tempi ora ripigliando il nostro primo proposito che era dimostrare come il mobile grave partendosi dalla quiete passa scendendo per tutti i gradi di tardità precedenti a qualsivoglia grado di velocità che è gli acquisti ripigliando la medesima figura ricordiamoci che eramo convenuti che il cadente per la perpendicolare CB e il descendente per l'inclinata CA nei termini BA si trovassero avere acquistati uguali gradi di velocità ora seguitando più avanti non credo che voi abbiate difficoltà veruna in concedere che sopra un altro piano meno elevato di AC qual sarebbe verbi grazia DA segue figura 6 il moto del descendente sarebbe ancora più tardo che nel piano CA tal che non è da dubitar punto che si possano notare piani tanto poco elevati sopra l'orizzonte AB che il mobile cioè la medesima palla in qualsivoglia lunghissimo tempo si condurrebbe al termine A già che per condurvisi per il piano BA non basta tempo infinito ed il moto si fa sempre più lento quanto la declività è minore bisogna dunque necessariamente confessare potersi sopra il termine B pigliare un punto tanto ad esso B vicino che tirando da esso al punto A un piano la palla non lo passasse neanche in un anno bisogna ora che voi sappiate che l'impeto cioè il grado di velocità che la palla si trova avere acquistato quando arriva al punto A è tale che quando ella continuasse di muoversi con questo medesimo grado uniformemente cioè senza accelerarsi o ritardarsi in altrettanto tempo in quanto è venuta per il piano inclinato passerebbe uno spazio lungo il doppio del piano inclinato cioè per esempio se la palla avesse passato il piano D A in un'ora continuando di muoversi uniformemente con quel grado di velocità che la si trova avere nel giugno e al termine A passerebbe in un'ora uno spazio doppio della lunghezza D A e perché come dicevamo i gradi di velocità acquistati nei punti B A dai mobili che si partono da qualsivoglia punto preso nella perpendicolare C B e che scendono l'uno per il piano inclinato e l'altro per essa perpendicolare sono sempre uguali Adunque il cadente per la perpendicolare può partirsi da un termine tanto vicino al B che il grado di velocità acquistato in B non fusse bastante conservandosi sempre lì stesso a condurre il mobile per uno spazio doppio della lunghezza del piano inclinato in un anno né in dieci né in cento Possiamo dunque concludere che se è vero che secondo il corso ordinario di natura un mobile rimossi tutti gli impedimenti esterni ed accidentari si muova sopra piani inclinati con maggiore e maggior tardità secondo che l'inclinazione sarà minore sì che finalmente la tardità si conduca a essere infinita che è quando si finisce l'inclinazione e si arriva al piano orizzontale e se è vero parimente che al grado di velocità acquistato in qualche punto del piano inclinato sia uguale quel grado di velocità che si trova avere il cadente per la perpendicolare nel punto segato da una parallela all'orizzonte che passa per quel punto del piano inclinato bisogna di necessità confessare che il cadente partendosi dalla quiete passa per tutti gli infiniti gradi di tardità e che in conseguenza per acquistare un determinato grado di velocità bisogna che si muova prima per linea retta descendendo per breve o lungo spazio secondo che la velocità da acquistarsi dovrà essere minore o maggiore e secondo che il piano sul quale si scende sarà poco o molto inclinato tal che può darsi un piano con si poca inclinazione che per acquistarvi quel tal grado di velocità bisognasse prima muoversi per lunghissimo spazio ed in lunghissimo tempo sì che nel piano orizzontale qualsiasi sia velocità non si acquisterà naturalmente mai avvenga che il mobile già mai non vi si muoverà ma il moto per la linea orizzontale che non è declive né elevata e moto circolare intorno al centro adunque il moto circolare non si acquisterà mai naturalmente senza il moto retto precedente ma bene acquistato che si sia si continuerà egli perpetuamente con velocità uniforme io potrei dichiararvi ed anche dimostrarvi con altri discorsi queste medesime verità ma non voglio interromper con sì grandi digressioni il principale nostro ragionamento e piuttosto ci ritornerò con altra occasione e massime che ora si è venuto in questo proposito non per servirsene per una dimostrazione necessaria ma per adornare un concetto platonico al quale voglio aggiungere un'altra particolare osservazione pur del nostro accademico che ha del mirabile figuriamoci tra i decreti del divino architetto essere stato pensiero di crear nel mondo questi globi che noi veggiamo continuamente muoversi in giro ed avere stabilito il centro delle loro conversioni ed in esso collocato il sole immobile ed aver poi fabbricati tutti i detti globi nel medesimo luogo e di lì data l'inclinazione di muoversi discendendo verso il centro sin che acquistassero quei gradi di velocità che pareva alla medesima mente divina li quali acquistati fussero volti in giro ciascheduno nel suo cerchio mantenendo la già concepita velocità si cerca in quale altezza e lontananza dal sole era il luogo dove primamente furono essi globi creati e se può essere che la creazione di tutti fosse stata nell'istesso luogo per far questa investigazione bisogna pigliare dai più periti astronomi le grandezze dei cerchi nei quali i pianeti si rivolgono e parimente i tempi delle loro rivoluzioni dalle quali due cognizioni si raccoglie quanto verbi grazia il moto di giove è più veloce del moto di saturno e trovato come in effetto è che giove si muove più velocemente conviene che sendosi partiti dalla medesima altezza giove si è sceso più che saturno siccome pure sappiamo essere veramente essendo l'orbe suo inferiore a quel di saturno ma venendo più avanti dalla proporzione che hanno le due velocità di giove di saturno e dalla distanza che è tra gli orbi loro e dalla proporzione dell'accelerazione del moto naturale si può ritrovare in quanta altezza e lontananza dal centro delle loro rivoluzioni fosse il luogo dove essi partirono ritrovato e stabilito questo si cerca se Marte scendendo di là sino al suo orbe si trova che la grandezza dell'orbe e la velocità del moto convengono con quello che dal calcolo ci viene dato ed il simile si fa della terra di venere e di mercurio dei quali le grandezze dei cerchi e le velocità dei moti s'accostano tanto prossimamente a quel che ne danno i computi che è cosa meravigliosa Sagredo Ho con estremo gusto sentito questo pensiero e se non ch'io credo che far quei calcoli precisamente sarebbe impresa lunga e lavoriosa e forse troppo difficile da essere compresa da me io ve ne vorrei fare istanza Salviati l'operazione è veramente lunga e difficile ed Anko non mi assicurerei di ritrovarla così prontamente però la riserberemo ad un'altra volta Simplicio Di grazia si è conceduto alla mia poca pratica nelle scienze matematiche dir liberamente come i vostri discorsi fondati sopra proporzioni maggiori o minori e sopra altri termini da me non intesi quanto bisognerebbe non mi hanno rimosso il dubbio o per meglio dire l'incredulità dell'essere necessario che quella gravissima palla di piombo di cento libri di peso lasciata cadere da alto partendosi dalla quiete passi per ogni altissimo grado di tardità mentre si vede in quattro battute di polso aver passato più di cento braccia di spazio effetto che mi rende totalmente incredibile quella in alcun momento essersi trovata in stato tale di tardità che continuandosi di muover con quella non avesse neanche in mille anni passato lo spazio di mezzo dito eppure se questo è vorrei esserne fatto capace sagredo il signor salviati come di profonda dottrina stima bene spesso che quei termini che a sé medesimo sono notissimi e familiari debbano parimente esser tali per gli altri ancora e però talvolta gli esce di mente che parlando con noi altri convien aiutare la nostra incapacità con discorsi manco reconditi e però io che non mi elevo tanto con sua licenza tenterò di rimuovere almeno in parte il signor Simplicio dalla sua incredulità con mezzo sensato e stando pure sul caso della palla d'artiglieria ditemi in grazia signor Simplicio non concederete voi che nel far passaggio da uno stato a un altro sia naturalmente più facile e pronto il passare ad uno più propinquo che ad altro più remoto Simplicio questo lo intendo e lo concedo e non ho dubbio che verbi grazia un ferro infuocato nel raffreddarsi prima passerà dai dieci gradi di caldo ai nove che dai dieci ai sei sagredo benissimo ditemi appresso quella palla d'artiglieria cacciata in su a perpendicolo dalla violenza del fuoco non si va a ella continuamente ritardando nel suo moto sicché finalmente si conduce al termine altissimo che quello della quiete e nel diminuirsi la velocità o volete dire nel crescersi la tardità non è egli ragionevole che si faccia più presto tra passo dai dieci gradi agli undici che dai dieci ai dodici e dai mille ai mille uno che ai mille due ed insomma da qualsivoglia grado ad un suo più vicino che ad un più lontano semplicio così è ragionevole sagredo ma qual grado di tardità è sì lontano da qualsiasi che a moto che più lontano non è sia lo stato della quiete che di tardità infinita per lo che non è da mettere dubbio che la detta palla prima che si conduca al termine della quiete trapassi per tutti i gradi di tardità maggiori e maggiori e per conseguenza per quella ancora che in mille anni non trapasserebbe lo spazio di un dito ed essendo questo siccome è verissimo non dovrà signor semplicio parervi improbabile che nel ritornare in giù la medesima palla partendosi dalla quiete recuperi la velocità del moto con ripassare per quei medesimi gradi di tardità per i quali ella passò nell'andare in su ma debba lasciando gli altri gradi di tardità minori e più vicini allo stato di quiete passar di salto ad uno più remoto semplicio io resto per questo discorso più capace assai che per quelle sottigliezze matematiche e però potrà il signor Salviati ripigliare e continuare il suo ragionamento Salviati ritorneremo dunque al nostro primo proposito ripigliando là di dove digredimmo che se ben mi ricorda eramo sul determinare come il moto per linea retta non può essere di uso alcuno nelle parti del mondo bene ordinate e seguitavamo di dire che non così avviene dei movimenti circolari dei quali quello che è fatto dal mobile in sé stesso già lo ritiene sempre nel medesimo luogo e quello che conduce il mobile per la circonferenza ad un cerchio intorno al suo cerchio stabile e fisso non mette in disordine né sé né i circonvicini in perocché tal moto primieramente è finito e terminato anzi non pur finito e terminato ma non è punto alcuno nella circonferenza che non sia primo ed ultimo termine della circolazione e continuandosi nella circonferenza assegnatali lascia tutto il resto dentro e fuori di quella libero per i bisogni d'altri senza impedirgli o disordinarli già mai questo essendo un movimento che fa che il mobile sempre si parte sempre arriva al termine può primieramente esso solo essere uniforme in perocché l'accelerazione del moto si fa nel mobile quando e va verso il termine dove egli ha inclinazione ed il ritardamento accade per la repugnanza che gli ha di partirsi e allontanarsi dal medesimo termine e perché nel moto circolare il mobile sempre si parte da termine naturale e sempre si muove verso il medesimo adunque in lui la repugnanza e l'inclinazione sono sempre di uguali forze dalla quale egualità ne risulta una non ritardata né accelerata velocità cioè l'uniformità del moto da questa uniformità e dall'essere terminato ne può seguire la continuazione perpetua con reiterare sempre le circolazioni la quale in una linea interminata ed in un moto continuamente ritardato o accelerato non si può naturalmente ritrovare e dico naturalmente perché il motoretto che si ritarda è il violento che non può essere perpetuo e l'accelerato arriva necessariamente al termine se vi è e se non vi è non vi può neanche essere moto perché la natura non muove dove è impossibile ad arrivare concludo pertanto il solo movimento circolare poter naturalmente convenire ai corpi naturali integranti l'universo e costituiti nell'ottima disposizione è il retto al più che si possa dire essere assegnato dalla natura ai suoi corpi e parti di essi qualunque volta si ritrovassero fuori dei luoghi loro costituite in prava disposizione e però bisognose di ridursi per la più breve allo stato naturale di qui mi pare che assai ragionevolmente si possa concludere che per mantenimento dell'ordine perfetto tra le parti del mondo bisogna dire che le mobili sieno mobili solo circolarmente e se alcune ve ne sono che circolarmente non si muovano queste di necessità sieno immobili non essendo altro salvo che la quiete e il moto circolare atto alla conservazione dell'ordine ed io non poco mi maraviglio che Aristotile il quale pure stimò che il globo terrestre fosse collocato nel centro del mondo e che quivi immobilmente si rimanesse non dicesse che dei corpi naturali altri erano mobili per natura e altri immobili e massimi avendo già definito la natura esser principio di moto e di quiete semplicio semplicio Aristotile come quello che non si prometteva del suo ingegno ancorché perspicacissimo più di quello che si conviene stimò nel suo filosofare che le sensate esperienze si dovessero anteporre a qualsivoglia discorso fabbricato da ingegno umano e disse che quelli che avessero negato il senso meritavano di essere castigati con levargli quel tal senso ora chi è quello così cieco che non vegga le parti della terra e dell'acqua muoversi come gravi naturalmente all'ingiù cioè verso il centro dell'universo assegnato dall'istessa natura per fine e termine del motoretto deorsum e non vegga parimente muoversi il fuoco e l'aria all'insù rettamente verso il concavo dell'orbe lunare come a termine naturale del motosursum e vedendosi tanto manifestamente questo ed essendo noi sicuri che eadem est ratio tozius et partium come non si deve egli dire esser proposizione vera e manifesta che il movimento naturale della terra è il retto ad medium e del fuoco il retto a medio fine della giornata prima parte terza registrazione di Emanuela giornata prima parte quarta di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito ilibrivox.org registrazione di Marzia marianera dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata prima parte quarta salviati in virtù di questo vostro discorso al più al più che voi poteste pretendere che vi fosse conceduto e che siccome le parti della terra rimosse dal suo tutto cioè dal luogo dove esse naturalmente dimorano cioè finalmente ridotte in prava e disordinata disposizione tornano al luogo loro spontaneamente e però naturalmente con movimento retto così conceduto che edem sitratio totius et partium si potrebbe inferire che rimosso per violenza il globo terrestre dal luogo assegnatogli dalla natura egli vi ritornerebbe per linea retta questo come ho detto è quanto al più vi si potesse concedere fatta vi ancora ogni sorte d'agevolezza ma chi volesse rivedere con rigore queste partite prima vi negherebbe che le parti della terra nel ritornare al suo tutto si muovessero per linea retta e non per circolare o altra mista e voi sicuramente avereste che fare assai a dimostrare il contrario come apertamente intenderete nelle risposte alle ragioni ed esperienze particolari adotte da Ptolemeo e da Aristotila secondariamente se altri vi dicesse che le parti della terra si muovono non per andare al centro del mondo ma per andare a riunirsi col suo tutto e che perciò hanno naturale inclinazione verso il centro del globo terrestre per la quale inclinazione conspirano a formarlo e conservarlo qual altro tutto e qual altro centro trovereste voi al mondo al quale l'intero globo terreno essendone rimosso cercasse di ritornare onde la ragione del tutto fosse simile a quella delle parti aggiungete che né Aristotile né voi proverete già mai che la terra de facto sia nel centro dell'universo ma se si può assegnare centro alcuno all'universo troveremo in quello esser più presto collocato il sole come nel progresso intenderete ora siccome dal cospirare concordamente tutte le parti della terra a formare il suo tutto ne segue che esse da tutte le parti con uguale inclinazione vi concorrono e per unirsi al più che sia possibile insieme sfericamente vi si adattano perché non dobbiamo noi credere che la luna il sole e gli altri corpi mondani siano essi ancora di figura rotonda non per altro che per un concorde instinto e concorso naturale di tutte le loro parti componenti delle quali se talora alcuna per qualche violenza fosse dal suo tutto separata non è egli ragionevole il credere che spontaneamente e per naturale instinto ella vi ritornerebbe ed in questo modo concludere che il motoretto competa ugualmente a tutti i corpi mondani simplicio e non è dubbio alcuno che come voi volete negare non solamente i principi delle scienze ma esperienze manifeste e i sensi stessi voi non potrete già mai esser convinto o rimosso d'aver un'opinione concetta ed io piuttosto mi quieterò perché contra negante es principia non est disputandum che persuaso in virtù delle vostre ragioni e stando sulle cose da voi pur ora pronunziate già che mettete in dubbio in sino nel moto dei gravi se si è retto o no come potete voi mai ragionevolmente negare che le parti della terra cioè che le materie gravissime descendano verso il centro con moto retto se lasciate da una altissima torre le cui pareti sono dirittissime e fabbricate a piombo esse gli vengono per così dire lambendo e percotendo in terra in quel medesimo punto a capello dove verrebbe a terminare il piombo che pendesse da uno spago legato in alto ivi per l'appunto onde si lasciò cadere il sasso non è questo argomento più che evidente cotalmoto esse a retto e verso il centro nel secondo luogo voi revocate in dubbio se le parti della terra si muovono per andare come afferma aristotile al centro del mondo quasi che egli non l'abbia concludentemente dimostrato per i movimenti contrari mentre in cotalguisa si argomenta il movimento dei gravi è contrario a quello dei leggeri ma il moto dei leggeri si vede essere direttamente all'insù cioè verso la circonferenza del mondo adunque il moto dei gravi è rettamente verso il centro del mondo ed accade per accidents che si è verso il centro della terra poiché questo si abbatte ad essere unito con quello il cercare poi quello che facesse una parte del globo lunare o del sole quando fosse separata dal suo tutto è vanità perché si cerca quello che seguirebbe in conseguenza ad un impossibile atteso che come pur dimostra Aristotile i corpi celesti sono impassibili impenetrabili infrangibili sì che non si può dare il caso e quando pure esidesse e che la parte separata ritornasse al suo tutto ella non vi tornerebbe come grave o leggera che pur il medesimo Aristotile prova che i corpi celesti non sono né gravi né leggeri salviati quanto ragionevolmente io dubiti se i gravi si muovano per linea retta e perpendicolare lo sentirete come pur ora ho detto quando esaminerò questo argomento particolare circa il secondo punto io mi meraviglio che voi abbiate bisogno che il paralogismo d'Aristotile vi sia scoperto essendo per se stesso tanto manifesto e che voi non vi accorgiate che Aristotile suppone quello che è in questione però notate simplicio di grazia signor salviati parlate con più rispetto d'Aristotile e da chi potrete voi persuader Gianmai che quello che è stato il primo unico ed ammirabile esplicatore della forma sillogistica della dimostrazione degli elenchi dei modi di conoscere i sofismi i paralogismi e insomma di tutta la logica equivocasse poi sì gravemente in suppor per noto quello che è in questione signori bisogna prima intenderlo perfettamente e poi provarsi a volerlo impugnare salviati signor simplicio noi siamo qui tra noi discorrendo familiarmente per investigare qualche verità io non avrò mai per male che voi mi palesiate i miei errori e quando io non avrò conseguita la mente d'Aristotile riprendetemi pur liberamente che io ve ne ero buon grado concedetemi intanto che io esponga le mie difficoltà e che io risponda ancora alcuna cosa alle vostre ultime parole dicendovi che la logica come benissimo sapete è l'organo col quale si filosofa ma siccome può essere che un artefice sia eccellente in fabbricare organi ma indotto nel sapergli suonare così può essere un gran logico ma poco esperto nel sapersi servire della logica siccome ci sono molti che sanno per lo senno a mente tutta la poetica e sono poi infelici nel compor quattro versi solamente altri posseggono tutti i precetti del vinci e non saprebbero poi dipingere uno sgabello il sonare l'organo non si impara da quelli che sanno far organi ma da chi gli sa sonare la poesia si impara dalla continua lettura dei poeti il dipignere si apprende col continuo disegnare il dipignere il dimostrare della lettura dei libri pieni di dimostrazioni che sono i matematici soli e non i logici ora tornando a proposito dico che quello che vede Aristotile del moto dei corpi leggeri è il partirsi il fuoco da qualunque luogo della superficie del globo terrestre e direttamente di scostarsene salendo in alto e questo è veramente muoversi verso una circonferenza maggiore di quella della terra anzi il medesimo Aristotile lo fa muovere al concavo della luna ma che tal circonferenza sia poi quella del mondo o concentrica a quello sì che il muoversi verso questa sia un muoversi anco verso quella del mondo ciò non si può affermare se prima non si suppone che il centro della terra dal quale noi vediamo di scostarsi i leggeri scendenti sia il medesimo che il centro del mondo che è quanto dire che il globo terrestre sia costituito nel centro del mondo che è poi quello di che noi dubitiamo e che Aristotile intende di provare e questo direte che non sia un manifesto paralogismo sagredo questo argomento d'Aristotile mi era parso anco per un altro rispetto manchevole e non concludente quando bene se gli concedesse che quella circonferenza alla quale si muove rettamente il fuoco fosse quella che racchiude il mondo impero che preso dentro un cerchio non solamente il centro ma qualsivoglia altro punto ogni immobile che partendosi da quello camminerà per linea retta e verso qualsivoglia parte senza alcun dubbio andrà verso la circonferenza e continuando il moto vi arriverà ancora sì che verissimo sarà il dire che egli verso la circonferenza si muova ma non sarà già vero che quello che per le medesime linee si muovesse con movimento contrario vadia verso il centro se non quando il punto preso fosse lo stesso centro o che il moto fosse fatto per quella sola linea che prodotta dal punto assegnato passa per lo centro tal che il dire il fuoco muovendosi rettamente va verso la circonferenza del mondo adunque le parti della terra le quali per le medesime linee si muovono di moto contrario vanno verso il centro del mondo non conclude altrimenti se non supposto prima che le linee del fuoco prolungate passino per il centro del mondo e perché di esse noi sappiamo certo che le passano per il centro del globo terrestre essendo a perpendicolo sopra la sua superficie e non inclinate adunque per concludere bisogna supporre che il centro della terra sia lì stesso che il centro del mondo o almeno che le parti del fuoco e della terra non ascendano e descendano se non per una linea sola che passi per il centro del mondo il che è poi falso e repugna all'esperienza la quale ci mostra che le parti del fuoco non per una linea sola ma per le infinite prodotte dal centro della terra verso tutte le parti del mondo ascendono sempre per linee perpendicolari alla superficie del globo terrestre salviati e poi signor sagredo molto ingegnosamente conducete Aristotile al medesimo inconveniente mostrando l'equivoco manifesto ma aggiungete un'altra sconvenevolezza noi veggiamo la terra essere sferica e però siamo sicuri che ella ha il suo centro a quello veggiamo che si muovono tutte le sue parti che così è necessario dire mentre i movimenti loro sono tutti perpendicolari alla superficie terrestre intendiamo come muovendosi al centro della terra si muovono al suo tutto ed alla sua madre universale e siamo poi tanto buoni che ci vogliamo lasciar persuadere che l'instinto loro naturale non è di andare verso il centro della terra ma verso quel dell'universo il quale non sappiamo dove sia né se sia e che quando pur sia non è altro che un punto immaginario ed un niente senza avere una facoltà all'ultimo detto poi del signor simplicio che il contendere se le parti del solo della luna o di altro corpo celeste separate dal suo tutto ritornassero naturalmente a quello sia una vanità per essere il caso impossibile essendo manifesto per dimostrazioni di aristotile che i corpi celesti sono impassibili impenetrabili impartibili eccetera rispondo né una delle condizioni per le quali aristotile fa differire i corpi celesti dagli elementari avere un'altra sussistenza che quella che deduce dalla diversità dei moti naturali di quelle e di questi in modo che negato che il moto circolare sia solo dei corpi celesti ed affermato che convenga a tutti i corpi naturali mobili bisogna per necessaria conseguenza dire che gli attributi di generabile o ingenerabile alterabile o inalterabile partibile o impartibile eccetera egualmente e comunemente convengano a tutti i corpi mondani cioè tanto ai celesti quanto agli elementari o che malamente e con errore abbia aristotile dedotti dal moto circolare quelli che ha assegnati ai corpi celesti semplicio questo modo di filosofare tende alla sovversione di tutta la filosofia naturale ed al disordinare mettere in conquasso il cielo e la terra e tutto l'universo ma io credo che i fondamenti dei peripatetici sientali che non ci sia da temere che con la rovina loro si possano costruire nuove scienze salviati non vi pigliate già pensiero del cielo né della terra né temiate la loro sovversione come neanche della filosofia perché quanto al cielo invano è che voi temiate di quello che voi medesimo riputate inalterabile e impassibile quanto alla terra noi cerchiamo di nobilitarla e perfezionarla mentre procuriamo di farla simile ai corpi celesti e in certo modo metterla quasi in cielo di dove i vostri filosofi l'hanno bandita la filosofia medesima non può se non ricevere beneficio dalle nostre dispute perché se i nostri pensieri saranno veri nuovi acquisti si saranno fatti se falsi col ributtagli maggiormente verranno confermate le prime dottrine pigliatevi piuttosto pensiero di alcuni filosofi e vedete di aiutarli e sostenerli che quanto alla scienza stessa ella non può se non avanzarsi e ritornando al nostro proposito producete liberamente quello che vi sovviene per mantenimento della somma differenza che aristotile pone tra i corpi celesti e la parte elementare nel far quelli ingenerabili incorruttibili inalterabili eccetera e questa generabile corruttibile alterabile eccetera simplicio io non vego per ancora che aristotile sia bisognoso di soccorso restando egli in piede saldo e forte anzi non essendo ancora pure stato assalito nonché abbattuto da voi e qual sarà il vostro schermo in questo primo assalto scrive aristotile quello che si genera si fa da un contrario in qualche subietto e parimente si corrompe in qualche subietto da un contrario in un contrario sicché notate bene la corruzione e la generazione non è se non nei contrari ma dei contrari i movimenti sono contrari se dunque al corpo celeste non si può assegnare contrario impero che al moto circolare né un altro movimento e contrario adunque benissimo ha fatto la natura a fare esente dai contrari quello che doveva essere ingenerabile ed incorruttibile stabilito questo primo fondamento speditamente si cava in conseguenza che i sia inaugumentabile inalterabile impassibile e finalmente eterno ed abitazione proporzionata agli dei immortali conforme alla opinione ancora di tutti gli uomini che degli dèi hanno concetto conferma poi li stesso ancora per il senso avvenga che in tutto il tempo passato secondo le tradizioni e memorie nessuna cosa si vede essersi trasmutata né secondo tutto l'ultimo cielo né secondo alcuna sua propria parte che poi al moto circolare in uno o altro sia contrario lo prova Aristotila in molte maniere ma senza replicarle tutte assai apertamente resta dimostrato mentre che i moti semplici non sono altri che tre al mezzo dal mezzo e intorno al mezzo dei quali i due retti sursum et deorsum sono manifestamente contrari e perché un solo ha un solo per contrario adunque non resta altro movimento che possa essere contrario al circolare eccovi il discorso di Aristotile argutissimo e concludentissimo per il quale si prova l'incorruttibilità del cielo salviati questo non è niente di più che il puro progresso di Aristotile già da me accennato nel quale tutta volta che io vi neghi che il moto che voi attribuite ai corpi celesti non convenga ancora alla terra la sua illazione resta nulla dicovi pertanto che quel moto circolare che voi assegnate ai corpi celesti conviene ancora alla terra dal che posto che il resto del vostro discorso sia concludente seguirà una di queste tre cose come poco fa si è detto è orvi replico cioè o che la terra sia essa ancora ingenerabile incorruttibile come i corpi celesti o che i corpi celesti siano come gli elementari generabili alterabili eccetera o che questa differenza di moti non abbia a che far con la generazione e corruzione il discorso di aristotile e vostro contiene molte proposizioni da non essere di leggero ammesse e per poterlo meglio esaminare sarà bene ridurlo più al netto ed al distinto che sia possibile e scusimi il signor sagredo se forse con qualche tedio sente replicar più volte le medesime cose e faccia conto di sentir ripigliarli argomenti nei pubblici circoli dei disputanti voi dite la generazione e corruzione non si fa se non dove sono i contrari i contrari non sono se non tra i corpi semplici naturali mobili di movimenti contrari movimenti contrari sono solamente quelli che si fanno per linee rette tra termini contrari e questi sono solamente due cioè dal mezzo ed al mezzo e tali movimenti non sono di altri corpi naturali che della terra del fuoco e degli altri due elementi adunque la generazione e corruzione non è se non tra gli elementi e perché il terzo movimento semplice cioè il circolare intorno al mezzo non ha contrario perché contrari sono gli altri due e un solo ha un solo per contrario però quel corpo naturale al quale tal moto compete manca di contrario e non avendo contrario resta ingenerabile e incorruttibile eccetera perché dove non è contrarietà non è generazione né corruzione eccetera ma tal moto compete solamente ai corpi celesti adunque soli questi sono ingenerabili incorruttibili eccetera e prima a me si rappresenta assai più agevol cosa il potersi assicurare se la terra corpo vastissimo e per vicinità a noi trattabilissimo si muova di un movimento massimo qual sarebbe per ora il rivolgersi in se stesse in 24 ore che non è l'intendere ed assicurarsi se la generazione e corruzione si facciano dai contrari anzi pure se la corruzione e la generazione di contrari siano in natura e se voi signor simplicio mi sapeste assegnare qualsia il modo di operare della natura nel generare in brevissimo tempo centomila motioni da un poco di fumo di mosto mostrandomi quali siano qui i contrari qualcosa si corrompa e come io vi reputerei ancora più di quello che io fo perché io nessuna di queste cose comprendo inoltre arei molto caro di intendere come e perché questi contrari i corruttivi siano così benigni verso le cornacchie e così fieri verso i colombi così tolleranti verso i cervi ed impazienti contro ai cavalli che a quelli concedono più anni di vita cioè di incorruttibilità che settimane a questi i peschi gli olivi hanno pur radice nei medesimi terreni sono esposti ai medesimi freddi ai medesimi caldi alle medesime piogge e venti ed insomma alle medesime contrarietà eppur quelli vengono destrutti in breve tempo e questi vivono molte centinaia d'anni di più io non sono mai restato ben capace di questa transmutazione sostanziale restando sempre dentro ai puri termini naturali per la quale una materia venga talmente trasformata che si deva per necessità dire quella essersi del tutto destrutta sì che nulla del suo primo essere vi rimanga e che un altro corpo diversissimo da quella se ne sia prodotto ed il rappresentarmisi un corpo sotto un aspetto e di lì a poco sotto un altro differente assai non ho per impossibile che possa seguire per una semplice trasposizione di parti senza corrompere o generar nulla di nuovo perché di simili metamorfosi ne vediamo noi tutto il giorno sì che torno a replicarvi che come voi mi vorrete persuader che la terra non si possa muover circolarmente per via di corruttibilità e generabilità avrete che fare assai più di me che con argomenti ben più difficili ma non men concludenti vi proverò il contrario sagredo signor salviati perdonatemi se io interrompo il vostro ragionamento il quale siccome mi diletta assai perché io ancora mi trovo involto nelle medesime difficoltà così dubito che sia impossibile il poterne venire a capo senza deporre in tutto e per tutto la nostra principale materia però quando si potesse tirare avanti il primo discorso giudicherei che fosse bene rimettere ad un altro separato e intero ragionamento questa questione della generazione corruzione siccome Anco quando ciò piaccia a voi ed al signor Simplicio si potrà fare di altre questioni particolari che il corso dei ragionamenti ci porgesse avanti delle quali io terrò memoria a parte per proporle un altro giorno e minutamente esaminarle or quanto alla presente già che voi dite che è negato ad Aristotile che il moto circolare non sia della terra come degli altri corpi celesti ne seguirà che quello che accade alla terra circa l'essere generabile alterabile eccetera sia ancora del cielo lasciamo starse la generazione corruzione sieno o non sieno in natura e torniamo a vedere di investigare quel che faccia il globo terrestre semplicio io non posso accomodare le orecchie a sentir mettere in dubbio se la generazione e corruzione sieno in natura essendo una cosa che noi continuamente aviamo innanzi agli occhi e della quale Aristotile ha scritto due libri interi ma quando si abbiano a negare i principi nelle scienze e mettere in dubbio le cose manifestissime chi non sa che si potrà provare quel che altri vuole e sostenere qualsivoglia paradosso e se voi non vedete tutto il giorno generarsi e corrompersi erbe piante animali che altra cosa vedete voi come non vedete perpetuamente giostrarsi incontro le contrarietà e la terra mutarsi in acqua l'acqua convertirsi in aria l'aria in fuoco e di nuovo l'aria condensarsi in nuvole in piogge grandini e tempeste sagredo anzi veggiamo pur tutte queste cose e però vogliamo concedervi il discorso di Aristotile quanto a questa parte della generazione corruzione fatta dai contrari ma se io vi concluderò in virtù delle medesime proposizioni concedute da Aristotile che i corpi celesti siano essi ancora non meno che gli elementari generabili e corruttibili che cosa direte voi simplicio dirò che voi abbiate fatto quello che è impossibile a farsi sagredo ditemi un poco signor simplicio non sono queste affezioni contrarie fra di loro simplicio quali fine della giornata prima parte quarta registrazione di Marzia Maria Nera giornata prima parte quinta di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org registrazione di Emanuela dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata prima parte quinta sagredo sagredo eccovele eccovele alterabile inalterabile passibile impassibile generabile ingenerabile corruttibile incorruttibile semplicio sono contrarissime sagredo come questo sia e sia vero ancora che i corpi celesti siano ingenerabili e incorruttibili io vi provo che di necessità bisogna che i corpi celesti siano generabili e corruttibili semplicio questo non potrà essere altro che un sofisma sagredo sentite l'argomento e poi nominatelo e solvetelo i corpi celesti perché sono ingenerabili e incorruttibili hanno in natura dei contrari che sono i corpi generabili e corruttibili ma dove è contrarietà qui vi è generazione e corruzione adunque i corpi celesti sono generabili e corruttibili semplicio non vi dissi io che non poteva essere altro che un sofisma questo è un di quelli argomenti cornuti che si chiamano soriti come quello del candiotto che diceva che tutti i candiotti erano bugiardi però essendo egli candiotto veniva a dir la bugia mentre diceva che i candiotti erano bugiardi bisogna adunque che i candiotti fossero veridici e in conseguenza esso come candiotto veniva ad essere veridico e però nel dir che i candiotti erano bugiardi diceva il vero e comprendendo se come candiotto bisognava che e fosse bugiardo e così in questa sorte di sofismi si durerebbe in eterno a rigirarsi senza concluder mai niente sagredo voi sin qui l'avete nominato o resta ora che lo sciogliate mostrando la fallacia semplicio quanto assolverlo e mostrar la sua fallacia non vedete voi prima la contraddizione manifesta i corpi celesti sono ingenerabili e incorruttibili adunque i corpi celesti sono generabili e corruttibili e poi la contrarietà non è tra i corpi celesti ma è tra gli elementi li quali hanno la contrarietà dei moti sursum e deorsum e della leggerezza e gravità ma i cieli che si muovono circolarmente al qual modo ognun altro è contrario mancano di contrarietà e però sono incorruttibili eccetera sagredo piano signor semplicio questa contrarietà per la quale voi dite alcuni corpi semplici esser corruttibili risiede ella nell'istesso corpo che si corrompe oppure ha relazione ad un altro dico se l'umidità per esempio per la quale si corrompe una parte di terra risiede nell'istessa terra oppure in un altro corpo qual sarebbe l'aria o l'acqua io credo pur che voi direte che sì come i movimenti in su e in giù e la gravità e la leggerezza che voi fate i primi contrari non possono essere nel medesimo soggetto così neanche l'umido e il secco il caldo e il freddo bisogna dunque che voi diciate che quando il corpo si corrompe ciò avvenga per la qualità che si trova in un altro contraria alla sua propria però per far che il corpo celeste sia corruttibile basta che in natura ci siano corpi che abbiano contrarietà al corpo celeste e tali sono gli elementi se è vero che la corruttibilità sia contraria all'incorruttibilità semplicio non basta questo signor mio gli elementi si alterano e si corrompono perché si toccano e si mescolano tra di loro e così possono esercitare le loro contrarietà ma i corpi celesti sono separati dagli elementi dai quali non sono neanche tocchi se ben essi toccano gli elementi bisogna se voi volete provare la generazione e corruzione nei corpi celesti che voi mostriate che tra loro risseggano le contrarietà sagredo ecco che io ve le trovo tra di loro il primo fonte dal quale voi cavate le contrarietà degli elementi è la contrarietà dei moti loro in su e in giù adunque è forza che contrari siano parimente tra di loro quei principi dai quali dipendono tali movimenti e perché quello è mobile in su per la leggerezza e questo in giù per la gravità è necessario che leggerezza e gravità siano tra di loro contrarie nemmeno si deve credere che sia in contrari quegli altri principi che sono cagioni che questo sia grave e leggero quello ma per voi medesimi la leggerezza e la gravità vengono in conseguenza della rarità e densità adunque contrarie saranno la densità e la rarità le quali condizioni tanto amplamente si ritrovano nei corpi celesti che voi stimate le stelle non essere altro che parti più dense del loro cielo e quando ciò sia bisogna che la densità delle stelle superi quasi di infinito intervallo quella del resto del cielo il che è manifesto dall'essere il cielo sommamente trasparente e le stelle sommamente opache e dal non si trovare lassù altre qualità che il più e il meno denso o raro che della maggiore e minor trasparenza possano essere principii essendo dunque tali contrarietà tra i corpi celesti è necessario che essi ancora sien generabili e corruttibili in quel medesimo modo che sono tali i corpi elementari ovvero che non la contrarietà sia causa della corruttibilità eccetera semplicio non è necessario né l'un né l'altro perché la densità e rarità nei corpi celesti non sono contrarie tra loro come nei corpi elementari impero che non dependono dalle prime qualità caldo e freddo che sono contrarie ma dalla molta o poca materia in proporzione alla quantità ora il molto e il poco dicono solamente una opposizione relativa che è la minor che sia e non ha a che fare con la generazione e corruzione sagredo tal che a voler che il denso e il raro che tra gli elementi deve essere cagione di gravità e leggerezza le quali possano essere cause di moti contrarii sursum et deorsum dai quali dependano poi le contrarietà per la generazione e corruzione non basta che siano di quei densi e rari che sotto la medesima quantità o vogliam dir mole contengono molta o poca materia ma è necessario che e siano densi e rari mercè delle prime qualità freddo e caldo altramente non si farebbe niente ma se questo è aristotile ci ha ingannati perché doveva dircelo da principio e lasciare scritto che sono generabili e corruttibili quei corpi semplici che sono mobili di movimenti semplici in su e in giù dependenti da leggerezza e gravità causate da rarità e densità fatta da molta e poca materia mercè del caldo e del freddo e non si fermare sul semplice moto sursum et deorsum perché io vi assicuro che quanto al fare i corpi gravi e leggeri onde essian poi mobili di movimenti contrarii qualsivoglia densità e rarità basta venga per caldo e freddo o per quel che più vi piace perché il caldo e il freddo non hanno che far niente in questa operazione e voi vedrete che un ferro infocato che pur si può chiamare caldo pesa il medesimo e si muove nel medesimo modo che freddo ma lasciato ancora questo che sapete voi che il denso e il raro celeste non dependano dal freddo e dal caldo semplicio solo perché tali qualità non sono tra i corpi celesti li quali non sono caldi né freddi salviati io veggo che noi torniamo di nuovo a ingolfarci in un pelago infinito da non ne uscir mai perché questo è un navigare senza bussola senza stelle senza remi senza timone onde conviene per necessità o passare di scoglio in scoglio o dare in secco o navigare sempre per perduti però se conforme al vostro consiglio noi vogliamo tendere avanti nella nostra principale materia bisogna che lasciata per ora questa general considerazione se il motoretto sia necessario in natura e convenga ad alcuni corpi venghiamo alle dimostrazioni osservazioni ed esperienze particolari proponendo prima tutte quelle che da aristotile da tolomeo e da altri sono state sin qui addotte per prova della stabilità della terra cercando secondariamente dissolverle e portando in ultimo quelle per le quali altri possa restare persuaso che la terra sia non men che la luna o altro pianeta da conumerarsi tra i corpi naturali mobili circolarmente sagredo io tanto più volentieri mi atterrò a questo quanto io resto assai più soddisfatto del vostro discorso architettonico e generale che di quello d'aristotile perché il vostro senza intoppo veruno mi quieta e l'altro ad ogni passo mi attraversa qualche inciampo e non so come il signor Simplicio non si è restato subito persuaso dalla ragione arrecata da voi per prova che il moto per linea retta non può aver luogo in natura tutta volta che si supponga che le parti dell'universo siano disposte in ottima costituzione e perfettamente ordinate salviati fermate di grazia signor Sagredo che pur ora mi sovviene il modo di poter dar soddisfazione anche al signor Simplicio tutta volta però che e non voglia restare talmente legato ad ogni detto d'aristotile che egli abbia per sacrilegio il discostarsene da alcuno e non è dubbio che per mantenere l'ottima disposizione e l'ordine perfetto delle parti dell'universo quanto alla local situazione non ci è altro che il movimento circolare e la quiete ma quanto al moto per linea retta non vengo che possa servire ad altro che a ridurre nella sua natural costituzione qualche particella di alcuno dei corpi integrali che per qualche accidente fosse stata rimossa e separata dal suo tutto come di sopra dicemmo consideriamo ora tutto il globo terrestre e veggiamo quel che può essere di lui tutta volta che ed esso e gli altri corpi mondani si devano conservare nell'ottima e natural disposizione egli è necessario dire o che egli resti e si conservi perpetuamente immobile nel luogo suo o che restando pur sempre nell'istesso luogo si rivolga in se stesso o che vadia intorno ad un centro muovendosi per la circonferenza di un cerchio dei quali accidenti ed Aristotile e Tolomeo e tutti i loro seguaci dicono pure che egli ha osservato sempre ed è per mantenere in eterno il primo cioè una perpetua quiete nel medesimo luogo or perché dunque in buonora non si deve egli dire che sua naturale affezione è restare immobile piuttosto che far suo naturale il moto all'ingiù del qual moto egli giammai non si è mosso né dè per muoversi e quanto al movimento per linea retta lasciisi che la natura se ne serva per ridurre al suo tutto le particelle della terra dell'acqua dell'aria e del fuoco e di ogni altro corpo integrale mondano quando alcuna di loro per qualche caso se ne trovasse separata e però in luogo disordinato trasposta seppure Anco per far questa restituzione non si trovasse che qualche moto circolare fosse più accomodato parmi che questa primaria posizione risponda molto meglio dico Anco in via d'Aristotile medesimo a tutte le altre conseguenze che l'attribuire come intrinseco e natural principio degli elementi in movimenti retti il che è manifesto perché sia domanderò al peripatetico se tenendo egli che i corpi celesti siano incorruttibili ed eterni e i crede che il globo terrestre non sia tale ma corruttibile e mortale sì che egli abbia a venir tempo che continuando suo essere e sue operazioni il sole e la luna e le altre stelle la terra non si ritrovi più al mondo ma sia con tutto il resto degli elementi destrutta e andata in niente sono sicuro che egli risponderà di no adunque la corruzione e generazione è nelle parti e non nel tutto e nelle parti ben minime e superficiali le quali sono come insensibili in comparazione di tutta la mole e perché Aristotile argumenta la generazione e corruzione dalla contrarietà dei movimenti retti lasciinsi tali movimenti alle parti che sole si alterano e corrompono e dall'intero globo e sfera degli elementi attribuiscasi o il moto circolare o una perpetua consistenza nel proprio luogo affezioni che sole sono atte alla perpetuazione e al mantenimento dell'ordine perfetto questo che si dice della terra può dirsi con simile ragione del fuoco e della maggior parte dell'aria ai quali elementi si sono ridotti per i patetici ad assegnare per loro intrinseco e natural moto uno del qual mai non si sono mossi né sono per muoversi e chiamar fuor della natura loro quel movimento del quale si muovono si sono mossi e sono per muoversi perpetuamente questo dico perché assegnano all'aria e al fuoco il moto all'insù del quale giammai si è mosso alcuno dei detti elementi ma solo qualche loro particella e questa non per altro che per ridursi alla perfetta costituzione mentre si trovava fuori del luogo suo naturale e dall'incontro chiamano a loro preternaturale il moto circolare del quale incessabilmente si muovono scordatisi in certo modo di quello che più volte ha detto Aristotile che nessun violento può durare lungo tempo semplicio a tutte queste cose abbiamo noi le risposte accomodatissime le quali per ora lascerò da parte per venire alle ragioni più particolari ed esperienze sensate le quali finalmente devono anteporsi come ben dice Aristotile a quanto possa esserci somministrato dall'umano discorso sagredo servanci dunque le cose dette sin qui per averci messo in considerazione qual dei due generali discorsi abbia più del probabile dico quello di Aristotile per persuaderci la natura dei corpi sublunari esser generabile e corruttibile eccetera è però diversissima dall'essenza dei corpi celesti per esser loro impassibili ingenerabili incorruttibili eccetera tirato dalla diversità dei movimenti semplici oppur questo del signor salviati che supponendo le parti integrali del mondo esser disposte in ottima costituzione esclude per necessaria conseguenza dai corpi semplici naturali i movimenti retti come di ninguno uso in natura e stima la terra esser essa ancora uno dei corpi celesti adornato di tutte le prerogative che a quelli convengono il qual discorso sin qui a me consuona assai più che quell'altro sia dunque contento il signor semplicio produr tutte le particolari ragioni esperienze ed osservazioni tanto naturali quanto astronomiche per le quali altri possa restare persuaso la terra esser diversa dai corpi celesti immobile collocata nel centro del mondo e se altro vi è che l'escluda dall'essere essa ancora mobile come un pianeta come giove o la luna eccetera e il signor salviati per sua cortesia si contenterà di rispondere a parte a parte semplicio eccovi per la prima due potentissime dimostrazioni per prova che la terra è differentissima dai corpi celesti prima i corpi che sono generabili corruttibili alterabili eccetera sono diversissimi da quelli che sono ingenerabili incorruttibili inalterabili eccetera la terra la terra è generabile corruttibile alterabile eccetera e i corpi celesti ingenerabili incorruttibili inalterabili eccetera adunque la terra è diversissima dai corpi celesti sagredo per il primo argomento voi riconducete in tavola quello che ci è stato tutt'oggi ed appena si è elevato pur ora fine della giornata prima parte quinta registrazione di Emanuela giornata prima parte sesta di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox punto org registrazione di Pier dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata prima parte sesta simplicio piano signore sentite il resto e vedrete quanto è sì differente da quello nell'altro si provò la minore a priori ed ora ve la voglio provare a posteriori guardate se questo è essere il medesimo provo dunque la minore essendo la maggiore manifestissima la sensata esperienza ci mostra come in terra si fanno continue generazioni corruzioni alterazioni eccetera delle quali né per il senso nostro né per tradizioni o memorie dei nostri antichi se ne è veduta veruna in cielo adunque il cielo è inalterabile eccetera e la terra alterabile eccetera è però diversa dal cielo il secondo argomento cavo io da un principale ed essenziale accidente ed è questo quel corpo che è per sua natura oscuro e privo di luce è diverso dai corpi luminosi e risplendenti la terra è tenebrosa e senza luce e i corpi celesti splendidi e pieni di luce adunque eccetera rispondasi a questi per non far troppo cumulo e poi ne addurrò altri salviati quanto al primo la forza del quale voi cavate dall'esperienza desidero che voi più distintamente mi produciate le alterazioni che voi vedete farsi nella terra e non in cielo per le quali voi chiamate la terra alterabile e il cielo no semplicio veggo in terra continuamente generarsi e corrompersi erbe piante animali suscitarsi venti piogge tempeste procelle ed insomma esser questo aspetto della terra in una perpetua metamorfosi in una delle quali mutazioni si scorge nei corpi celesti la costituzione e figurazione dei quali è puntualissimamente conforme a quella di tutte le memorie senza esservi si generato cosa alcuna di nuovo né corrotto delle antiche salviati ma come voi vi abbiate a quietare su queste visibili o per dir meglio vedute esperienze e forza che voi riputiate la Cina e l'America esser corpi celesti perché sicuramente in essi non avete vedute mai queste alterazioni che voi vedete qui in Italia e che però quanto alla vostra apprensione e siano inalterabili semplicio ancorché io non abbia vedute queste alterazioni sensatamente in quei luoghi ce ne sono però le relazioni sicure oltre che cum eadem sit ratio tot ius et parcium essendo quei paesi parti della terra come i nostri è forza che siano alterabili come questi salviati e perché non avete voi senza ridurvi a dover credere all'altrui relazioni osservate viste da per voi con i vostri occhi propri semplicio perché quei paesi oltre a non essere esposti agli occhi nostri sono tanto remoti che la vista non potrebbe arrivare a comprenderci simili mutazioni salviati or vedete come da per voi medesimo avete casualmente scoperta la fallaccia del vostro argomento in perrocchè se voi dite che le alterazioni che si vengono in terra appresso di noi non le potreste per la troppa distanza scorgere fatte in america molto meno le potreste vedere nella luna tante centinaia di volte più lontana e se voi credete le alterazioni messicane e gli avvisi venuti di là quai rapporti vi sono venuti dalla luna a significarvi che in lei non vi è alterazione adunque da non veder voi le alterazioni in cielo dove quando vi fossero non potreste vederle per la troppa distanza e da non ne avere relazione mentre che aver non si possa non potete arguir che le non vi siano come dal vederle intenderle in terra ben arguite che le ci sono impliccio io vi troverò delle mutazioni seguite in terra così grandi che se di tali se ne facessero nell'aluno benissimo potrebbero essere osservate di quaggiù noi avviamo per antichissime memorie che già allo stretto di Gibilterra Abile e Calpe erano continuati insieme con altre minori montagne le quali tenevano l'oceano respinto ma essendosi qualche ne fosse la causa separati detti detti monti ed aperto l'adito all'acqua marine queste scorsero talmente indentro che ne formarono tutto il mare mediterraneo del quale se noi considereremo la grandezza e la diversità dell'aspetto che devono fare tra di loro la superficie dell'acqua e quella della terra vedute di lontano non ha dubbio che una tale mutazione poteva benissimo essere compresa da chi fosse stato nella luna siccome da noi abitatore della terra simili alterazioni dovrebbero scorgersi nella luna ma non ci è memoria che mai si sia veduta cosa tale adunque non ci resta attacco da poter dire che alcuno dei corpi celesti sia alterabile eccetera salviati che mutazioni così vaste siano seguite nella luna io non ardirei di dirlo ma non sono anco sicuro che non ve ne possano essere seguite e perché una simil mutazione non potrebbe rappresentarci altro che qualche variazione tra le parti più chiare e le più oscure di essa luna io non so che ci siano stati in terra selinografi curiosi che per lunghissima serie di anni ci abbiano tenuti provvisti di selinografie così esatte che ci possano rendere sicuri nessuna tal mutazione esser già mai seguita nella faccia della luna della figurazione della quale non trovo più minuta descrizione che il dire alcuno che la rappresenta un volto umano altri che le è simile a un ceffo di leone ed altri che le è caino con un fascio di pruno in spalla adunque il dire il cielo inalterabile perché nella luna o in altro corpo celeste non si veggono le alterazioni che si scorgono in terra non ha forza di concluder cosa alcuna sagredo ed a me resta non so che altro scrupolo in questo primo argomento del signor semplicio il quale desidero che mi sia levato però io gli domando se la terra avanti in inondazione mediterranea era generabile e corruttibile oppur cominciò allora ad essere tale semplicio era senza dubbio generabile e corruttibile ancora avanti ma quella fu una mutazione tanto vasta che anche nella luna si sarebbe potuto osservare sagredo o se la terra fu pure avanti tale alluvione generabile e corruttibile perché non può essere tale la luna parimente senza una simil mutazione perché è necessario nella luna quello che non importava nulla nella terra salviati argutissima istanza ma io vo dubitando che il signor semplicio alteri un poco l'intelligenza dei testi d'aristotile e degli altri peripatetici li quali dicono di tenere il cielo inalterabile perché in esso non si è veduto generare né corromper mai alcuna stella che forse è del cielo parte minore che una città della terra eppure innumerabili di queste si sono distrutte in modo che neanche i vestigi ci sono rimasti sagredo io certo stimava altramente e credeva che il signor semplicio dissimulasse questa esposizione di testo per non gravare il maestro e i suoi condiscepoli di una nota assai più deforme dell'altra e qual vanità è il dire la parte celeste inalterabile perché in essa non si generano e corrompono stelle ci è forse alcuno che abbia veduto corrompersi un globo terrestre e rigenerarsene un altro e non è egli ricevuto da tutti i filosofi che pochissime stelle siano in cielo minori della terra va bene assaissime molto e molto maggiori il corrompersi dunque una stella in cielo non è minercosa che distruggersi tutto il globo terrestre però quando per poter con verità introdurre in un universo la generazione e corruzione sia necessario che si corrompano e rigenerino corpi così vasti come una stella toglietelo pur via del tutto perché vi assicuro che mai non si vedrà corrompere il globo terrestre o altro corpo integrale del mondo sì che essendoci si veduto per molti secoli decorsi e si risolva in maniera che di sé non lasci vestigio alcuno salviati ma per dar sovrabbondante soddisfazione al signor semplicio e torlo se è possibile di errore dico che noi abbiamo nel nostro secolo accidenti osservazioni nuove tali che io non dubito punto che se Aristotele fosse all'età nostra muterebbe opinione il che manifestamente si raccoglie dal suo stesso modo di filosofare imperro che mentre egli scrive di stimare i cieli inalterabili eccetera perché nessuna cosa nuova si è veduta generarvisi o dissolversi delle vecchie viene implicitamente a lasciarsi intendere che quando egli avesse veduto uno di tali accidenti avrebbe stimato il contrario e anteposto come conviene la sensata esperienza al natural discorso perché quando e non avesse voluto far stima dei sensi non avrebbe almeno da non si veder sensatamente mutazione alcuna argomentata l'immutabilità simplicio aristotile fece il principale suo fondamento sul discorso a priori mostrando la necessità dell'inalterabilità del cielo per i suoi principi naturali manifesti e chiari e la medesima stabilì dopo a posteriori per il senso e per le tradizioni degli antichi salviati cotesto che voi dite è il metodo col quale egli ha scritta la sua dottrina ma non credo già che sia quello col quale egli la investigò perché io tengo per fermo che procurasse prima per via dei sensi dell'esperienza e delle osservazioni di assicurarsi quanto fosse possibile della conclusione e che dopo andasse ricercando i mezzi da poterla dimostrare perché così si fa per lo più nelle scienze dimostrative e questo avviene perché quando la conclusione è vera servendosi del metodo risolutivo agevolmente si incontra qualche proposizione già dimostrata o si arriva a qualche principio per sé noto ma se la conclusione sia falsa si può procedere in infinito senza incontrare mai verità alcuna conosciuta se già altri non incontrassi alcun impossibile assurdo manifesto e non abbiate dubbio che Pitagora gran tempo avanti che ritrovassi la dimostrazione per la quale fece le catumbe si era assicurato che il quadrato del lato opposto all'angolo retto nel triangolo rettangolo era uguale ai quadrati degli altri due lati e la certezza della conclusione aiuta non poco al ritrovamento della dimostrazione intendendo sempre nelle scienze dimostrative ma fosse il progresso di Aristotile in qualsivoglia modo sì che il discorso a priori precedesse il senso a posteriori o per l'opposito assai è che il medesimo Aristotile antepone come più volte si è detto le esperienze sensate a tutti i discorsi oltre che quanto ai discorsi a priori già si è esaminato quanto sia la forza loro or tornando alla materia dico che le cose scoperte nei cieli ai tempi nostri sono e sono state tali che possono dare intera soddisfazione a tutti i filosofi in perro che e nei corpi particolari e nell'universale espansione del cielo si sono visti e si vengono tuttavia accidenti simili a quelli che tra di noi chiamiamo generazioni e corruzioni essendo che da astronomi eccellenti sono state osservate molte comete generate e disfatte in parti più alte dell'orbe lunare oltre le due stelle nuove dell'anno 1572 e del 1604 senza aver una contraddizione altissime soprattutto i pianeti e in faccia degli stessi sole si vengono merced del telescopio produrre e risolvere materie dense ed oscure in sembianza molto simili alle nugole intorno alla terra e molte di queste sono così vaste che superano di gran lunga non solo il sino mediterraneo ma tutta l'Africa e l'Asia ancora ora quando Aristotele vedesse queste cose che credete voi signor semplicio che dicesse e facesse semplicio io non so quello che si facesse né dicesse Aristotele che era padrone delle scienze ma so bene in parte quello che fanno e dicono e che conviene che facciano e dicano i suoi seguaci per non rimanere senza guida senza scorta e senza capo nella filosofia quanto alle comete non sono egli non restati convinti quei moderni astronomi che le volevano far celesti davanti ticone e convinti con le loro medesime armi dico per via di paralassia di calcoli girati in cento modi concludendo finalmente a far di aristotile che tutte sono elementari e spiantato questo che era quanto fondamento avevano i seguaci delle novità che altro più resta loro per sostenersi in piedi fine fine della giornata prima parte sesta registrazione di pierre giornata prima parte settima di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox punto org registrazione di pierre dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata prima parte settima salviati conflemma signor semplicio codesto moderno autore che cosa dice egli delle stelle nuove del settantadue del 604 e delle macchie solari perché quanta le comete io quanta me poca difficoltà farei nel porle generate sotto o sopra la luna ne ho mai fatto gran fondamento sopra la loquacità di Ticone ne sento ripugnanza alcuna nel poter credere che la materia loro sia elementare e che le possano sublimarsi quanto piace loro senza trovare ostacoli nell'impenetrabilità del cielo peripatetico il quale io stimo più tenue più cedente più sottile assai della nostra aria e quanto ai calcoli delle parallassi prima al dubbio se le comete siano soggette a tale accidente e poi l'incostanza delle osservazioni sopra le quali sono fatti i computi mi rendono ugualmente sospette queste opinioni e quelle e massime che mi pare che l'antit Ticone talvolta accomodi il suo modo o metta per fallaci quelle osservazioni che ripugnano al suo disegno simplicio quanto alle stelle nuove l'antit Ticone se ne sbriga benissimo in quattro parole dicendo che tali moderne stelle nuove non sono parti certe dei corpi celesti e che bisogna che gli avversari se vogliono provarla su essere alterazione generazione dimostrino mutazioni fatte nelle stelle descritte già tanto tempo delle quali nessuno dubita che sieno cose celesti il che non possono far mai in una maniera circa poi le materie che alcuni dicono generarsi e risolversi in faccia del sole e non ne fa menzione alcuna un dio argomento che rabbia per una favola o per illusioni del cannocchiale o al più per affezioncelle fatte per aria e insomma per ogni altra cosa che per materie celesti salviate ma voi signor simplicio che cosa vi siete immaginato di rispondere all'opposizione di queste macchie importune venute a interbidare il cielo e più la peripatetica filosofia e gli è forza che come intrepido difensore di quella vi abbiate trovato ripiego soluzione della quale non dovete defraudarci simplicio io ho inteso diverse opinioni intorno a questo particolare chi dice che le sono stelle che nei loro propri orbi a guisa di venere di mercurio si volgono intorno al sole ed in passaggi sotto si mostrano a noi oscure e per essere moltissime spesso accade che parte di loro si aggreghino insieme e che poi si separino altri li credono essere impressioni per l'aria altri illusioni dei cristalli ed altri altre cose ma io inclino assai a credere anzi tengo per fermo che le siano un aggregato di molti e vari corpi opachi quasi casualmente concorrenti tra di loro e però veggiamo spesso che in una macchia si possono numerare dieci e più di tali corpicelli minuti che sono di figure irregolari e ci si rappresentano come fiocchi di neve o di lana o di mosche volanti variano sito tra di loro ed orsi disgregano ed orsi congregano e massimamente sotto il sole intorno al quale come intorno al suo centro si vanno muovendo ma non però è di necessità dire che le sigenie noi si corrompano ma che alcune volte si occultano dopo il corpo del sole e altre volte benché allontanate da quello non si vengono per la vicinanza della smisurata luce del sole in perroché nell'orbe centrico del sole vi è costituita una quasi cipolla composta di molte grossezze una dentro all'altra ciasché d'una delle quali essendo tempestata di alcune piccole macchie si muove e benché il movimento loro da principio sia parso incostante ed irregolare nulla di meno si dice essersi ultimamente osservato che dentro a tempi determinati ritornano le medesime macchie per l'appunto questo pare a me il più accomodato di piego che fin qui si sia ritrovato per render ragione di cotale apparenza ed insieme mantenere la incorruttibilità e ingenerabilità del cielo e quando questo non bastasse non mancheranno ingegni più elevati che ne troveranno degli altri migliori salviati se questo di che si disputa fosse qualche punto di legge o di altri studi umani nei quali non è né verità né falsità si potrebbe confidare assai nella sottigliezza dell'ingegno e nella prontezza del dire e nella maggior pratica negli scrittori e sperare che quello che cedesse in queste cose fosse per apparire e giudicare la ragione sua superiore ma nelle scienze naturali le conclusioni delle quali sono vere e necessarie né vi ha che far nulla all'arbitro umano bisogna guardarsi di non si porre la difesa del falso perché mille demosteni e mille aristoteli resterebbero a piede contro adoni mediocre ingegno che abbia avuto ventura di apprendersi al vero però signor semplicio toglietevi pur giù dal pensiero e dalla speranza che voi avete che possano essere uomini tanto più dotti eruditi e versati dei libri che non siamo noi altri che al dispetto della natura siano per far divenire vero quello che è falso e già che tra tutte le opinioni che sono state prodotte sin qui intorno all'essenza di queste macchie solari questa esplicata pur ora da voi vi parla vera resta se questo è che l'altro e tutte sieno false ed io per liberarvi ancora da questa che pur è falsissima chimera lasciandomi l'altra in probabilità che vi sono due sole esperienze vi arrecco in contrario l'una è che molte di tali macchie si vengono nascere nel mezzo del disco solare e molte parimente dissolversi a svanire pur lontane dalla circonferenza del sole argomento necessario che le si generano e le si stovono che se senza generarsi e corrompersi comparissero quivi per solo movimento locale tutte si vedrebbero entrare ed uscire per la estrema circonferenza l'altra osservazione a quelli che non sono costituiti nell'infimo grado di ignoranza di prospettiva dalla mutazione dell'apparente figure e dell'apparente mutazione di velocità di moto si conclude necessariamente che le macchie sono contigue al corpo solare e che toccando la sua superficie con essa o sopra di essa si muovono e che in cerchi da quello remoti in verun modo non si reggirano concludere il moto che verso la circonferenza del disco solare apparisce tardissimo e verso il mezzo più veloce concludono le figure delle macchie le quali verso la circonferenza appariscono strettissime in comparazione di quello che si mostrano nelle parti di mezzo e questo perché nelle parti di mezzo si vengono in maestà e quali elle veramente sono e verso la circonferenza mediante lo sfuggimento della superficie globosa si mostrano in scorcio e l'una e l'altra diminuzione di figure e di moto a chi diligentemente l'ha saputo osservare e calculare risponde precisamente a quello che apparir deve quando le macchie si è incontigua al sole e discorda inescusabilmente dal muoversi in cerchi remoti benché per piccoli intervalli dal corpo solare come diffusamente è stato dimostrato dall'amico nostro nelle lettere delle macchie solari al signor Marco Velseri raccogliersi nella medesima mutazione di figura che nessuna di essa è stella o altro corpo di figura sferica in perroché fra tutte le figure solo la sfera non si vede mai direttamente rotonda e così quando alcuna delle macchie particolari fusse un corpo rotondo quale si stimano essere tutte le stelle nella medesima rotondità si mostrerebbe tanto nel mezzo del disco solare quanto verso le estremità dove che lo scorciare tanto e mostrarsi così sottili verso tale estremità e dall'incontro spaziose larghe verso il mezzo ci rende sicuri quelle esser falde di poca profondità o grossezza rispetto alla lunghezza e larghezza loro che poi si sia osservato ultimamente che le macchie dopo suoi determinati periodi ritornino le medesime per l'appunto non lo crediate signor semplicio e chi ve l'ha detto vi vuole ingannare e che ciò sia guardate che va taciuto quelle che si generano e quelle che si risolvono nella faccia del sole lontano dalla circonferenza ne vi ha anche detto parola di quello scorciare che è argomento necessario dell'essere contigue al sole quello che c'è del ritorno delle medesime macchie non è altro che quel che pur si legge nelle sopradette lettere cioè che alcune di esse può essere talvolta che siano di così lunga durata che non si disfacciano per una sola conversione intorno al sole la quale si spedisce in meno di un mese semplicio io per dire il vero non ho fatto né si lunghe né si dirigenti osservazioni che vi possano bastare a essere ben padrone del quad est di questa materia ma voglio in ogni modo farle e poi provarmi io ancora se mi succedesse concordare quel che ci porge l'esperienza con quel che ci dimostra Aristotile perché chiara cosa è che due veri non si possono contrariare salviati tuttavia che voi vogliate accordare quel che vi mostrerà il senso con le più salde dottrine di Aristotile non ci averete una fatica al mondo e che ciò sia vero Aristotile non dice egli che delle cose del cielo mediante la gran lontananza non se ne può molto risolutamente trattare semplicio dicelo apertamente salviati il medesimo non affermegli che quello che l'esperienza e il senso ci dimostra si deve anteporre ad ogni discorso ancorché ne paresse assai ben fondato e questo non dice egli risolutamente e senza punto titubare semplicio dicelo salviati adunque di queste due proposizioni che sono ambedue dottrina d'Aristotile questa seconda che dice che bisogna anteporre il senso al discorso è dottrina molto più ferma e risoluta che l'altra che stima il cielo inalterabile e però più aristotelicamente filosoferete dicendo il cielo è alterabile perché così mi mostra il senso che se direte il cielo è inalterabile perché così persuade il discorso ad Aristotile aggiungete che noi possiamo molto meglio di Aristotile discorrere delle cose del cielo perché confessando egli con tal cognizione essere a lui difficile per la lontananza dei sensi viene a concedere che quello a chi i sensi meglio lo potessero rappresentare con sicurezza maggiore potrebbe intorno ad esso filosofare ora noi mercede il telescopio ce lo siamo fatto vicino 30 e 40 volte più che vicino non era ad Aristotile sì che possiamo scorgere in esso cento cose che egli non potete vedere e tra le altre queste macchine nel sole che assolutamente adesso furono invisibili adunque del cielo e del sole più sicuramente possiamo noi trattare che Aristotile sagredo io sono nel cuore al signor semplicio e veggo che si sente muovere assai dalla forza di queste purtroppo concludenti ragioni ma dall'altra banda il vedere la grande autorità che si è acquistata Aristotile appresso l'universale il considerare il numero degli interpreti famosi che si sono affaticati per esplicare i suoi sensi il vedere altre scienze tanto utili e necessarie al pubblico fondar gran parte della stima e reputazione loro sopra il credito d'Aristotile lo confonde e spaventa assai e me lo par sentire dire e a chi si ha da ricorrere per definire le nostre controverse levato che fosse di seggio Aristotile qual'altro autore si ha da seguitare nelle scuole nelle accademie negli studi qual filosofo ha scritto tutte le parti della natural filosofia e tanto ordinatamente senza lasciare indietro pur una particolare conclusione adunque si deve desolar quella fabbrica sotto la qual si ricoprono tanti viatori si deve distruggere quell'asilo quel pretaneo dove tanto agiatamente si ricoverano tanti studiosi dove senza esporsi all'ingiuria dell'aria col solo rivoltar poche carte si acquistano tutte le condizioni della natura si ha da spiantare quel propugnacolo dove contro ad ogni nemico assalto in sicurezza si dimora io gli compatisco non meno che quel signore che con gran tempo con spesa immensa con l'opera di cento e cento artefici fabbricò nobilissimo palazzo e poi lo vegga per essere stato malfondato minacciar rovina e che per non vedere con tanto cordoglio disfatte le mura di tante vaghe pitture adornate cadute le colonne sostegni delle superbe loggie caduti i palchi dorati rovinati gli stipiti i frontespizi e le cornici marmore con tanta spesa condotte cerchi con catene puntelli con traforti barbacani e sorgozzoni di riparare alla rovina salviati e non tema già il signor simplicio di simil cadute io con sua assai minore spesa torrei ad assicurarlo del danno non ci è pericolo che una moltitudine si grande di filosofi accorti e sagaci si lasci sopraffare da uno o due che facci non poco di strepito anzi non pure col voltargli contro le punte delle loro penne ma col solo silenzio gli metteranno in disprezzo e derisione appresso l'universale vanissimo è il pensiero di chi credesse introdurre nuova filosofia con reprovare questo o quell'autore bisogna prima imparare a rifare i cervelli degli uomini e rendergli atti a distinguere il vero dal falso cosa che solo Dio la può fare ma d'un ragionamento in un altro dove siamo noi trascorsi io non saprei ritornare in sulla traccia senza la scorta della vostra memoria semplicio me ne ricordo io benissimo eramo intorno alle risposte dell'anteticone all'obiezione contro all'immutabilità del cielo tra le quali voi inseriste questa delle macchie solari non toccate da lui e credo che voi voleste considerare la sua risposta all'istanza delle stelle nuove salviati or mi sovviene il distante e seguitando la materia parmi che nella risposta dell'anteticone siano alcune cose degne di riprensione e prima se le due stelle nuove nei quali e non può far di manco di non porre nelle parti altissime del cielo e che furono di lunga durata e finalmente svanirono non gli danno fastidio nel mantenere l'inalterabilità del cielo per non essere loro arti certe di quello né mutazioni fatte nelle stelle antiche a che proposito mettersi con tanta ansietà ed affanno contro le comete per bandirle in ogni maniera dalle regioni celesti non bastavegli il poter dir di loro quel medesimo che delle stelle nuove cioè che per non esser parti certe del cielo né mutazioni fatte in alcune delle sue stelle nessun progiudizio portano né al cielo né alla dottrina d'aristotile secondariamente io non resto ben capace dell'interno dell'animo suo mentre che confessa che le alterazioni che si facessero nelle stelle sarebbero destruttrici delle prerogative del cielo cioè dell'incorruttibilità eccetera e questo perché le stelle sono cose celesti come per il concorde consenso di tutti e manifesto e dall'incontro niente lo perturba quando le medesime alterazioni si facessero fuori delle stelle nel resto della celeste espansione stimegli forse che il cielo non sia cosa celeste io per me credeva che le stelle si chiamassero cose celesti mediante l'essere nel cielo o l'essere fatte della materia del cielo e che però il cielo fosse più celeste di loro in quella guisa che non si può dire alcuna cosa a essere più terrestre o più igna della terra o del fuoco stesso in non aver poi fatto menzione delle macchie solari delle quali è stato dimostrato concludentemente prodursi e dissolversi ed essere prossime al corpo solare e con esso o intorno ad esso raggirarsi mi dà grande indizio che possa essere che quest'autore scriva piuttosto a compiacenza di altri che a soddisfazione propria e questo dico perché dimostrandosi egli intelligente delle matematiche è impossibile che non resti persuaso dalle dimostrazioni che tali materie sono necessariamente contigue al corpo solare e sono generazioni e corruzioni tanto grandi che nessuna così grande se ne fa mai in terra e se tali e tante e si frequenti se ne fanno nel stesso globo del sole che ragionevolmente può stimarsi delle più nobili parti del cielo qual ragione resterà potente a dissuaderci che altre ne possano accadere negli altri globi sagredo io non posso senza grande ammirazione e dirò gran ripugnanza al mio intelletto sentir attribuire per gran nobiltà e perfezione ai corpi naturali ed integranti dell'universo questo essere impassibile immutabile inalterabile eccetera e dall'incontro stimar grande imperfezione l'essere alterabile generabile mutabile eccetera io per me reputo la terra nobilissima ed ammirabile per le tante e si diverse alterazioni mutazioni generazioni eccetera che in lei incessabilmente si fanno e quando senza essere soggetta ad alcuna mutazione ella fosse tutta una vasta solitudine d'arena o una massa di diaspro o che al tempo del diluvio diacciandosi l'acqua che la coprivano fosse restata un globo immenso di cristallo dove mai non nascesse né si alterasse o si mutasse cosa veruna io la stimerei un corpaccio inutile al mondo pieno di ossio e per dirlo in breve superfluo e come se non fosse in natura e quella stessa differenza ci farei che è tra l'animale vivo e il morto ed il medesimo dico della luna di giove e di tutti gli altri globi mondani ma quanto più mi interno in considerare la vanità dei discorsi popolari tanto più gli trovo leggeri e stolti e qual maggior sciocchezza si può immaginare di quella che chiama cose preziose le gemme l'argento e l'oro e vilissime la terra e il fango e come non sovviene a questi tali che quando fosse tanta scarsità della terra quanto è delle gioie o dei metalli più pregiati non sarebbe principe alcuno che volentieri non gli spendesse una somma di diamanti di rubini e quattro carrate d'oro per avere solamente tanta terra quanta bastasse per piantare in un piccolo vaso un gelsomino o seminarvi un arancino della Cina per vederlo nascere crescere e produrre si belle frondi fiori fiori così oderosi e si gentil frutti è dunque la penuria e l'abbondanza quella che mette in prezzo e avvilisce le cose appresso il volgo il quale dirà poi quello essere un bellissimo diamante perché assimilia l'acqua pura e poi non lo cambierebbe con dieci botti d'acqua questi che esaltano tanto l'incorruttibilità l'inalterabilità eccetera credo che si riduchino a dir queste cose per il desiderio grande di campare assai e per il terrore che hanno della morte e non considerano che quando gli uomini fussero immortali a loro non toccava avvenire al mondo questi meriterebbero di incontrarsi in un capo di medusa che gli trasmutassene i statui di diastro di diamante per diventare più perfetti che non sono salviati e forse anche una tal metamorfosi non sarebbe se non con qualche loro vantaggio che meglio credo io che sia il non discorrere che discorrere a rovescio semplicio e non è dubbio alcuno che la terra è molto più perfetta essendo come ella è alterabile mutabile eccetera che se la fosse una massa di pietra quando benanco fosse un intero diamante durissimo ed impassibile ma quanto queste condizioni arrecano di nobiltà la terra altrettanto renderebbero i corpi celesti più imperfetti nei quali esse sarebbero superflui essendo che i corpi celesti cioè il sole la luna e le altre stelle che non sono ordinati ad altro uso che al servizio della terra non hanno bisogno d'altro per conseguire l'orfine che del moto e del lume sagredo adunque la natura ha prodotti ed indirizzati tanti vastissimi perfettissimi e nobilissimi corpi celesti impassibili immortali divini non ad altro uso che al servizio della terra passibile caduca e mortale al servizio di quello che voi chiamate la feccia del mondo la sentina di tutte le immondizie e a che proposito fare i colpi celesti mortali eccetera per servire a uno caduco eccetera tolto via questo uso di servire la terra l'innumerabile schiera di tutti i celesti corpi resta del tutto inutile superflua già che non hanno ne possono avere alcuna scambievole operazione fra di loro poiché tutti sono inalterabili immutabili impassibili che se verbi grazie alla luna impassibile che volete che il sole o altra stella opere in lei sarà senza alcun dubbio operazione minore assai che quella di chi con la vista o col pensiero volesse liquefare una gran massa d'oro inoltre inoltre a me pare che mentre che i corpi celesti concorrono alle generazioni e alterazioni della terra sia forza che essi ancora siano alterabili altramente non so intendere che l'applicazione della luna o del sole alla terra per farle generazioni fosse altro che mettere accanto alla sposa una statua di marmo da tal congiugnimento stare attendendo prole semplicio la corruttibilità l'alterazione la mutazione eccetera non sono nell'intero globo terrestre il quale quanto alla sua integrità è non meno eterno che il sole o la luna ma è generabile e corruttibile quanto alle sue parti esterne ma è ben vero che in esse la generazione e corruzione sono perpetue e come tali ricercano le operazioni celesti eterne e però è necessario che i corpi celesti siano eterni sagredo tutto cammina bene ma se all'eternità dell'intero globo terrestre non è punto preludiziale la corruttibilità delle parti superficiali anzi questo esser generabile corruttibile alterabile eccetera gli arreca grandornamente perfezione perché non potete e dovete voi ammettere alterazioni generazione eccetera parimenti nelle parti esterne dei globi celesti aggiungendo loro ordamento senza diminuirgli perfezione o levargli lazioni anzi accrescendo le col fare che non solo sopra la terra ma che scambievolmente fra di loro tutte oprino e la terra ancora verso di loro semplicio questo non può essere perché le generazioni mutazioni eccetera che si facessero verbi grazia nella luna sarebbero inutili e vane et natura mir frustra facit sagredo e perché sarebbero elleno inutili e vane fine della giornata prima parte settima registrazione di pierre giornata prima parte ottava del dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox punto org registrazione di pierre dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata prima parte ottava semplicio perché noi chiaramente veggiamo e tocchiamo con mano che tutte le generazioni mutazioni eccetera che si fanno in terra tutte o mediamente o immediatamente sono indirizzate all'uso al comodo e dal beneficio dell'uomo per comodo degli uomini nascono i cavalli per nutrimento dei cavalli produce la terra il fieno e le nugole la d'acquano per comodo e nutrimento degli uomini nascono le erbe le biade i frutti le fiere gli uccelli i pesci e insomma se noi andremo diligentemente esaminando e risolvendo tutte queste cose troveremo il fine al quale tutte sono indirizzate essere il bisogno l'utile il comodo e il diletto degli uomini or di quale uso potrebbero essermai al genere umano le generazioni che si facessero nella luna o in altro pianeta se già voi non voleste dire che nella luna ancora fussero uomini che godessero dei suoi frutti pensiero o favoloso o empio sagredo che nella luna o in altro pianeta si generino o erbe o piante o animali simili ai nostri o vi si tacciano piogge venti tuoni come intorno alla terra io non lo so e non lo credo e molto meno che ella sia abitata da uomini ma non intendo già come tutta volta che non vi si generino cose simili alle nostre si deva di necessità concludere che che niuna alterazione vi si faccia né vi possano essere altre cose che si mutino si generino e si dissolvano non solamente diverse dalle nostre ma lontanissime dalla nostra immaginazione e insomma del tutto a noi inescogitabili e siccome io sono sicuro che a uno nato e nutrito in una selva immensa tra fiere uccelli e che non avesse cognizione alcuna dell'elemento dell'acqua mai non gli potrebbe cadere nell'immaginazione essere in natura un altro mondo diverso dalla terra pieno di animali li quali senza gambe senza ale velocemente camminano e non sopra la superficie solamente come le fiere sopra la terra ma per entro tutta la profondità e non solamente camminano ma dovunque piace loro immobilmente si fermano cosa che non possono fare gli uccelli per aria e che qui vi di più abitano ancora uomini e vi fabbricano palazzi e città e danno tanta comodità nel viaggiare che senza niuna fatica vanno con tutta la famiglia e con la casa e con le città intere in lontanissimi paesi siccome dico io sono sicuro che un tale ancorché di perspicacissima immaginazione non si potrebbe già mai figurare i pesci l'oceano le navi le flotte e le armate di mare così e molto più può accadere che nella luna per tanto intervallo remota da noi e di materia per avventura molto diversa dalla terra siano sostanze e si facciano operazioni non solamente lontane ma del tutto fuori di ogni nostra immaginazione come quelle che non abbiano similitudine alcuna con le nostre e perciò del tutto inescogitabili avvenia che quello che noi ci immaginiamo bisogna che sia o una delle cose già vedute o un composto di cose e di parti delle cose altra volta vedute che tali sono le sfingi le sirene le chimere i centauri eccetera salviati io sono molte volte andato fantasticando sopra queste cose e finalmente mi pare di poter ritrovare bene alcune delle cose che non siano né possono esserne la luna ma non già veruna di quelle che io creda che vi siano e possano essere se non con una larghissima generalità cioè cose che l'adornino operando e muovendo e vivendo e forse con modo diversissimo dal nostro veggendo ed ammirando la grandezza e bellezza del mondo e del suo facitore e rettore e con encomi continui cantando la sua gloria ed insomma che è quello che io intendo facendo quello tanto frequentemente dagli scrittori sacri affermato cioè una perpetua occupazione di tutte le creature in laudare il dio sagredo queste sono delle cose che generalissimamente parlando vi possono essere ma io sentirei volentieri ricordare di quelle che la crede che non vi siano né possano essere le quali e forza che più particolarmente si possano nominare salviati avvertite signor sagredo che questa sarà la terza volta che noi così di passo in passo non ce ne accorgendo ci saremo deviati del nostro principale istituto e che tardi verremo a capo dei nostri esagionamenti facendo disgressioni però se vogliamo differire questo discorso tra gli altri che siamo convenuti di rimettere ad una particolar sessione sarà forse ben fatto sagredo di grazia già che siamo nella luna spediamoci dalle cose che appartengono a lei per non avere a fare un'altra volta un si lungo cammino salviati sia come vi piace e per cominciare dalle cose più generali io credo che il globo lunare sia differente assai dal terrestre ancorché in alcune cose si vegano delle conformità dirò le conformità e poi le diversità conforme è sicuramente la luna la terra nella figura la quale indubitabilmente è sferica come di necessità si conclude dal vedersi il suo disco perfettamente circolare e dalla maniera di ricevere il lume del sole dal quale se la superficie sua fosse piana verrebbe tutta nell'istesso tempo vestita e parimenti poi tutta pur in un stesso momento spogliata di luce e non prima le parti che riguardano verso il sole e successivamente le seguenti sì che giunta all'opposizione e non prima resta tutto l'apparente disco illustrato di che all'incontro accaderebbe tutto l'opposito quando la sua visibile superficie fosse concava cioè la illuminazione comincerebbe dalle parti avverse al sole secondariamente ella è come la terra per se stessa oscura e opaca per la quale opacità è atta a ricevere e a ripercuotere il lume del sole il che quando ella non fosse tale far non potrebbe terzo io tengo la sua materia densissima e solidissima non meno della terra di che mi è argomento assai chiaro l'essere la sua superficie per la maggior parte ineguale per le molte eminenze e cavità che vi si scorgono merced del telescopio delle quali eminenze me ne sono molte in tutto e per tutto simili alle nostre più aspre e scoscese montagne e vi se ne scorgono alcune tirate e continuazioni lunghe di centinaia di miglia altre sono in gruppi più raccolti e sonvi ancora molti scogli staccati e solitari ripidi assai e dirupati ma quello di che vi è maggior frequenza sono alcuni argini userò questo nome per non me ne so venire altro che più li rappresenti assai rilevati li quali racchiudono e circondano pianure di diverse grandezze e formano varie figure ma la maggior parte circolari molte delle quali hanno nel mezzo un monte rilevato assai e alcune poche sono ripiere di materia alquanto scura cioè simile a quella delle gran macchie che si vengono con l'occhio libero e queste sono delle maggiori piazze il numero poi delle minori e minori è grandissimo e pur quasi tutte circolari quarto siccome la superficie del nostro globo è distinta in due massime parti cioè nella terrestre e nell'acquatica così nel disco lunare veggiamo una distinzione magna di alcun gran campi più risplendenti e di altri meno all'aspetto dei quali credo che sarebbe quello della terra assai similiante a chi dalla luna o da altra simile lontananza la potesse vedere illustrata dal sole e apparirebbe la superficie del mare più oscura e più chiara quella della terra quinto siccome noi dalla terra veggiamo la luna or tutta luminosa or mezza or più or meno talor falcata e talvolta ci resta del tutto invisibile cioè quando sotto i raggi solari sì che la parte che riguarda la terra resta tenebrosa così appunto si vedrebbe dalla luna con l'istesso periodo a capello e sotto le medesime mutazioni di figure l'illuminazione fatta dal sole sopra la faccia della terra sesto sagredo piano un poco signor salviati che l'illuminazione della terra quanto alle diverse figure si rappresentasse a chi fusse nella luna simile in tutto a quello che noi scorgiamo nella luna l'intendo io benissimo ma non resto già capace come ella si mostrasse fatta con l'istesso periodo avvenga che quello che fa l'illuminazione del sole nella superficie lunare in un mese lo fa nella terrestre in 24 ore salviati è vero che l'effetto del sole circa l'illuminare questi due corpi e ricercare col suo splendore tutta la loro superficie si spedisce nella terra in un giorno naturale e nella luna in un mese ma non da questo solo dipende la variazione delle figure sotto le quali dalla luna si vedrebbero le parti illuminate della terrestre superficie ma dai diversi aspetti che la luna va mutando col sole si che quando verbi grazia la luna seguitasse puntualmente il moto del sole e stesse per caso sempre linearmente tra esso e la terra in quell'aspetto che noi diciamo di congiunzione vedendo ella sempre il medesimo emisferio della terra che vedrebbe il sole lo vedrebbe perpetuamente tutto lucido come per l'opposito quando ella restasse sempre all'opposizione del sole non vedrebbe mai la terra della quale sarebbe continuamente volsa verso la luna la parte tenebrosa e perciò invisibile ma quando la luna è alla quadratura del sole dell'emisfero terrestre esposto alla vista della luna quella metà che è verso il sole è luminosa e l'altra verso l'opposto del sole è oscura e però la parte della terra illuminata si rappresenterebbe la luna sotto figura di mezzo cerchio sagredo resto capacissimo del tutto ed intendo già benissimo che partendosi la luna dall'opposizione del sole di dove ella non vedeva niente dell'illuminato della terrestre superficie e venendo di giorno in giorno verso il sole incomincia a poco a poco a scoprire qualche particella della faccia della terra illuminata e questa vede ella in figura di sottil falce per essere la terra rotonda ed acquistando pur la luna col suo movimento di di in di maggior vicinità al sole viene scoprendo più e più sempre dell'emisfero terrestre illuminato sì che alla quadratura ne scuopre la metà giusto siccome noi di lei veggiamo altrettanto continuando poi di venire verso la congiunzione scuopre successivamente parte maggiore della superficie illuminata e finalmente nella congiunzione vede l'intero emiserio tutto luminoso ed insomma comprendo benissimo che quello che accade agli abitatori della terra nel vedere le varietà della luna accaderebbe a chi fusse nella luna nel veder la terra ma con ordine contrario cioè che quando la luna è a noi piena ed all'opposizione del sole a loro la terra sarebbe alla congiunzione col sole ed è del tutto oscura ed invisibile all'incontro quello stato che a noi è congiunzione della luna col sole e però luna silente non veduta la sarebbe opposizione della terra al sole e per così dire terra piena cioè tutta luminosa e finalmente quanta parte a noi di tempo in tempo si mostra della superficie lunare illuminata tanto dalla luna si vedrebbe essere nello stesso tempo la parte della terra oscura e quanto a noi resta della luna privo di lume tanto alla luna è l'illuminato della terra sì che solo nelle quadrature questi vengono mezzo cerchio della luna luminoso e quelli altrettanto della terra in una cosa mi pare che riferiscano queste scambievoli operazioni ed è che dato e non concesso che nella luna fosse chi di là potesse rimidare la terra vedrebbe ogni giorno tutta la superficie terrestre mediante il moto di essa luna intorno alla terra in 24 o 25 ore ma noi non vediamo mai altro che la metà della luna poiché ella non si rivolge in se stessa come bisognerebbe per potercisi tutta mostrare salviati purché questo non accaggia per il contrario cioè che il rigirarsi ella in se stessa sia cagione che noi non veggiamo mai l'altra metà che così sarebbe necessario che fosse quando ella avesse l'epiciclo ma dove lasciate voi un'altra differenza in contraccambio di questa avvertita da voi sagredo e qual è che altra per ora non mi viene in mente salviati è che se la terra come bene avete notato non vede altro che la metà della luna dove che dalla luna viene vista tutta la terra all'incontro tutta la terra vede la luna ma della luna solo la metà vede la terra perché gli abitatori per così dire dell'emisfero superiore della luna che a noi è invisibile sono privi della vista della terra e questi sono forse gli antitictoni ma qui mi sovvieno ora ad un particolare accidente nuovamente osservato dal nostro accademico nella luna per il quale si raccolgono due conseguenze necessarie l'una è che noi veggiamo qualche cosa di più della metà della luna e l'altra è che il moto della luna ha giustamente relazione al centro della terra e l'accidente e l'osservazione è tale quando la luna abbia una corrispondenza e natural simpatia con la terra verso la quale con una tal sua determinata parte e la riguardi è necessario che la linea retta che congiugne i loro centri passi sempre per l'istesso punto della superficie della luna tal che quello che dal centro della terra la rimirasse vedrebbe sempre l'istesso disco della luna puntualmente terminato da una medesima circonferenza ma di uno costituito sopra la superficie terrestre il raggio che dall'occhio suo andasse sino al centro del globo lunare non passerebbe per l'istesso punto della superficie di quella per il quale passa la linea tirata dal centro della terra a quel della luna se non quando ella gli fusse verticale ma posta la luna in oriente o in occidente il punto dell'incidenza del raggio visuale resta superiore a quel della linea che congiugne i centri e però si scuopre qualche parte dell'emisfero unare verso la circonferenza di sopra e si nasconde altrettanto dalla parte di sotto si scuopre dico e si nasconde rispetto all'emisfero che si vedrebbe dal vero centro della terra e perché la parte della circonferenza della luna che è superiore nel nascere è inferiore nel tramontare però assai notabile dovrà farsi la differenza dell'aspetto di esse parti superiore e inferiore scoprendosi ora ed ora ascondendosi delle macchie o altre cose notabili di esse parti una simil variazione dovrebbe scorgersi ancora verso l'estremità boreale ed australe del medesimo disco secondo che la luna si trova in questo o in quel ventre del suo dragone perché quando ella è settentrionale alcuna delle sue parti verso settentrione ci si nasconde e si scuopre delle australi e per l'opposito ora che queste conseguenze si verifichino infatto il telescopio ce ne rende certi in perroché sono nella luna due macchie particolari una delle quali quando la luna è nel meridiano guarda verso maestro e l'altra gli è quasi diametralmente opposta e la prima è visibile anche senza il telescopio ma non già l'altra è la maestrale una macchietta ovata divisa dall'altre grandissime l'opposta è minore e parimenti separata dalle grandissime e situata in campo assai chiaro in amendue queste si osservano molto manifestamente le variazioni già dette e veggonsi contrariamente l'una dall'altra ora vicine al limbo del disco lunare ed ora allontanate con differenza tale che l'intervallo tra la maestrale e la circonferenza del disco è più che il doppio maggiore una volta che l'altra e quanto all'altra macchia perché l'è più vicina alla circonferenza tal mutazione importa più che il triplo da una volta all'altra di cui è manifesto la luna come allettata da virtù magnetica costantemente riguardare con una sua faccia il globo terrestre né da quello divertir mai sagredo e quando si ha a por termine alle nuove osservazioni e scoprimenti di questo ammirabile strumento salviati se i progressi di questa son per andar secondo quelli di altre invenzioni grandi è da sperare che col progresso del tempo si sia per arrivare a vedere cose a noi per ora inimmaginabili ma tornando al nostro primo discorso dico per la sesta congruenza tra la luna e la terra che siccome la luna gran parte del tempo supplisce al mancamento del lume e del sole e ci rende con la riflessione del suo le notti assai chiare così la terra ad essa in ricompensa rende quando ella ne è più bisognosa con rifletterle i raggi solari una molto gagliarda illuminazione e tanto per mio parere maggior di quella che a noi viene da lei quanto la superficie della terra è più grande di quella della luna sagredo non più non più signor salviati lasciatemi il gusto di mostrarvi come a questo primo cenno ho penetrato la causa di un accidente al quale mille volte ho pensato né mai l'ho potuto penetrare voi volete dire che certa luce abbagliata che si vede nella luna massimamente quando l'è falcata viene dal reflesso del lume del sole nella superficie della terra e del mare e più si vede dal lume chiaro quanto la falce più sottile perché allora maggiore è la parte luminosa della terra che dalla luna è veduta conforme a quello che poco fa si concluse cioè che sempre tanta è la parte luminosa della terra che si mostra la luna quanta l'oscura della luna che guarda verso la terra onde quando la luna è sottilmente falcata ed in conseguenza grande è la sua parte tenebrosa grande è la parte illuminata della terra veduta dalla luna e tanto più potente la riflessione del lume salviati questo è puntualmente quello che io voleva dire insomma gran dolcezza è il parlare con persone giudiziose e di buona apprensiva e massime quando altri va passeggiando e discorrendo tra i veri io mi son più volte incontrato in cervelli tanto duri che per mille volte che io abbia loro replicato questo che voi avete subito per voi medesimo penetrato mai non è stato possibile che la prendano semplicio se voi volete dire di non averlo potuto persuadere loro sì che l'intendino io molto me ne maraviglio e sono sicuro che non l'intendendo dalla vostra esplicazione non intenderanno forse per quella di altri parendomi la vostra espressiva molto chiara ma se voi intendete di non gli aver persuasi sì che lo credano di questo non mi maraviglio punto perché io stesso ho confesso di essere un di quelli che intendono i vostri discorsi ma non vi si quietano anzi mi restano in questa e in parte delle altre sei congruenze molte difficoltà le quali promuoverò quando avrete finito di raccontarle tutte salviati il desiderio che ho di ritrovare qualche verità nel quale acquisto assai mi possono aiutare le obiezioni di uomini intelligenti qual siete voi mi farà esser brevissimo nello spedirmi da quel che ci resta sia dunque la settima congruenza il rispondersi reciprocamente non meno alle offese che ai favori onde la luna che bene spesso nel colmo della sua illuminazione per l'interposizione della terra tra sé e il sole viene privata di luce ed eclissata così essa ancora per suo riscatto si interpone tra la terra e il sole e con l'ombra sua oscura la terra e se ben la vendetta non è pari all'offesa perché bene spesso la luna rimane ed anco per assai lungo tempo immersa totalmente nell'ombra della terra ma non già mai tutta la terra né per lungo spazio di tempo resta oscurata dalla luna tuttavia avendosi riguardo alla picciolezza del corpo di questa in comparazione della grandezza di quello non si può dire se non che il valore in un certo modo dell'animo sia grandissimo questo è quanto alle congruenze seguirebbe ora il discorrere circa le disparità ma perché il signor Simplicio ci vuole favorire dei dubbi contro di quelle sarà bene sentirgli e ponderargli prima che passare avanti fine della giornata prima parte ottava registrazione di pierre giornata prima parte nona di dialogo dei massimi sistemi di è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di pierre dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata prima parte nona sagredo sì perché è credibile che il signor simplicio non sia per aver repugnanza intorno alle disparità e differenze tra la terra e la luna già che egli stima le loro sostanze diversissime simplicio delle congruenze recitate da voi nel far parallelo tra la terra e la luna non sento di poter ammettere senza repugnanza se non la prima e due altre ammetto la prima cioè la figura sferica se ben anco in questa vi è non so che stimando io quella della luna essere pulitissima e tersa come uno specchio dove che questa della terra tocchiamo con mano esser scabrosissima ed aspra ma questa attenente all'inegualità della superficie va considerata in un'altra delle congruenze arrecate da voi però mi riservo a dirne quanto mi occorre nella considerazione di quella che la luna sia poi come voi dite nella seconda congruenza opaca e oscura per se stessa come la terra io non ammetto se non il primo attributo dell'opacità del che mi assicurano gli eclisi solari che quando la luna fosse trasparente l'aria nella totale oscurazione del sole non resterebbe così tenebrosa come ella resta ma per la trasparenza del corpo lunare trapasserebbe una luce refratta come veggiamo farsi per le più dense nugole ma quanto all'oscurità io non credo che la luna sia del tutto priva di luce come la terra anzi quella chiarezza che si scorge nel resto del suo disco oltre alle sottili corna illustrate dal sole reputo che sia suo proprio e natural lume e non un riflesso della terra la quale io stimo impotente per la sua somma sprezza e oscurità a riflettere i raggi del sole nel terzo parallelo convengo con voi in una parte e nell'altra dissento convengo nel giudicare il corpo della luna solidissimo e duro come la terra anzi più assai perché se da aristotile noi caviamo che il cielo sia di durezza impenetrabile e le stelle parti più dense del cielo è ben necessario che le siano saldissime ed impenetrabilissime sagredo che bella materia sarebbe quella del cielo per fabbricare palazzi chi ne potesse avere così dura e tanto trasparente salviati anzi pessima perché essendo per la somma trasparenza del tutto invisibile non si potrebbe senza gran pericolo di urtare negli stipiti e spezzarsi il capo camminare per le stanze sagredo codesto pericolo non si correrebbe egli se è vero come dicono alcuni peripatetici che la sia intangibile e se la non si può toccare molto meno si potrebbe urtare salviati di ognuno sollevamento sarebbe cotesto conciossi a cosa che se ben la materia celeste non può essere toccata perché manca delle tangibili qualità può ben ella toccare i corpi elementari e per offenderci tanto è che ella urti in noi ed ancor peggio che se noi urtassimo in lei ma lasciamo star questi palazzi o per dir meglio castelli in aria e non impediamo il signor Simplicio Simplicio la questione che voi avete così incidentalmente promossa è delle difficili che si trattino in filosofia e io c'ho intorno di bellissimi pensieri di un gran cattedrante di padova ma non è tempo di entrarvi adesso però tornando al nostro proposito replico che stimola luna solidissima più della terra ma non l'argomento già come fate voi dalla sprezza e scabrosità della sua superficie anzi dal contrario cioè dall'essere atta ricevere come leggiamo tra noi nelle gemme più dure un pulimento illustro superiore a qual si sia specchio più terzo che tale è necessario che sia la sua superficie per poterci fare si viva riflessione dei raggi del sole quelle apparenze poi che voi dite di monti di scogli di argini di valli eccetera sono tutte illusioni e io mi sono ritrovato a sentire in pubbliche dispute sostenere gagliardamente contro a questi introduttori di novità che tali apparenze non da altro provengono che da parti inegualmente opache e perspicue delle quali interiormente ed esteriormente è composta la luna come spesso veggiamo accadere nel cristallo nell'ambra ed in molte pietre preziose perfettamente lustrate dove per l'opacità di alcune parti e per la trasparenza di altre appariscono in quelle varie concavità e prominenze nella quarta congruenza concedo che la superficie del globo terrestre veduto di lontano farebbe due diverse apparenze cioè una più chiara e l'altra più oscura ma stimo che tali diversità accaderebbero al contrario di quel che dite voi cioè credo che la superficie dell'acqua apparirebbe lucida perché è liscia e trasparente e quella della terra resterebbe oscura per la sua opacità e scabrosità male accomodata a riverberare il lume del sole circa il quinto riscontro lo ammetto tutto resto capace che quando la terra risplendesse come la luna si mostrerebbe a chi di lassù la rimirasse sotto figure conformi a quelle che noi leggiamo nella luna comprendo anche come il periodo della sua illuminazione e variazione di figure sarebbe di un mese benché il sole la ricerchi tutta in 24 ore e finalmente non ho difficoltà nell'ammettere che la metà sola della luna vede tutta la terra e che tutta la terra vede solo la metà della luna nel resto reputo falsissimo che la luna possa ricevere lume dalla terra che è oscurissima opaca e iniettissima a riflettere il lume del sole come ben lo riflette la luna a noi e come ho detto stimo che quel lume che si vede nel resto della faccia della luna oltre oltre corne splendidissime per l'illuminazione del sole sia proprio e naturale della luna e gran cosa ci vorrebbe a farmi credere altrimenti il settimo degli eclissi scambievoli si può anche ammettere se ben propriamente si costuma chiamare eclisse del sole questo che voi volete chiamare eclisse della terra e questo è quanto per ora mi occorre dirvi in contraddizione alle sette congruenze alle quali istanze se vi piacerà di replicare alcuna cosa l'ascolterò volentieri salviati se io ho bene appreso quanto avete risposto parmi che tra voi e noi restino ancora controverse alcune condizioni le quali Dio faceva comuni alla luna e alla terra e sono queste voi stimate la luna tersa e liscia come uno specchio e come tale atta a rifletterci il lume del sole e dall'incontro la terra per la sua sprezza non potente a far simile riflessione concedete la luna solida e dura e ciò argumentate dall'essere pulita e terza e non dall'essere montuosa e dall'apparir montuosa ne assegnate per causa l'essere di parti più o meno opache per spicque e finalmente stimate quella luce secondaria esser propria della luna e non per riflessione della terra se ben par che al mare per essere di superficie pulita voi non neghiate qualche riflessione quanto al torvi di errore che la riflessione della luna non si faccia come da uno specchio ci ho poca speranza mentre veggo che quello che in tale proposito si legge nel saggiatore e nelle lettere solari del nostro amico comune non ha approfittato nulla nel vostro concetto se però voi avete attentamente letto quanto vi è scritto in tal materia semplicio io l'ho trascorso così superficialmente conforme al poco tempo che mi viene lasciato ozioso da studi più sodi però se con replicare alcune di quelle ragioni o con la durne altre voi pensate risolvermi le difficoltà le ascolterò più attentamente salviati io dirò quello che mi viene in mente al presente e potrebbe essere che fosse una mischione di concetti miei propri e di quelli che già lessi nei detti libri dai quali mi sovvien bene che io restai interamente persuaso ancorché le conclusioni nel primo aspetto mi pare essere gran paradossi noi cerchiamo signor Simplicio se per fare una riflessione di lume simile a quello che ci viene dalla luna sia necessario che la superficie da cui viene la riflessione sia così tersa e liscia come di uno specchio oppure sia più accomodata una superficie non tersa e non liscia ma aspra e mal pulita ora quando a noi venisse a due riflessioni una più lucida e l'altra meno da due superficie opposteci io vi domando qual delle due superficie voi credete che si rappresentasse agli occhi nostri più chiara e qual più oscura Simplicio credo senza dubbio che quella che più vivamente mi riflettesse lume mi si mostrerebbe in aspetto più chiara e l'altra più oscura salviati pigliate ora in cortesia quello specchio che è attaccato a quel muro e usciamo qua nella corte venite signor sagredo attaccate lo specchio là a quel muro dove batte il sole discostiamoci e ritiriamoci qua all'ombra ecco la due superficie percosse dal sole cioè il muro e lo specchio ditemi ora qual vi si rappresenta più chiara quella del muro o quella dello specchio voi non rispondete sagredo io lascio rispondere al signor Simplicio che ha la difficoltà che io quanto a me da questo poco principio di esperienza sono persuaso che bisogna per necessità che la luna sia di superficie molto mal pulita salviati dite signor Simplicio se voi aveste a ritrarre quel muro con quello specchio attaccatovi dove adoperreste voi colori più oscuri nel dipignere il muro oppure nel dipignere lo specchio Simplicio assai più scuri nel dipigner lo specchio salviati or se dalla superficie che si rappresenta più chiara viene la riflessione del lume più potente più vivamente ci rifletterà i raggi del sole il muro che lo specchio Simplicio benissimo signor mio avete voi migliori esperienze di queste voi ci avete posti in luogo dove non batte il reverbero dello specchio ma venite meco un poco più in qua no venite pure Sagredo cercate voi forse il luogo della riflessione che fa lo specchio Simplicio signor sì Sagredo oh vedetela là nel muro opposto grande giusto quanto lo specchio e chiara poco meno che se vi battesse il sole direttamente Simplicio venite dunque qua e guardate di lì la superficie dello specchio e sappiatemi dire se l'è più scura di quella del muro Sagredo guardatela pur voi che io per ancora non voglio accecare e so benissimo senza guardarla che la si mostra vivace e chiara quanto il sole stesso o poco meno Simplicio che dite voi dunque che la riflessione di uno specchio sia men potente di quella di un muro io veggo che in questo muro opposto dove arriva il riflesso dell'altra parete illuminata insieme con quel dello specchio questo dello specchio è assai più chiaro e veggio parimente che di qui lo specchio medesimo mi apparisce più chiaro assai che il muro salviati voi con la vostra accortezza mi avete prevenuto perché di questa medesima osservazione avevo bisogno per dichiarare quel che resta voi vedete dunque la differenza che cade tra le due riflessioni fatte dalle due superfici del muro e dello specchio percosse negli stesso modo per l'appunto dai raggi solari e vedete come la riflessione che viene dal muro si diffonde verso tutte le parti opposteli ma quella dello specchio va verso una parte sola non punto maggiore dello specchio medesimo vedete parimente come la superficie del muro riguardata da qualsivoglia luogo si mostra chiara sempre ugualmente a se stessa e per tutto assai più chiara che quella dello specchio eccettuandone quel piccolo luogo solamente dove batte il reflesso dello specchio che di lì apparisce lo specchio molto più chiaro del muro da queste così sensate e palpabili esperienze mi par che molto speditamente si possa venire in cognizione se la riflessione che ci viene dalla luna venga come da uno specchio oppure come da un muro cioè se da una superficie liscia oppure aspra sagredo se io fossi nella luna stessa non credo che io potessi con mano toccar più chiaramente la sprezza della sua superficie di quel ch'io me la scorga ora con la pressione del discorso la luna veduta in qualsivoglia positura rispetto al sole a noi ci mostra la sua superficie tocca dal sole sempre ugualmente chiara effetto che risponde a capello a quel del muro che riguardato da qualsivoglia luogo apparisce ugualmente chiaro e discorda dallo specchio che da un luogo solo si mostra luminoso e da tutti gli altri oscuro inoltre la luce che mi viene dalla riflessione del muro è tollerabile e debile in comparazione di quella dello specchio gagliardissima ed offensiva la vista poco meno della primaria diretta del sole e così con suavità riguardiamo la faccia della luna che quando ella fusse come uno specchio mostrandoci si anco per la vicinità grande quanto di stesso sole sarebbe il suo fulgore assolutamente intollerabile e ci parrebbe di riguardare quasi un altro sole salviati non attribuite di grazia signor sagredo alla mia dimostrazione più di quello che le si perviene io voglio muovervi contro un'istanza che non so quanto sia di agevole scioglimento voi portate per gran diversità tra la luna e lo specchio che la rimandi la riflessione verso tutte le parti ugualmente come fa il muro dove che lo specchio la manda in un luogo solo determinato e di qui concludete la luna essere simile al muro e non allo specchio ma io vi dico che quello specchio manda la riflessione in un luogo solo perché la sua superficie è piana e dovendo i raggi riflessi partirsi ad angoli uguali a quelli dei raggi incidenti è forza che da una superficie piana si partano unitamente verso il medesimo luogo ma essendo che la superficie della luna è non piana ma sferica ed i raggi incidenti sopra una tal superficie trovano da riflettersi ad angoli uguali a quelle dell'incidenza verso tutte le parti mediante la infinità delle inclinazioni che compongono la superficie sferica adunque la luna può mandare la riflessione per tutto e non è necessitata mandare in un luogo solo come quello specchio che è piano semplicio questa è appunto una delle obiezioni che io volevo fargli contro sagredo se questa è una è forza che voi ne abbiate delle altre però ditele che quanto a questa prima mi par che la sia per riuscire più contro di voi che in favore semplicio voi avete pronunziato come cosa manifesta che la riflessione fatta da quel muro sia così chiara ed illuminante come quella che ci viene dalla luna ed io la stimo come nulla in comparazione di quella in perro che in questo negozio dell'illuminazione bisogna aver riguardo e distinguere la sfera di attività e chi dubita che i corpi celesti abbiano maggior sfera di attività che questi nostri elementari caduchi e mortali e quel muro finalmente che è gli altro che un poco di terra oscura e netta all'illuminare sagredo e qui ancora credo che voi vi ingagnate di assai ma vengo alla prima istanza mossa dal signor salviati e considero che per far che un oggetto ci apparisca luminoso non basta che sopra esso caschino i raggi del corpo illuminante ma ci bisogna che i raggi riflessi vengano all'occhio nostro come apertamente si vede nell'esempio di quello specchio sopra il quale non ha dubbio che vengono i raggi luminosi del sole con tutto ciò ei non ci si mostra chiaro ed illustrato se non quando noi mettiamo l'occhio in quel luogo particolare dove va la riflessione consideriamo adesso quel che accaderebbe quando lo specchio fosse di superficie sferica che senz'altro noi troveremo che della riflessione che si fa da tutta la superficie illuminata piccolissima parte è quella che perviene all'occhio di un particolare riguardante per essere una minimissima particella di tutta la superficie sferica quella l'inclinazione della quale ripercuote il raggio al luogo particolare dell'occhio onde minima conviene che sia la parte della superficie sferica che all'occhio si mostra splendente rappresentandosi tutto il rimanente oscuro quando dunque la luna fusse terza come uno specchio piccolissima parte si mostrerebbe agli occhi di un particolare illustrata dal sole ancorché tutto un emisferio fusse esposto ai raggi solari ed il resto rimarrebbe all'occhio del riguardante come non illuminato e perciò invisibile e finalmente invisibile ancora del tutto la luna avvenia che quella particella onde venisse la riflessione per la sua piccolezza e gran lontananza si perderebbe e siccome all'occhio ella resterebbe invisibile così la sua illuminazione resterebbe nulla che bene è impossibile che un corpo luminoso togliesse via le nostre tenebre col suo splendore e che noi non lo vedessimo salviati fermate in grazia signor sagredo perché io vedo alcuni movimenti nel viso e nella persona del signor semplicio che mi sono indizi che non resti o ben capace o soddisfatto di questo che voi consomma evidenza e assoluta verità avete detto eppur ora mi è sovvenuto di potergli con altra esperienza rimuovere ogni scrupolo io ho veduto in una camera di sopra un grande specchio sferico facciamolo portare qua e mentre che si conduce torna il signor semplicio a considerare quanta è grande la chiarezza che viene dalla parete qui sotto la loggia dal reflesso dello specchio piano semplicio io vedgo che le chiara poco meno che se vi percotesse direttamente il sole salviati così è veramente or ditemi se levando via quel piccolo specchio piano metteremo negli stesso luogo quel grande sferico quale effetto credete voi che sia per fare la sua riflessione nella medesima parete semplicio credo che gli arricchiera lume molto maggiore e molto più ampio salviati ma se l'illuminazione sarà nulla o così piccola che appena ve ne accorgiate che direte allora semplicio quando avrò visto l'effetto penserò alla risposta salviati ecco lo specchio il quale voglio che sia posto accanto all'altro ma prima andiamo là vicino al riflesso di quel piano e rimirate attentamente la sua chiarezza vedete com'è chiaro qui dove batte e come distintamente si vengono tutte queste minuzie del muro semplicio ho visto e osservato benissimo fate mettere l'altro specchio accanto al primo salviati eccolo vi fu messo subito che cominciaste a guardare le minuzie e non ve ne siete accorto si grande è stato l'accrescimento del lume nel resto della parete or tolgasi via lo specchio piano eccovi levata via ogni riflessione ancor che vi sia rimasto il grande specchio convesso rimuovasi questo ancora e poi vi si riponga quanto vi piace voi non vedrete mutazione alcuna di luce in tutto il muro eccovi dunque mostrato al senso come la riflessione del sole fatta in specchio sferico convesso non illumina sensibilmente i luoghi circonvicini ora che risponderete voi a questa esperienza semplicio io ho paura che qui non entri qualche giuoco di mano io veggo pure nel riguardare quello specchio uscire un grande splendore che quasi mi toglie la vista e quel che più importa ve lo veggo sempre da qualsivoglia luogo che io lo rimiri e veggo lo andar mutando sito sopra la superficie dello specchio secondo che io mi pongo a rimirarlo in questo o in quel luogo argomento necessario che il lume si riflette vivo assai verso tutte le bande ed in conseguenza così potente soprattutto a quella parete come sopra il mio occhio salviati or vedete quanto bisogna andar cauto e riservato nel prestare assenso a quello che il solo discorso ci rappresenta non ha dubbio che questo che voi dite ha assai dell'apparente tuttavia potete vedere come la sensata esperienza mostra in contrario semplicio come dunque cammina questo negozio salviati io vi dirò quel che ne sento che non so quanto vi sia per appagare e prima quello splendore così vivo che voi vedete sopra lo specchio e che vi par che ne occupe assai buona parte non è così grande a gran pezzo anzi è piccolo assai assai ma la sua vivezza cagiona nell'occhio vostro mediante la riflessione fatta nell'umido degli orli delle palpebre la quale si distende sopra la pupilla una irradiazione avventizia simile a quel capillizio che ci par di vedere intorno alla fiammella di una candela posta alquanto lontana o vogliate assimiliarla allo splendore avventizio di una stella che se voi paragonerete il piccolo corpicello verbigrazia della canicola veduto di giorno col telescopio quando si vede senza irradiazione col medesimo veduto di notte con l'occhio libero voi fuori di ogni dubbio comprenderete che l'irraggiato si mostra più di mille volte maggiore del nudo e real corpicello ed un simile o maggior ricrescimento fa l'immagine del sole che voi vedete in quello specchio dico maggiore per essere la più viva della stella come è manifesto dal potersi rimirare la stella con assai minore offesa alla vista che questa riflessione dello specchio il reverbero dunque che si ha da partecipare soprattutto a questa parete viene da piccola parte di quello specchio e quello che pur ora veniva da tutto lo specchio piano si partecipava e ristrigneva a piccolissima parte della medesima parete qual meraviglia è dunque che la riflessione prima illumini molto vivamente e che quest'altra resti quasi impercettibile semplicio io mi trovo più inviluppato che mai e mi sopraggiugne l'altra difficoltà come possa essere che quel muro essendo di materia così oscura e di superficie così mal pulita abbia ripercuoter lume più potente e vivace che uno specchio ben terzo e pulito fine della giornata prima parte nona registrazione di pierre giornata prima parte decima di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di pierre dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata prima parte decima salviati più vivace no ma ben più universale che quanto alla vivezza voi vedete che la riflessione di quello specchietto piano dove ella ferisce là sotto la loggia illumina gagliardamente ed il restante della parete che riceve la riflessione del muro dove è attaccato lo specchio non è a gran segno illuminato come la piccola parte dove arriva il reflesso dello specchio e se voi desiderate intender l'intero di questo negozio considerate come l'essere la superficie di quel muro aspra è lì stesso che l'essere composta di innumerabili superficie piccolissime disposte secondo innumerabili diversità di inclinazioni tra le quali di necessità accade che ne siano molte disposte a mandare i raggi riflessi da loro in un tal luogo molte altre in altro ed insomma non è luogo alcuno al quale non arrivino moltissimi raggi riflessi da moltissime superficette sparse per tutta l'intera superficie del corpo scabroso sopra il quale cascano i raggi luminosi dal che segue di necessità che sopra qualsivoglia parte di qualunque superficie opposta a quella che riceve i raggi primari incidenti pervengano raggi riflessi ed in conseguenza l'illuminazione seguene ancora che il medesimo corpo sul quale vengono i raggi illuminanti rimirato da qualsivoglia luogo si mostri tutto illuminato e chiaro e però la luna per essere di superficie aspra e non tersa rimanda la luce del sole verso tutte le bande e da tutti riguardanti si mostra ugualmente lucida che se la superficie sua essendo sferica fosse ancora liscia come uno specchio resterebbe del tutto invisibile atteso che quella piccolissima parte dalla quale potesse venire riflessa l'immagine del sole all'occhio di un particolare per la gran lontananza resterebbe invisibile come già abbiamo detto simplicio resto assai ben capace del vostro discorso tuttavia mi par di poter risolverlo con pochissima fatica e mantenere benissimo che la luna sia rotonda e pulitissima e che rifletta il lume del sole a noi al modo di uno specchio né perciò l'immagine del sole si deve vedere nel suo mezzo avvenga che non per la specie degli stesso sole possa vedersi in si gran distanza la piccola figura del sole ma sia compresa da noi per il lume prodotto dal sole l'illuminazione di tutto il corpo lunare una tal cosa possiamo noi vedere in una piastra dorata e ben brunita che percossa da un corpo luminoso si mostra a chi la guarda da lontano tutta risplendente e solo da vicino si scorge nel mezzo di essa la piccola immagine del corpo luminoso salviati confessando ingenuamente la mia incapacità dico che non intendo di questo vostro discorso altro che di quella piastra dorata e se voi mi concedete il parlar liberamente ho grande opinione che voi ancora non l'intendiate ma abbiate imparate a mente quelle parole scritte da qualcuno per desiderio di contraddire e mostrarsi più intelligente dell'avversario mostrarsi però a quelli che per apparir eglino ancora intelligenti applaudono a quello che non intendono e maggior concetto si formano delle persone secondo che da loro sono manco intese eppur che lo scrittore stesso non sia come molti ce ne sono di quelli che scrivono quel che non intendono e che però non si intende quel che essi scrivono però lasciando il resto vi rispondo quanto alla piasta dorata che quando ella sia piana e non molto grande potrà apparire da lontano tutta risplendente mentre sia ferita da un lume gagliardo ma però si vedrà tale quando l'occhio sia in una linea determinata cioè in quella dei raggi riflessi e vedrassi più fiammeggiante che se fosse verbigrazie d'argento mediante l'essere colorata edatta per la somma densità del metallo a ricevere brunimento perfettissimo e quando la sua superficie essendo benissimo lustrata non fosse poi esattamente piana ma avesse varie inclinazioni allora anche da più luoghi si vedrebbe il suo splendore cioè da tanti a quanti pervenissero le varie riflessioni fatte dalle diverse superficie che però si lavorano i diamanti a molte facce a ciò il loro divertevole fulgore si scorga da molti luoghi ma quando la piastra fusse molto grande non però da lontano ancorché ella fusse tutta piana si vedrebbe tutta risplendente e per meglio dichiararmi intendasi una piastra dorata piana e grandissima esposta al sole mostrerassi a un occhio lontano l'immagine del sole occupare una parte di tal piastra solamente cioè quella d'onde viene la riflessione dei raggi solari incidenti ma è vero che per la velocità del lume tal'immagine apparirà in ghirlandata di molti raggi e però sembrerà occupare maggior parte assai della piastra che veramente ella non occuperà e che ciò sia vero notato il luogo particolare della piastra dove viene la riflessione e figurato parimente quanto grande mi si rappresenta lo spazio risplendente cuoprasi di esso spazio la maggior parte lasciando solamente scoperto intorno al mezzo non però si diminuirà appunto la grandezza dell'apparente splendore a quello che di lontano lo rimira anzi si vedrà egli largamente sparso sopra il panno o altro con che si ricoperse se dunque alcuno col vedere una piccola piastra dorata da lontano tutta risplendente si sarà immaginato che lì stesso dovesse accadere anco di piastre grandi quanto la luna si è ingannato non meno che se credesse la luna non essere maggiore di un fondo di tino quando poi la piastra fusse di superficie sferica vedrebbesi in una sola sua particella il reflesso gagliardo ma ben mediante la vivezza si mostrerebbe inghirlandato di molti raggi assai vibranti il resto della palla si vedrebbe come colorato e questo anco solamente quando e non fusse in sommo grado pulito che quando e fusse brunito perfettamente apparirebbe oscuro esempio di questo avviamo giornalmente avanti gli occhi nei vasi d'argento li quali mentre sono solamente bolliti nel bianchimento sono tutti candidi come la neve ne punto rendono immagini ma se in alcuna parte si bruniscono in quella subito diventano oscuri e di lì rendono immagini come specchi e quel divenire oscuro non procede da altro che dall'essersi spianata una finissima grana che faceva la superficie dell'argento scabrosa e però tale che rifletteva il lume verso tutte le parti per lo che da tutti i luoghi si mostrava ugualmente illuminata quando poi col brumirla si spiamano esquisitamente quelle minime inegualità sì che la riflessione dei raggi incidenti si drizza tutta in luogo determinato allora da quel tal luogo si mostra la parte brunita assai più chiara e lucida del restante che è solamente bianchito ma da tutti gli altri luoghi si vede molto oscura è noto che la diversità delle vedute nel rimirare superficie brunite cagiona differenze tali di apparenze che per imitare e rappresentare in pittura verbi grazia una corrazza brunita bisogna accoppiare neri schietti e bianchi l'uno accanto all'altro in parti di essa arme dove il lume cade ugualmente sagredo adunque quando questi signori filosofi si contentassero di concedere che la luna venere e gli altri pianeti fussero di superficie non così lustra e tersa come uno specchio ma un capello manco cioè qual è una piastra di argento bianchita solamente ma non brunita questo basterebbe a poterla fare visibile e accomodata a ripercuoterci il lume del sole salviati basterebbe in parte ma non renderebbe un lume così potente come fa essendo montuosa ed insomma piena di eminenze e cavità grandi ma questi signori filosofi non la concederanno mai pulita meno di uno specchio ma bene assai più se più si può immaginare perché stimando eglino che a corpi perfettissimi si convengano figure perfettissime bisogna che la sfericità di quei globi celesti sia assolutissima oltre che quando e mi concedessero qualche ineguabilità ancorché minima io me ne prenderei senza scupero alcuno altra assai maggiore perché consistendo tal perfezione in indivisibili tanto la guasta un capello quanto una montagna sagredo qui mi nascono due dubbi l'uno è l'intendere perché la maggiore inegualità di superficie abbia a far più potente riflessione di lume l'altro è perché questi signori per i patetici voglian questa esatta figura salviati al primo risponderò io ed al signor semplicio lascerò la cura di rispondere al secondo deve si dunque avvertire che le medesime superficie vengono dal medesimo lume più e meno illuminate secondo che i raggi illuminanti vi cascano sopra più o meno obliquamente sì che la massima illuminazione è dove i raggi sono perpendicolari ed ecco che io ve lo mostro al senso io piego questo foglio tanto che una parte faccia angolo sopra l'altra ed esponendole alla riflessione del lume di quel muro opposto vedete come questa faccia che riceve i raggi obliquamente è manco chiara di quest'altra dove la riflessione viene ad angoli retti e notate come secondo che io gli voo ricevendo più e più obliquamente l'illuminazione si fa più debole sagredo veggo l'effetto ma non comprendo la causa salviati se voi ci pensaste un centesimo d'ora la trovereste ma per non consumare il tempo eccovene un poco di dimostrazione in questa figura settima sagredo la sola vista della figura mi ha chiarito il tutto però seguite simplicio dite in grazia al resto a me che non sono di si veloce apprensiva salviate fate conto che tutte le linee parallele che voi vedete partirsi dai termini a b siano i raggi che sopra la linea c d vengono ad angoli retti inclinate ora la medesima c d sì che penda come d o non vedete voi che buona parte di quei raggi che ferivano la c d passano senza toccare la d o adunque se la d o è illuminata da manco raggi è ben ragionevole che il lume ricevuto da lei sia più debole torniamo ora alla luna la quale essendo di figura sferica quando la sua superficie fosse pulita quanto questa carta le parti del suo emisferio illuminato dal sole che sono verso le estremità riceverebbero minor lume assaissimo che le parti di mezzo cadendo sopra quelle i raggi obliquissimi e sopra queste ad angoli retti per lo che nel plenilunio quando noi veggiamo quasi tutto l'emisferio illuminato le parti verso il mezzo ci si dovrebbero mostrare più risplendenti che l'altra verso la circonferenza il che non si vede figuratevi ora la faccia della luna piena di montagne ben alte non vedete voi come le piagge e i dorsi loro elevandosi sopra la confessità della perfetta superficie sferica vengono esposti alla vista del sole e accomodati a ricevere i raggi assai meno obliquamente e perciò a mostrarsi illuminati quanto il resto sagredo tutto bene ma se vi sono tali montagne l'è vero che il sole le ferirà assai più direttamente che non farebbe l'inclinazione di una superficie pulita ma è anche vero che tra esse montagne resterebbero tutte le valli oscure mediante l'ombre grandissime che in quel tempo verrebbero dai monti dove che le parti di mezzo benché piene di valli e monte mediante l'avere il sole elevato rimarrebbero senza ombre e però più lucide assai che le parti estreme sparse non men di ombre che di lume e pur tuttavia non si vede tal differenza Simplicio una simile difficoltà mi si andava avvolgendo per la fantasia Salviati quanto è più pronto signor Simplicio a penetrare le difficoltà che favoriscono le opinioni di Aristotile che le soluzioni ma io ho qualche sospetto che ha bello studio e voglia anche talvolta racerle e nel presente particolare avendo da per sé potuto vedere l'obiezione cheppure è assai ingegnosa non posso credere che non l'abbia ancora avvertita la risposta un Dio voglio voglio tentare di cavargerla come si dice di bocca però ditemi signor Simplicio credete voi che possa essere ombra dove feriscono i raggi del sole Simplicio credo anzi sono sicuro che no perché essendo egli il massimo luminare che scaccia con i suoi raggi le tenebre è impossibile che dove egli arriva resti tenebroso e poi abbiamo la definizione che tenebre sunt privatio luminis salviati adunque il sole rimirando la terra o la luna o altro corpo opaco non vede mai alcuna delle sue parti ombrose non avendo altri occhi da vedere che i suoi raggi apportatori del lume ed in conseguenza uno che fusse nel sole non vedrebbe mai niente di adombrato impero che i raggi suoi visivi anderebbero sempre in compagnia dei solari illuminanti Simplicio questo è verissimo senza contraddizione alcuna salviati ma quando la luna è all'opposizione del sole qual differenza è tra il viaggio che fanno i raggi della vostra vista e quello che fanno i raggi del sole semplicio ora ho inteso voi volete dire che camminando i raggi della vista e quelli del sole per le medesime linee noi non possiamo scoprire alcuna delle valli ombrose della luna di grazia toglietevi giù di questa opinione che io sia simulatore o dissimulatore e vi giuro da gentiluomo che non avevo penetrata con tal risposta né forse l'avrei ritrovata senza l'aiuto vostro o senza lungo pensarvi sagredo la soluzione che fra tutti i due avete adotta circa quest'ultima difficoltà ha veramente soddisfatto a me ancora ma nel medesimo tempo questa considerazione del camminare i raggi della vista con quelli del sole mi ha destato un altro scrupolo circa all'altra parte ma non so se io lo saprò spiegare perché essendo minato di presente non l'ho per ancora ordinato a modo mio ma vedremo fra tutti di ridurlo a chiarezza e non è dubbio alcuno che le parti verso la circonferenza dell'emisferio pulito ma non brunito che sia illuminato dal sole ricevendo i raggi obliquamente ne ricevono assai meno che le parti di mezzo le quali direttamente li ricevono e può essere che una striscia larga verbi grazie a 20 gradi che sia verso l'estremità dell'emisferio non riceva più raggi che un'altra verso le parti di mezzo larga non più di 4 gradi onde quella veramente sarà assai più oscura di questa e tale apparirà a chiunque le rimirasse a men due in faccia o voglian dire in maestà ma quando l'occhio del riguardante fosse costituito in luogo tale che la larghezza dei 20 gradi della striscia oscura se gli rappresentasse non più lunga d'una di 4 gradi posta sul mezzo dell'emisferio io non ho per impossibile che se gli potesse mostrare ugualmente chiara e luminosa come l'altra perché finalmente dentro a due angoli uguali cioè di 4 gradi l'uno vengono all'occhio le riflessioni di due uguali moltitudini di raggi di quelli cioè che si riflettono dalla striscia di mezzo larga 4 gradi e dei riflessi dall'altra di 20 gradi ma veduta in iscorcio sotto la quantità di gradi 4 ed un sito tale otterrà l'occhio quando e sia collocato tra il detto emisfero e il corpo che l'illumina perché allora la vista e i raggi vanno per le medesime linee par dunque che non sia impossibile che la luna possa essere di superficie assai bene e uguale e che non di meno nel plenilunio si mostri non meno luminosa nell'estremità che nelle parti di mezzo salviati la dubitazione è ingegnosa e degna d'essere considerata e come che ella viene nata pur ora improvvisamente io parimenti risponderò a quello che improvvisamente mi cade in mente e forse potrebbe essere che col pensarvi più mi sovenisse miglior risposta ma prima che io produca altro in mezzo sarà bene che noi ci assicuriamo con l'esperienza se la vostra posizione risponde così infatto come par che conclude in apparenza e però ripigliando la medesima carta inclinandone col piegarla una piccola parte sopra la rimanente proviamo se esponendola al lume sì che sopra la minor parte casca in raggi del lume direttamente e sopra l'altra obliquamente questa che riceve i raggi diretti si mostri più chiara ed ecco già l'esperienza manifesta che l'è notabilmente più luminosa ora quando la vostra posizione sia concludente bisognerà che abbassando noi l'occhio tanto che rimirando l'altra maggior parte meno illuminata in discorcio ella ci apparisca non più larga dell'altra più illuminata e che in conseguenza non si è veduta sotto maggior angolo che quella bisognerà dico che il suo lume si accresca sì che ci sembri così lucida come l'altra ecco che io la guardo e la veggo sì obliquamente che la mia apparisce più stretta dell'altra ma con tutto ciò la sua oscurità non mi si rischiara punto guardate ora se lì stesso accade a voi fine della giornata prima parte decima registrazione di pierre giornata prima parte undicesima di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di pierre dialogo dei massimi sistemi di di galileo galileo galilei giornata prima parte undicesima sagredo ho visto né perché io abbassi l'occhio veggo punto illuminarsi o rischiararsi da vantaggio la detta superficie anzi mi par piuttosto che la si imbrunisca salviati siamo dunque sinora sicuri della inefficacia dell'opposizione quanto poi alla soluzione credo che per essere la superficie di questa carta poco meno che terza pochi siano i raggi che si riflettano verso gli incidenti in comparazione della moltitudine che si riflette verso le parti opposte e che di quei pochi se ne perdano sempre più quanto più si accostano i raggi visivi a essi raggi luminosi incidenti e perché non i raggi incidenti ma quelli che si riflettono all'occhio fanno apparire l'oggetto luminoso però nell'abbassare l'occhio più è quello che si perde che quello che si acquista come anche voi stesso dite apparirvi nel vedere il foglio più oscuro sagredo io dell'esperienza e della ragione mi appago resta ora che il signor semplicio risponda dall'altro mio quesito dichiarandomi quali cose muovono i peripatetici a voler questa rotondità nei corpi celesti tanto esatta semplicio l'essere i corpi celesti ingenerabili incorruttibili inalterabili impassibili immortali eccetera fa che siano assolutamente perfetti e l'essere assolutamente perfetti si tira in conseguenza che in loro sia ogni genere di perfezione e però che la figura ancora sia perfetta cioè sferica e assolutamente e perfettamente sferica e non aspera e irregolare salviati e questa incorruttibilità da che la cavate voi semplicio dal mancar di contrari immediatamente e mediamente dal moto semplice e circolare salviati tal che per quanto io raccolgo dal vostro discorso nel costituire l'essenza dei corpi celesti incorruttibile inalterabile eccetera non ventra come causa o requisito necessario la rotondità che quando questa cagionasse l'inalterabilità noi potremo ad arbitrio nostro fare incorruttibile il legno la cera ed altre materie elementari con ridurle in figura sferica semplicio e non è egli manifesto che una palla di legno meglio e più lungo tempo si conserverà che una guglia o altra forma angolare fatta di altrettanto del medesimo legno salviati cotesto è verissimo ma non però di corruttibile diventerà ella incorruttibile anzi resterà pur corruttibile ma ben di più lunga durata però è da notarsi che il corruttibile è capace di più e di meno tale potendo noi dire questo è men corruttibile di quello come per esempio il diaspro è men corruttibile della pietra serena ma l'incorruttibile non riceve il più e il meno sì che si possa dire questo è più incorruttibile di quell'altro se a men due sono incorruttibili ed eterni la diversità dunque di figura non può operare se non nelle materie che sono capaci del più e del meno durare ma nelle eterne che non possono essere se non ugualmente eterne cessa l'operazione della figura e pertanto giacché la materia celeste non per la figura è incorruttibile ma peraltro non occorre essere così ansioso di questa perfetta sfericità perché quando la materia sarà incorruttibile abbia pure che figura si voglia e la sarà sempre tale sagredo ma io vo considerando qualche cosa di più e dico che conceduto che la figura sferica avesse facoltà di conferire l'incorruttibilità tutti i corpi di qualsivoglia figura sarebbero eterni e incorruttibili impero che essendo il corpo rotondo incorruttibile la corruttibilità verrebbe a consistere in quelle parti che alternano la perfetta rotondità come per esempio in un dado vi è dentro una palla perfettamente rotonda e come tale incorruttibile resta dunque che corruttibili siano quegli angoli che ricoprono e escondono la rotondità al più dunque che potesse accadere sarebbe che tali angoli e per così dire escrescenze si corrompessero ma se più internamente andremo considerando in quelle parti ancora verso gli angoli vi sono dentro altre minori palle della medesima materia e però esse ancora per essere rotonde incorruttibili e così ne residui che circondano queste otto minori sferette vi se ne possono intendere altre tal che finalmente risolvendo tutto il dado in palle innumerabili bisognerà confessarlo incorruttibile e questo medesimo discorso ed una simile risoluzione si può fare di tutte le altre figure salviati il progresso cammina benissimo sì che quando verbi grazia un cristallo sferico avesse dalla figura l'essere incorruttibile cioè la facoltà di resistere a tutte le alterazioni interne ed esterne non si vede che l'aggiungervi altro cristallo e ridurlo verbi grazia in cubo l'avesse ad alterare dentro neanche di fuori sì che ne divenisse meno atto a resistere al nuovo ambiente fatto dell'istessa materia che non era all'altro di materia diversa e massime se è vero che la corruzione si faccia dai contrari come dice aristotile e di qualcosa si può circondare quella palla di cristallo che gli sia manco contraria del cristallo medesimo ma noi non ci accorgiamo del fuggire dell'ore e tardi verremo a capo dei nostri ragionamenti se sopra ogni particolare siano da fare si lunghi discorsi oltre che la memoria si confonde talmente nella moltiplicità delle cose che difficilmente posso ricordarmi delle proposizioni che ordinatamente aveva proposte il signor Simplicio da considerarsi Simplicio io me ne ricordo benissimo e circa questo particolare della montosità della luna resta ancora in piede la causa che io addussi di tale apparenze potendosi benissimo salvare con dir che ella sia un'illusione procedente dall'essere le parti della luna inegualmente opache e perspicue sagredo poco fa quando il signor Simplicio attribuiva le apparenti inegualità della luna conforme l'opinione di certo per il patetico amico suo alle parti di essa luna diversamente opache e perspicue conforme a che simili illusioni si vengono in cristalli e gemme di più sorti mi sovvenne una materia molto più accomodata per rappresentare cotali effetti e tale che credo certo che quel filosofo la pagherebbe qualsivoglia prezzo e queste sono le madre perle le quali si lavorano in varie figure e benché ridotte ad una estrema liscezza sembrano all'occhio tanto variamente in diverse parti cave e colme che appena al tatto stesso si può dar fede della loro e qualità salviati bellissimo è veramente questo pensiero e quel che non è stato fatto finora potrebbe essere fatto un'altra volta e se sono state prodotte altre gemme cristalli che non ha che fare con l'illusione delle madre perle saranno ben prodotte queste ancora intanto per non togliere l'occasione ad alcuno taccerò la risposta che ci anderebbe e solo procurerò per ora di soddisfare alle obiezioni portate dal signor semplicio dico pertanto che questa vostra è una ragione troppo generale e come voi non l'applicate a tutte le apparenze ad una ad una che si leggono nella luna e per le quali io ed altri si sono mossi a tenerla montuosa non credo che voi siate per trovare chi si soddisfaccia di tal dottrina ne credo che voi stesso nell'autor medesimo trovi in essa maggior quiete che in qual si voglia altra cosa remota dal proposito delle molte e molte apparenze varie che si scorgono di sera in sera in un corso lunare voi pur una sola non ne potrete imitare o fabbricare una palla a vostro arbitrio di parti più e meno opache e perspicue e che sia di superficie pulita dove che all'incontro di qualsivoglia materia solida e non trasparente si fabbricheranno palle le quali solo con eminenze e cavità e con ricevere variamente l'illuminazione rappresenteranno le stesse viste mutazioni a capello che d'ora in ora si scorgono nella luna in esse vedrete i dorsi delle eminenze esposte al lume del sole chiari assai e dopo di loro le proiezioni dell'ombre oscurissime vedrete le maggiori e minori secondo che esse eminenze si troveranno più o meno distanti dal confine che distingue la parte della luna illuminata dalla tenebrosa vedrete gli stesso termine e confine non ugualmente disteso qual sarebbe se la palla fosse pulita ma frattuoso e merlato vedrete oltre al detto termine una parte tenebrosa molte sommità illuminate e staccate dal resto già luminoso vedrete l'ombre sovraddette secondo che l'illuminazione si va alzando andarsi elleno diminuendo sinché del tutto svaniscono né più vedersene alcuna quando tutto l'emisferio si è illuminato all'incontro poi nel passare il lume verso l'altro emisfero lunare riconoscerete le stesse eminenze osservate prima e vedrete le proiezioni dell'ombra e loro farsi al contrario ed andare crescendo delle quali cose torno a replicarvi che voi pur una non potrete rappresentarmi col vostro opaco e perspicuo sagredo sagredo anzi pur se ne emiterà una cioè quella del plenilugno quando per essere il tutto illuminato non si scorge più né ombre né altro che dell'eminenza e cavità riceva alcuna variazione ma di grazia signor salviati non perdete più tempo in questo particolare perché uno che avesse avuto pazienza di far osservazioni di una o due lunazioni e non restasse capace di questa sensatissima verità si potrebbe ben sentenziare per privo del tutto di giudizio e con simili a che consumar tempo e parola in darno semplicio io veramente non ho fatto tali osservazioni perché non ho avuto questa curiosità nemmeno strumento atto a poterle fare ma voglio per ogni modo farle e intanto possiamo lasciare questa questione in pendente e passare a quel punto che segue producendo i motivi per i quali voi stimate che la terra possa riflettere il lume del sole non meno gagliardamente che la luna perché a me par ella tanto oscura ed opaca che un tale effetto mi si rappresenta del tutto impossibile salviati la causa per la quale voi reputate la terra inetta all'illuminazione non è altramente cotesta signor semplicio e non sarebbe bella cosa che io penetrassi i vostri discorsi meglio che voi medesimo semplicio se io mi discorra bene o male potrebbe essere che voi meglio di me lo conosceste ma o bene o male che io mi discorra che voi possiate meglio di me penetrare nel mio discorso questo non lo crederò io mai salviati anzi ve lo farò io credere pur ora ditemi un poco quando la luna è presso che piena sì che ella si può ben vedere di giorno ed anco a mezzanotte quando vi pare la più splendente il giorno o la notte semplicio la notte senza comparazione e parmi che la luna imiti quella colonna di nugole di fuoco che fu scorta ai figliuoli di israele che alla presenza del sole si mostrava come una nugoletta ma la notte poi era splendidissima così ho io osservato alcune volte di giorno tra certe nugolette la luna non altramente che una di esse biancheggiante ma la notte poi si mostrava splendidissima salviati tal che quando voi non vi foste mai abbattuto a vedere la luna se non di giorno voi non l'avreste giudicata più splendente di una di quelle nugolette semplicio così così credo fermamente salviati ditemi ora credete voi che la luna sia realmente più lucente la notte che il giorno oppur che per qualche accidente ella si mostri tale semplicio credo che realmente ella risplenda in se stessa tanto di giorno quanto di notte ma che il suo lume si mostri maggiore di notte perché noi la vediamo nel campo oscuro del cielo ed il giorno per essere tutto l'ambiente assai chiaro sì che ella di poco lo avanza di luce ci si rappresenta assai men lucida salviati or ditemi avete voi veduto mai in sulla mezzanotte il globo terrestre illuminato dal sole semplicio questa mi pare una domanda da non farsi se non per burla ovvero a qualche persona conosciuta per insensata affatto salviati no no io vo per uomo sensatissimo e fu la domanda sul saldo e però rispondete pure e poi se vi parrà che io parli a sproposito mi contento d'essere io l'insensato che bene è più sciocco quello che interroga scioccamente che quello a chi si fa l'interrogazione semplicio se dunque voi non mi avete per semplice affatto fate conto che io v'abbia risposto è detto che è impossibile che uno che sia in terra come siamo noi vegga di notte quella parte della terra dove è giorno cioè che è percossa dal sole salviati adunque non vi è toccato mai a vedere la terra illuminata se non di giorno ma la luna la vedete anche nella più profonda notte risplendere in cielo e questa signor simplicio è la cagione che vi fa credere che la terra non risplenda come la luna che se voi poteste vedere la terra illuminata mentre che voi fuste in luogo tenebroso come la nostra notte la vedreste splendida più che la luna ora se voi volete che la comparazione proceda bene bisogna far parallelo del lume della terra con quel della luna veduta di giorno e non con la luna notturna poiché non ci tocca vedere la terra illuminata se non di giorno non sta così semplicio così è dovere salviati e perché voi medesimo avete già confessato di aver veduto la luna di giorno tra nugolette biancheggianti e similissima quanto all'aspetto ad una di esse già primamente venite a confessare che quelle nugolette che pur sono materie elementari sono nate a ricevere l'illuminazione quanto la luna e ancor più se voi vi ridurrete in fantasia ad aver veduto talvolta alcune nugole grandissime e candidissime come la neve e non si può dubitare che se una tale si potesse conservare così luminosa nella più profonda notte ella illuminerebbe i luoghi circonvicini più che cento lune quando dunque noi fossimo sicuri che la terra si illuminasse dal sole al pari di una di quelle nugolette non resterebbe dubbio che ella fosse non meno risplendente della luna ma di questo cessa ogni dubbio mentre noi veggiamo le medesime nugole nell'assenza del sole restare la notte così oscure come la terra e quel che più non è alcuno di noi al quale non sia caduto di vedere più volte alcune tali nugole basse e lontane e stare in dubbio se ne fussero nugole o montagne segno evidente le montagne non essere meno luminose di quelle nugole sagredo ma che più altri discorsi eccovi lassù la luna che è più di mezza eccovi là quel muro alto dove batte il sole ritiratevi in qua sì che la luna si vegga accanto al muro guardate ora che vi par più chiaro non vedete voi che se vantaggio vi è là il muro il sole percuote in quella parete di lì si riverbera nelle pareti della sala da quelle si riflette in quella camera sì che in essa arriva con la terza riflessione e ad ogni modo sono sicuro che vi è più lume che se direttamente vi arrivasse il lume della luna semplicio o questo non credo io perché quel della luna e massime quando ella è piena è un grande illuminare sagredo par grande per l'oscurità dei luoghi ceconvicini ombrosi ma assolutamente non è molto ed è minore che quella del crepuscolo di mezz'ora dopo il tramontare del sole il che è manifesto perché non prima che allora vedrete cominciare a distinguersi in terra le ombre dei corpi illuminati dalla luna se poi quella terza riflessione in quella camera illumini più che la prima della luna si potrà conoscere andando là con leggere qui vi un libro e provar poi stasera al lume della luna se si legge più agevolmente o meno che credo senz'altro e si leggerà meno salviati ora signor semplicio se però voi siete stato appagato potete comprendere come voi medesimo sapevi veramente che la terra risplendeva non meno che la luna e che il ricordarvi solamente alcune cose sapute da per voi e non insegnate da me ve ne ha reso certo perché io non vi ho insegnato che la luna si mostra più risplendente la notte che il giorno ma già lo sapevi da per voi come Anko sapevi che tanto si mostra chiara una nugoletta quanto la luna sapevi parimente che l'illuminazione della terra non si vede di notte ed insomma sapevi il tutto senza saper di saperlo di qui non dovrà di ragione esservi difficile il concedere che la riflessione della terra possa illuminare la parte tenebrosa della luna con luce non minor di quella con la quale la luna illustra le tenebre della notte anzi tanto più quanto che la terra è 40 volte maggiore della luna semplicio chiaramente io credeva che quel lume secondario fosse proprio della luna salviati e questo ancora sapete da per voi e non v'accorgete di saperlo ditemi non avete voi per voi stesso saputo che la luna si mostra più luminosa sai la notte che il giorno rispetto all'oscurità del campo ambiente ed in conseguenza non venite voi a sapere in genere che ogni corpo lucido si mostra più chiaro quando l'ambiente è più oscuro semplicio questo so io benissimo salviati quando la luna è falcata e vi mostra assai chiaro quel lume secondario non è ella sempre vicino al sole ed in conseguenza nel lume del crepuscolo semplicio e vi e molte volte ho desiderato che l'aria si facesse più fosca per poter vedere quel tal lume più chiaro ma l'è tramontata avanti notte oscura salviati voi dunque sapete benissimo che nella profonda notte quel lume apparirebbe più semplicio signor sì ed ancor più se si potesse tor via il gran lume delle corna tocche dal sole la presenza del quale uffusca assai l'altro minore salviati oh non accadevi talvolta di poter vedere dentro d'oscurissima notte tutto il disco della luna senza punto essere illuminato dal sole semplicio io non so che questo avvenga mai se non negli eclissi totali della luna salviati adunque allora dovrebbe questa sua luce mostrarsi vivissima essendo in un campo oscurissimo e non offuscato della chiarezza delle corna luminose ma voi in quello stato come l'avete veduta lucida semplicio ho la veduta talvolta del colore del rame ed un poco albicante ma altre volte è rimasta tanto oscura che l'ho del tutto persa di vista salviati come dunque può essere sua propria quella luce che voi così chiara vedete nell'albordo del crepuscolo nonostante l'impedimento dello splendor grande e contiguo delle corna e che poi nella più oscura notte rimossa ogni altra luce non apparisce punto semplicio intendo esserci stato chi ha creduto cotallume venirle partecipato dall'altre stelle ed in particolare da venere sua vicina fine della giornata prima parte undicesima registrazione di pierre giornata prima parte dodicesima di dialogo dei massimi sistemi comuni questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di pierre dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata prima parte dodicesima salviati ecotesta parimente è una vanità perché nel tempo della sua totale oscurazione dovrebbe pur mostrarsi più lucida che mai che non si può dire che l'ombra della terra gli asconda la vista di venere né dell'altra stelle ma ben rimane ella del tutto priva allora perché l'emisferio terrestre che in quel tempo riguarda verso la luna è quello dove è notte cioè un'intera privazione del lume del sole e se voi diligentemente andrete osservando vedrete sensatamente che siccome la luna quando è sottilmente falcata pochissimo illumina la terra e secondo che in lei viene crescendo la parte illuminata dal sole cresce parimente lo splendore a noi che da quella viene ci riflesso così la luna mentre è sottilmente falcata e che per essere tra il sole e la terra scuopre grandissima parte dell'emisferio terreno illuminato si mostra assai chiara e discostandosi dal sole e venendo verso la quadratura si vede tal lume andar languendo ed oltre la quadratura si vede assai debile perché sempre va perdendo della vista della parte luminosa della terra eppur dovrebbe accadere il contrario quando tal lume fosse suo o comunicatole dalle stelle perché allora la possiamo vedere nella profonda notte e nell'ambiente molto tenebroso semplicio fermate di grazia che pur ora mi sovviene aver letto in un libretto moderno di conclusioni pieno di molte novità che questo lume secondario non è cagionato dalle stelle ne è proprio della luna e men di tutto comunicato di dalla terra ma che deriva dalla medesima illuminazione del sole la quale per essere la sostanza del gruppo lunare alquanto trasparente penetra per tutto il suo corpo ma più vivamente illumina la superficie dell'emisferio esposto ai raggi del sole e la profondità imbevendo e per così dire inzuppandosi di tale luce a guisa di una nugola o di un cristallo la trasmette e si rende visibilmente lucida e questo se ben mi ricorda prova egli con l'autorità con l'esperienza e con la ragione adducendo cleomede viteglione macobrio e qualche altro autore moderno e soggiungendo vedersi per esperienza che ella si mostra molto lucida nei giorni prossimi alla congiunzione cioè quando è falcata e massimamente risplende intorno al suo limbo e di più scrive che negli eclissi solari quando ella è sotto il disco del sole si vede tra lucere e massime intorno all'estremo certo quanto poi alle ragioni parmi che dica che non potendo ciò derivare né dalla terra né dalle stelle né da se stessa resta necessariamente che venga dal sole oltre che fatta questa supposizione benissimo si rendono accomodate ragioni di tutti i particolari che accascano in perrocchè del mostrarsi tal luce secondaria più vivace intorno all'estremo limbo ne è cagione la brevità dello spazio da essere penetrato dai raggi del sole essendo che delle linee che traversano un cerchio la massima è quella che passa per il centro e delle altre le più lontane da questa sono sempre minori delle più vicine dal medesimo principio dice egli derivare che tal lume poco diminuisce e finalmente per questa via si assegna la causa onde avvenga che quel cerchio più lucido intorno all'estremo margine della luna si scorga nell'eclisse solare in quella parte che sta sotto il disco del sole ma non in quella che è fuori del disco provenendo ciò perché i raggi del sole trapassano addirittura il nostro occhio per le parti della luna sottoposte ma per le parti che sono fuori cascano fuori dell'occhio salviati se questo filosofo fosse stato il primo autore di tale opinione io non mi meraviglierei che vi fosse talmente affezionato che avesse ricevuta per vera ma ricevendola da altri non saprei addur ragione bastante per riscusarlo da non aver compreso le sue fallace e massime dopo l'aver egli sentita la vera causa di tale effetto ed aver potuto con mille esperienze manifesti e riscontri assicurarsi ciò dal riflesso della terra e non da altro procedere e quanto questa cognizione fa desiderare qualcosa nell'accorgimento di quest'autore e di tutti gli altri che non riprestano l'assenso tanto in non l'avere intesa e non essere loro solvenuta mi rende scusabili quei più antichi i quali sono ben sicuro che se adesso l'intendessero senza una minima repugnanza l'ammetterebbero e se io vi devo schiettamente dire il mio concetto non posso credere che quest'autore moderno internamente non la creda ma dubito che non potersene di fare il primo autore lo stimoli un poco a tentare di supprimerla o smaccarla al manco appresso i semplici il numero dei quali sappiamo essere grandissimo e molti sono che godono assai più dell'applauso numeroso del popolo che dell'assenso dei pochi non vulgari sagredo fermate un poco signor salviati che mi par di vedere che voi non andiate drittamente al vero punto nel vostro parlare perché questi che tendono le pareti al comune si sanno anche fare autori delle invenzioni di altri perché non siano tanto antiche e fatte pubbliche per le cattedre per le piazze che siano più che notorie a tutti salviati o io son più cattivo di voi che dite di pubbliche o di notorie non è egli li stesso l'esser l'opinione e le invenzioni nuove agli uomini che l'esser gli uomini nuovi a loro se voi vi contentaste della stima dei principianti nelle scienze che vengono su di tempo in tempo potreste farvi anco inventore sin dell'alfabeto e così rendervi ad essi ammirando e se ben poi col progresso del tempo si scoprisse la vostra sagacità ciò poco pregiudica al vostro fine perché altri sottentrano a mantenere il numero dei fautori ma torniamo a mostrare al signor simplicio la inefficacia dei discorsi del suo moderno autore nei quali ci sono falsità e cose non concludenti ed inopinabili e prima è falso che questa luce secondaria sia più chiara intorno all'estremo margine che nelle parti di mezzo sì che si formi quasi un anello o cerchio più risplendente del resto del campo ben è vero che guardando la luna posta nel crepuscolo si mostra nel primo apparire un tal cerchio ma con inganno che nasce dalla diversità dei confini con i quali termina il disco lunare sparso di questa luce secondaria in perroché dalla parte verso il sole confina con le corna lucidissime della luna e dall'altra ha per termine confinante il campo oscuro del crepuscolo la relazione del quale ci fa parere più chiaro l'albore nel disco lunare il quale nella parte opposta viene offuscato dallo splendor maggiore delle corna che se l'autor moderno avesse provato a farsi ostacolo tra l'occhio e lo splendor primario col tetto di qualche casa o con altro tramezzo sì che visibile restasse solamente la piazza della luna fuori delle corna l'avrebbe veduta tutta ugualmente luminosa semplicio mi par pur ricordare che gli scriva d'essersi servito di un simile artificio per nascondersi la falce lucida salviati o come questo è la sua che io stimava in avvertenza diventa bugia la quale pizzica anche di temerità poiché ciasc'è d'uno ne può far frequentemente la riprova che poi nell'eclise del sole si vega il disco della luna in altro modo che per privazione io ne dubito assai e massime quando l'eclise non sia totale come necessariamente bisogna che siano state le osservate dall'autore ma quando anche e si scorgesse come lucido questo non contraria anzi favorisce l'opinione nostra avvenga che allora si oppone alla luna tutto l'emisferio terrestre illuminato dal sole che sebbene l'ombra della luna ne oscura una parte questa è pochissima in comparazione di quella che rimane illuminata quello che giugne di più che in questo caso la parte del margine che soggiace al sole si mostri assai lucida ma non così quella che resta fuori e ciò derivare dal venirci direttamente per quella parte i raggi solari all'occhio ma non per questa è bene una di quelle favole che manifestano le altre finzioni di colui che le racconta perché se per farci visibile di luce secondaria il disco lunare bisogna che i raggi del sole vengano direttamente al nostro occhio non vede il poverino che noi mai non vedremmo tal luce secondaria se non nell'eclissi del sole e se l'esser una parte della luna remota dal disco solare solamente manco assai di mezzo grado può deviare i raggi del sole sì che non arrivi nel nostro occhio che sarà quando ella se ne trovi lontana 20 e 30 quale ella ne è nella sua prima apparizione e come verranno i raggi del sole che hanno a trapassare per il corpo della luna a trovare l'occhio nostro quest'uomo si va di mano in mano figurando le cose quali bisognerebbe che le fussero per servire al suo proposito e non va accomodando i suoi propositi di mano in mano alle cose quali elle sono ecco per far che lo splendore del sole possa penetrare la sostanza della luna e la fa in parte diafana qual è verbi grazia la trasparenza di una nugola o di un cristallo ma non so poi quello che si giudicasse circa una tal trasparenza quando i raggi solari avessero a penetrare una profondità di nugola di più di 2000 miglia ma ammettasi che egli arditamente rispondesse ciò poter essere benissimo nei corpi celesti che sono altre faccende che questi nostri elementari impuri e fecciosi e convinchiamo l'error sue con mezzi che non ammettono risposta o per dir meglio su terfugi quando ei voglia mantenere che la sostanza della luna sia diafana bisogna che dica che ella è tale mentre che i raggi del sole abbiano a penetrare tutta la sua profondità cioè ne abbiano a penetrare più di 2000 miglia ma che opponendosi gliene solo un miglio ed ancomeno non la penetreranno più che i si penetrino una delle nostre montagne sagredo voi mi fate sovvenire di uno che mi voleva vendere un segreto di poter parlare per via di certa simpatia di aghi calabitati a uno che fosse stato lontano due o tre mila miglia e dicendogli io che volentieri l'avrei comprato ma che volevo vederne l'esperienza e che mi bastava farla stando io in una delle mie camere ed ed in un'altra mi rispose che in sé piccola distanza non si poteva vedere ben l'operazione onde io lo licenziai con dire che non mi sentivo per allora di andare nel cairo o in moscovia per vedere tale esperienza ma seppure volevo andare esso che io avrei fatto l'altra parte restando in venezia ma sentiamo come va la conseguenza dell'autore e come bisogni che egli ammetta la materia della luna esser per amabilissima dai raggi solari nella profondità di duemila miglia ma opacissima più di una montagna delle nostre nella grossezza di un miglio solo salviati le stesse montagne appunto della luna ce ne fanno testimonianza le quali ferite da una parte dal sole gettano dall'opposta ombre negrissime terminate e taglienti più assai dell'ombre nelle nostre che quando elle fussero diafane mai non avremmo potuto conoscere a sprezza veruna nella superficie della luna né veder quelle cuspidi luminose staccate dal termine che distingue la parte illuminata dalla tenebrosa anzi né meno vedremmo noi questo medesimo termine così distinto se fosse vero che il lume del sole penetrasse la profondità della luna anzi per il detto medesimo dell'autore bisognerebbe vedere il passaggio e confine tra la parte vista e la non vista del sole assai confuso e misto di luce e tenebre che bene è necessario che quella materia che dà il transito dei radi solari nella profondità di duemila miglia sia tanto trasparente che pochissimo di contrasti nella centesima o minor parte di tal grossezza tuttavia il termine che separa la parte illuminata dalla oscura è tagliente e così distinto quanto è distinto il bianco dal nero e massime dove il taglio passa sopra la parte della luna naturalmente più chiara e più asta ma dove sega le macchie antiche le quali sono pianure per andare elle sfericamente inclinandosi sì che ricevono i raggi del sole obliquissimi quindi il termine non è così tagliente mediante l'illuminazione più languida quello finalmente che dice del non si diminuire da bacinare la luce secondaria secondo che la luna va crescendo ma conservarsi continuamente della meresima efficacia è falsissimo anzi poco si vede nella quadratura quando per l'opposito ella dovrebbe vedersi più viva potendosi vedere fuor del crepuscolo nella notte più profonda concludiamo pertanto esser la riflessione della terra potentissima nella luna e quello di che dovrete fare maggior stima cavatene un'altra conseguenza bellissima cioè che se è vero che i pianeti operino sopra la terra col moto e col lume forse la terra non meno sarà potente a operare reciprocamente in loro col medesimo lume e per avventura col moto ancora e quando anche ella non si muovesse pur gli può restare la medesima operazione perché già come si è veduto l'azione del lume e la medesima appunto cioè del lume del sole reflesso e il moto non fa altro che la variazione degli aspetti la quale segue nel modo medesimo facendo muover la terra e star fermo il sole che se si faccia per l'opposito semplicio non si troverà alcuno dei filosofi che abbia detto che questi corpi inferiore operino nei celesti ed aristotile dice chiaro il contrario salviati aristotile e gli altri che non hanno saputo che la terra e la luna si illuminino scambiavolmente sono degni di scusa ma sarebbero ben degni di riprensione se mentre vogliono che noi concediamo e crediamo a loro che la luna opera in terra col lume e volessi in poi a noi che gli abbiamo insegnato che la terra e l'uomo nella luna negare l'azione della terra nella luna semplicio insomma io sento in me un'estrema repugnanza nel poter ammettere questa società che voi vorreste persuadermi tra la terra e la luna ponendola come si dice in ischiera con le stelle che quando altro non ci fosse la gran separazione e lontananza tra esse e i corpi celesti mi par che necessariamente concluda una grandissima dissimilitudine tra di loro salviati vedete signor semplicio quanto può un inveterato affetto ed una radicata opinione poiché è tanto gagliarda che vi fa parer favorevoli quelle cose medesime che voi stesso producete contro di voi che se la separazione e lontananza sono accidenti validi per persuadervi una gran diversità di nature conviene per l'opposito la vicinanza e contiguità importino similitudine ma quanto è più vicino alla luna la terra che qualsivoglia altro dei globi celesti confessate dunque per la vostra medesima concessione ed avverete anche altre filosofi compagni grandissima affinità esser tra la terra e la luna o seguitiamo avanti e proponete se altro ci resta da considerare circa le difficoltà che voi muoveste contro le congruenze tra questi due corpi simplicio ci resterebbe non so in che proposito della solidità della luna la quale io argomentava dall'essere ella sommamente pulite liscia e voi dall'essere montuosa un'altra difficoltà mi nasceva per il credere io che la riflessione del mare dovesse essere per l'egualità della sua superficie più gagliarda che quella della terra la cui superficie è tanto scabrosa ed opaca salviati quanto al primo dubbio dico che sì come le parti da terra che tutte per la loro gravità conspirano ad approssimarsi quanto più possono al centro alcune tuttavia ne rimangono più remote che l'altre cioè le montagne più delle pianure e questo per la loro solidità e durezza che se fosse di materia fluida si spiagherebbero così il veder noi alcune parti della luna restare elevate sopra la sfericità delle parti più basse arguisce la loro durezza perché è credibile che la materia della luna sfiguri in forma sferica per la concorda e conspirazione di tutte le sue parti al meresimo centro circa l'altro dubbio parmi che per le cose che abbiamo considerate accadere negli specchi possiamo intender benissimo che la riflessione del lume che viene dal mare sia inferiore assai a quella che viene dalla terra intendendo però della riflessione universale perché quanto alla particolare che la superficie dell'acqua quieta manda in un luogo determinato non è dubbio che chi si costituirà in tal luogo vedrà nell'acqua un riflesso potentissimo ma da tutti gli altri luoghi si vedrà la superficie dell'acqua più oscura di quella della terra e per mostrarlo al senso andiamo qua in sala e versiamo un poco di acqua sul pavimento ditemi ora non si mostre gli a questo mattone bagnato più oscura sale degli altri asciutti certo sì e tale si mostrerà egli rimirato da qualsivoglia luogo eccettuato ne uno solo e questo è quello dove arriva il riflesso del lume che entra per quella finestra tiratevi adunque indietro pian piano semplicio di qui veggo io la parte bagnata più lucida da resto il pavimento e veggo che ciò avviene perché il riflesso del lume che entra per la finestra viene verso di me fine della giornata prima parte dodicesima registrazione di pier giornata prima parte tredicesima di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox punto org registrazione di pier dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata prima parte tredicesima salviati quel bagnare non ha fatto altro che riempire quelle piccole cavità che sono nel mattone e ridur la sua superficie a un piano esquisito onde poi i raggi riflessi vanno uniti verso un medesimo luogo ma il resto del pavimento asciutto ha la sua asprezza cioè una innumerabile varietà di inclinazioni nelle sue minime particelle onde le riflessioni del lume vanno verso tutte le parti ma più debili che se andassero tutte unite insieme e però poco o niente si varia il sospetto per riguardarlo da diverse bande ma da tutti i luoghi si mostra lì stesso ma ben chiaro assai che quella riflessione della parte bagnata concludo pertanto che la superficie del mare veduta dalla luna siccome apparirebbe egualissima trattone le isole e gli scogli così apparirebbe men chiara che quella della terra montuosa e ineguale e se non fosse che io non vorrei parer come si dice di volerne troppo vi direi davvero osservato nella luna quel lume secondario che io dico venirle dalla riflessione del globo terrestre esser notabilmente più chiaro due o tre giorni avanti la congiunzione che dopo cioè quando noi la veggiamo avanti l'alba in oriente che quando si vede la sera dopo il tramontare del sole in occidente della qual differenza ne è causa che l'emisferio terrestre che si oppone la luna orientale ha poco mare ed assaissima terra avendo tutta l'asia dove che quando è la in occidente riguarda grandissimi mari cioè tutto l'oceano atlantico sino l'americhe argomento assai probabile nel mostrarsi meno splendida la superficie dell'acqua che quella della terra semplicio adunque per vostro credere ella farebbe un aspetto simile a quello che noi veggiamo nella luna delle due parti massime ma credete voi forse che quelle gran macchie che si veggono nella faccia della luna siano mari al resto più chiaro terra o cosa tale salviati questo che voi domandate è il principio delle incongruenze che ostimo essere tra la luna e la terra dalle quali sarà tempo che noi ci sbrighiamo che purtroppo siamo dimorati in questa luna dico dunque che quando in natura non fosse altro che un modo solo per far apparire due superfici illustrata dal sole una più chiara dell'altra e che questo fosse per essere una di terra e l'altra di acqua bisognerebbe necessariamente dire che la superficie della luna fosse parte terra e parte acquea ma perché vi sono più modi conosciuti da noi che possono cagionare il medesimo effetto ed altri per avventura ne possono essere incogniti a noi però io non ardirei di affermare questo più che quello esser nella luna già si è veduto di sopra come una piastra d'argento bianchito col toccarlo col brunitoio di candido si rappresenta oscuro la parte umida della terra si mostra più oscura dell'arida nei dorsi delle montagne le parti silvose appariscono assai più fosche nelle nudi esterili ciò accade perché tra le piante casca gran quantità di ombra ed i luoghi aprici sono tutti illuminati dal sole e questa mischione di ombra opera tanto che voi vedete nei velluti a opera il color della seta tagliata mostrarsi molto più oscuro che quel della non tagliata mediante le ombre disseminate tra pelo e pelo ed il velluto piano parimente assai più fosco che un ermisino fatto della medesima seta sì che quando nella luna fossero cose che imitassero grandissime selve l'aspetto loro potrebbe rappresentarci le macchie che noi leggiamo una tal differenza farebbero se le fossero mali e finalmente non repugna che potesse essere che quelle macchie fossero realmente di color più oscuro del rimanente che in questa guisa la neve fa comparire le montagne più chiare quello che si vede manifestamente nella luna è che le parti più oscure sono tutte pianure con pochi scogli e argini dentrovi ma pur ve ne sono alcuni il restante più chiaro è tutto pieno di scogli montagne arginetti rotondi e di altre figure ed in particolare intorno alle macchie sono grandissime tirate di montagne dell'essere le macchie superfici piane ce ne assicura il veder come il termine che distingue la parte illuminata dall'oscura nel traversare le macchie fa il taglio eguale ma nelle parti chiare si mostra per tutto anfrattuoso e merlato ma non so già se questa egualità di superficie possa essere bastante per sé sola a far apparir l'oscurità e credo piuttosto di no reputo oltre a questo la luna differentissima della terra perché sebbene io mi immagino che quelli non sia in paesi oziosi e morti non affermo però che vi siano movimenti e vita e molto meno che vi si generino piante animali o altre cose simili alle nostre ma seppur ve ne fossero diversissime e remote da ogni nostra immaginazione e muovomi a così credere perché primamente stimo che la materia del globo lunare non sia di terra e di acqua e questo solo basta attor via le generazioni alterazioni simili alle nostre ma posto anche che lassù fosse acqua e terra ad ogni modo non vi nascerebbero piante da animali simili ai nostri e questo per due ragioni principali la prima è che per le nostre generazioni sono tanto necessari gli aspetti variabili del sole che senza essi il tutto mancherebbe ora le abitudini del sole verso la terra sono molto differenti da quelle verso la luna noi quanto all'illuminazione diurna abbiamo nella maggior parte della terra ogni 24 ore parte di giorno e parte di notte il quale effetto nella luna si fa in un mese e quello abbassamento ed alzamento annuo per il quale il sole ci apporta le diverse stagioni e la disegualità dei giorni e delle notti nella luna si finisce pur in un mese e dove il sole a noi si alza ed abbassa tanto che dalla massima alla minima altezza vi corre circa 47 gradi di differenza cioè quanta è la distanza dall'uno all'altro tropico nella luna non importa altro che gradi 10 o poco più che tanto importano le massime latitudini del dragone di qua e di là dell'eclittica considerisi ora qual sarebbe l'azione del sole dentro la zona torrida quando e durasse 15 giorni continui a ferirla con i suoi raggi che senz'altro si intenderà che tutte le piante le erbe e gli animali si dispergerebbero e seppur vi si facessero generazioni sarebbero di erbe piante ed animali diversissimi dai presenti secondariamente io tengo per fermo che nella luna non siano piogge perché quanto in qualche parte vi si congregassero nugole come intorno alla terra ci verrebbe a nascondere alcuna di quelle cose che noi col telescopio veggiamo nella luna ed insomma in qualche particella ci varierebbe la vista effetto che io per lunghe e diligenti osservazioni non ho veduto mai ma sempre vi ho scorto una uniforme serenità purissima sagredo a questo si potrebbe rispondere o che vi fossero grandissime ruggiade o che vi piovesse nei tempi della loro notte cioè quando il sole non la illumina salviati se per altri riscontri noi avessimo indizi che in essa si facessero generazioni simili alle nostre e solo ci mancasse il concorso delle piogge potremmo trovarci questo o altro temperamento che supplisse invece di quelle come accade nell'egitto dell'inondazione del nilo ma non incontrando accidente alcuno che concordi con i nostri de molti che si ricercherebbero per produrvi gli effetti simili non occorre affaticarsi per introdurne un solo e quello anche non perché se n'abbia sicura osservazione ma per una semplice non repugnanza oltre che quando mi fosse domandato quello che la prima apprensione del puro naturale discorso mi detta circa prodursi la cose simili oppure differenti dalle nostre io direi sempre differentissime e a noi del tutto inimmaginabili che così mi pare che ricerchi la ricchezza della natura e l'onnipotenza del creatore e governatore sagredo estrema temerità mi è parsa sempre quella di coloro che vogliono far la capacità umana misura di quanto possa e sappia operare la natura dove che all'incontro e non è effetto alcuno in natura per minimo che sia all'intera cognizione del quale possono arrivare i più speculativi ingegni questa così vana presunzione di intendere il tutto non può aver principio d'altro che da non aver inteso mai nulla perché quando altri avesse sperimentato una volta sola a intendere perfettamente una sola cosa ed avesse gustato veramente come fatto il sapere conoscerebbe come dell'infinità dell'altra e conclusioni niuna ne intende salviati concludentissimo è il vostro discorso in confermazione del quale abbiamo l'esperienza di quelli che intendono o hanno inteso qualche cosa i quali quanto più sono sapienti tanto più conoscono e liberamente confessano di saper poco ed il sapientissimo della grecia e per tale sentenziato dagli oracoli diceva apertamente conoscer di non saper nulla semplicio conviene dunque dire o che l'oracolo o l'istesso socrate fosse bugiardo predicandolo quello per sapientissimo e dicendo questo di conoscersi ignorantissimo salviati non eseguita né l'uno né l'altro essendo che amen due i pronunziati possono essere veri giudica l'oracolo sapientissimo socrate sopra gli altri uomini la sapienza dei quali è limitata si conosce socrate non saper nulla in relazione alla sapienza assoluta che è infinita e perché dell'infinito tal parte né il molto che il poco e che il niente perché per arrivare per esempio al numero infinito tanto è l'accumular migliaia quanto decine e quanto zeri però ben conosceva socrate la terminata sua sapienza essa nulla all'infinita che gli mancava ma perché pur tra gli uomini si trova qualche sapere e questo non è ugualmente compartito a tutti potete socrate averne maggior parte degli altri e perciò verificarsi il risponso dell'oracolo sagredo parmi di intender benissimo questo punto tra gli uomini signor simplicio è la potestà di operare ma non è ugualmente partecipata da tutti e non è dubbio che la potenza di un imperatore è maggiore assai che quella ad una persona privata ma e questa e quella è nulla in comparazione dell'onipotenza divina tra gli uomini vi sono alcuni che intendono meglio l'agricoltura che molti altri ma il saper piantare un sermento di vite in una fossa che ha da far col saperlo far barbicare attrarre il nutrimento da quello scerre questa buona parte per farne le foglie quest'altra per formarne i viticci quella per i grappoli quell'altra per l'uva ed un'altra per i fiocini che sono poi l'opera della sapientissima natura questa è una sola opera particolare delle innumerabili che fa la natura ed in essa sola si conosce un'infinita sapienza tal che si può concludere il saper divino esser infinite volte infinito salviati eccone un altro esempio non diremmo noi che il sapere scoprire in un marmo una bellissima statua ha sublimato l'ingegno del buon arroti assai assai sopra gli ingegni comuni degli altri uomini e questa opera non è altro che imitare una sola attitudine e disposizione di membra esteriore e superficiale di un uomo immobile e però che cosa è in comparazione di un uomo fatto dalla natura composto di tante membre esterne ed interne dei tanti muscoli tendri nervi ossa che servono ai tanti e si diversi movimenti ma che diremo dei sensi delle potenze dell'anima e finalmente dell'intendere non possiamo noi dire e con ragione la fabbrica di una statua accedere di infinito intervallo alla formazione di un uomo vivo anzi anche alla formazione di un vilissimo verme sagredo e qual differenza crediamo che fosse tra la colomba d'archita e duna della natura semplicio o io non sono uno di quegli uomini che intendano o in questo vostro discorso è una manifesta contraddizione voi tra i maggiori encomi anzi pur per il massimo di tutti attribuite all'uomo fatto dalla natura questo dell'intendere e poco fa dicevi con socrate che che il suo intendere non era nulla adunque bisognerà dire che neanche la natura abbia inteso il modo di fare un intelletto che intenda salviati molto acutamente opponete e per rispondere all'obiezione conviene ricorrere a una distinzione filosofica dicendo che l'intendere si può pigliare in due modi cioè intensive ovvero extensive e che estensive cioè quanto alla moltitudine degli intelligibili che sono infiniti l'intendere umano è come nullo quando bene egli intendesse mille proposizioni perché mille rispetto all'infinità è come un zero ma pigliando l'intendere intensive in quanto con tal termine importa intensivamente cioè perfettamente alcuna proposizione dico che l'intelletto umano ne intende alcune così perfettamente e ne ha così assoluta certezza quanto se ne abbia lì stessa natura e tali sono le scienze matematiche pure cioè la geometria e l'aritmetica delle quali l'intelletto divino ne sa bene infinite proposizioni di più per chi le sa tutte ma di quelle poche intese dall'intelletto umano credo che la cognizione agguagli la divina nella certezza obiettiva poiché arriva a comprenderne la necessità sopra la quale non par che possa essere sicurezza maggiore semplicio questo mi pare un parlare molto resoluto ed ardito salviati queste sono proposizioni comuni e lontane da ogni ombra di temerità o dardire e che punto non detraggono di maestà alla divina sapienza siccome niente diminuisce la sua onipotenza il dire che dio non può fare che il fatto non sia fatto ma dubito signor semplicio che voi pigliate ombra per essere state ricevute da voi le mie parole con qualche equivocazione però per meglio dichiararmi dico che quanto la verità di che ci danno cognizione le dimostrazioni matematiche ella è lì stessa che conosce la sapienza divina ma vi concederò bene che il modo col quale dio conosce le infinite proposizioni nelle quali noi conosciamo alcune poche è sommamente più eccellente del nostro il quale procede con discorsi e con passaggi di conclusione in conclusione dove il suo è di un semplice intuito e dove noi per esempio per guadagnare la scienza ad alcune passioni del cerchio che ne ha infinite cominciando da una delle più semplici e quella pigliando per sua definizione passiamo con discorso ad un'altra e da questa alla terza e poi alla quarta eccetera l'intelletto divino con la semplice apprensione della sua essenza comprende senza temporaneo discorso tutta la infinità di quelle passioni le quali anche poi in effetto virtualmente si comprendono nelle definizioni di tutte le cose e che poi finalmente per essere infinite forse sono una sola nell'essenza loro e nella mente divina il che neanche l'intelletto umano del tutto incognito ma ben da profonda e densa caligine addombrato la qual viene in parte assottigliata e chiarificata quando ci siamo fatti padroni di alcune conclusioni fermamente dimostrate e tanto speditamente possedute da noi che tra esse possiamo velocemente trascorrere perché insomma che altro è l'esser nel triangolo il quadrato opposto all'angolo retto è uguale agli altri due che gli sono intorno se non l'esser i parallelogrammi sopra base comune e tra le parallele tra loro uguali e questo non è egli finalmente il medesimo che essere uguali quelle due superficie che adattate insieme non si avanzano ma si racchiuggono dentro al medesimo termine or questi passaggi che l'intelletto nostro fa con tempo e con moto di passo in passo l'intelletto divino a guisa di luce trascorre in un istante che è gli stesso che dire gli ha sempre tutti i presenti concludo pertanto l'intender nostro e quanto al modo e quanto alla moltitudine delle cose intese essere di infinito intervallo superato dal divino ma non però l'avvilisco tanto che io lo reputi assolutamente nullo anzi quando io vo considerando quante e quanto meravigliose cose hanno intese investigate ed operate gli uomini purtroppo chiaramente conosco io ed intendo essere la mente umana opera di dio e delle più eccellenti sagredo io sono molte volte andato me come desmo considerando in proposito di questo che di presente dite quanto grande sia l'acutezza dell'ingegno umano e mentre io discorro per tante e tanto meravigliose invenzioni trovate dagli uomini sì nelle arti come nelle lettere e poi fuor riflessione sopra il saper mio tanto lontano da potersi promettere non solo di trovarne alcune di nuovo manco di apprendere delle già ritrovate confuso dallo stupore ed afflitto dalla disperazione mi reputo poco meno che infelice se io guardo alcuna statua delle eccellenti dico a me medesimo e quando sapresti levare il suo verchio da un pezzo di marmo e scoprire sì bella figura che vi era nascosa quando mescolare di stendere sopra una tela o parete colori diversi e con essi rappresentare tutti gli oggetti visibili come un Michelagnolo un Raffaello un Tiziano se io guardo quel che hanno ritrovato gli uomini nel corpartir di intervalli musici nello stabilir precetti e regole per poterli maneggiare con diletto mirabile dell'udito quando potrò io finir di stupire che dirò dei tanti e si diversi strumenti la lettura dei poeti eccellenti di qual meraviglia riempe chi attentamente considera l'invenzione dei concetti e la spiegatura loro che diremo dell'architettura che dell'arte navigatoria ma soprattutto le invenzioni stupende quale eminenza di mente fu quella di colui che si immaginò di trovare modo di comunicare i suoi più racconditi pensieri a qualsivoglia altra persona benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo parlare con quelli che sono nell'Indie parlare a quelli che non sono ancora nati ne saranno se non di qua mille e diecimila anni e con qual facilità con i vari accorzamenti diventi caratteruzzi sopra una carta sia questo il sigillo di tutte le mirande invenzioni umane e la chiusa dei nostri ragionamenti di questo giorno ed essendo passate le ore più calde il signor salviati penso io che avrà gusto di andare a godere dei nostri freschi in barca e domani vi starò attendendo a men due per continuare i discorsi cominciati eccetera fine della giornata prima parte tredicesima registrazione di pierre giornata seconda parte prima di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione libri vox tutte le registrazioni libri vox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito libri vox punto org registrazione di emanuela dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata seconda parte prima salviati le diversioni di ieri che ci torsero dal dritto filo dei nostri principali discorsi furontante e tali che io non so se potrò senza l'aiuto vostro rimettermi sulla traccia per poter procedere avanti sagredo io non mi meraviglio che voi che avete ripiena ingombrata la fantasia tanto delle cose dette quanto di quelle che restano da dirsi vi troviate in qualche confusione ma io che per essere semplice ascoltatore altro non ritengo che le cose udite potrò per avventura col ricordarle sommariamente rimettere il ragionamento sul suo filo per quello dunque che mi era stato in mente fu la somma dei discorsi di ieri l'andare esaminando dai fondamenti loro qual delle due opinioni sia più probabile e ragionevole quella che tiene la sostanza dei corpi celesti essere ingenerabile incorruttibile inalterabile impassibile ed insomma esente da ogni mutazione fuorché dalla locale è però essere una quintessenza diversissima da questa dei nostri corpi elementari generabili corruttibili alterabili eccetera oppure l'altra che elevando tal difformità di parti del mondo reputa la terra goder delle medesime perfezioni che gli altri corpi integranti dell'universo ed esser insomma un globo mobile e vagante non men che la luna giove venere o altro pianeta fecersi in ultimo molti paralleli particolari tra essa terra e la luna e più con la luna che con altro pianeta forse per aver noi di quella maggiore e più sensata notizia mediante la sua minor lontananza ed avendo finalmente concluso questa seconda opinione aver più del verissimile dell'altra parmi che il progresso ne tirasse a cominciare a esaminare se la terra si deve stimare immobile come dai più è stato sin cui creduto oppur mobile come alcuni antichi filosofi credettero ed altri da non molto tempo in qua stimano e se mobile qual possa essere il suo movimento salviati già comprendo e riconosco il segno del nostro cammino ma innanzi che si comincia a procedere più oltre devo dirvi non so che sopra queste ultime parole che avete detto dell'essersi concluso la opinione che tiene la terra adottata dalle medesime condizioni dei corpi celesti esser più verissimile della contraria impero che questo non ho io concluso siccome non son neanche per concludere per un'altra delle proposizioni controverse ma solo ho avuta intenzione di produrre tanto per l'una quanto per l'altra parte quelle ragioni e risposte istanze e soluzioni che ad altri sin qui sono sovvenute con qualche altra ancora che a me nel lungamente pensarvi è cascata in mente lasciando poi la decisione all'altrui giudizio sagredo io mi era lasciato trasportare dal mio proprio sentimento e credendo che in altri dovesse essere quel che io sentiva in me feci universale quella conclusione che doveva far particolare è veramente errato e massimo non sapendo il concetto del signor semplicio qui presente semplicio io vi confesso che tutta questa notte sono andato ruminando le cose di ieri e veramente trovo di molte belle nuove e gagliarde considerazioni con tutto ciò mi sento stringere assai più dall'autorità di tanti grandi scrittori ed in particolare voi scotete la testa signor sagredo e sogghignate come se io dicessi qualche grande esorbitanza sagredo io sogghigno solamente ma crediatemi che io scoppio nel voler far forza di ritenerle risa maggiori perché mi avete fatto sovvenire di un bellissimo caso al quale io mi trovai presente non sono molti anni insieme con alcuni altri nobili amici miei i quali vi potrei ancora nominare salviati sarà ben che voi ce lo raccontiate a ciò forse il signor semplicio non continuasse di creder da avervi esso mosse le risa sagredo son contento mi trovai un giorno in casa un medico molto stimato in venezia dove alcuni per loro studio ed altri per curiosità convenivano talvolta a vedere qualche taglio di notomia per mano di uno veramente non mendotto che dirigente e pratico notomista ed accadde quel giorno che si andava ricercando l'origine e nascimento dei nervi sopra di che è famosa controversia tra i medici galenisti ed i peripatetici e mostrando il notomista come partendosi dal cervello e passando per la nuca il grandissimo ceppo dei nervi si andava poi distendendo per la spinale e diramandosi per tutto il corpo e che solo un filo sottilissimo come il refe arrivava al cuore voltosi ad un gentiluomo che gli conosceva per filosofo peripatetico e per la presenza del quale egli aveva con straordinaria diligenza scoperto e mostrato il tutto gli domandò se restava ben pago e sicuro l'origine dei nervi venire dal cervello e non dal cuore al quale il filosofo dopo essere stato alquanto sopra di sé rispose voi mi avete fatto vedere questa cosa talmente aperta e sensata che quando il testo d'aristotile non fosse il contrario che apertamente dice i nervi nascere dal cuore bisognerebbe per forza confessarla per vera simplicio signori io voglio che voi sappiate che questa disputa dell'origine dei nervi non è miga così smaltita e decisa come forse qualcuno si persuade sagredo ne sarà mai al sicuro come si abbiano di simili contradditori ma questo che voi dite non diminuisce punto la stravaganza della risposta del peripatetico il quale contro a così sensata esperienza non produsse altre esperienze o ragioni d'aristotile ma la sola autorità ed il puro ipse dixit simplicio aristotile non si è acquistata si grande autorità se non per la forza delle sue dimostrazioni e della profondità dei suoi discorsi ma bisogna intenderlo e non solamente intenderlo ma aver tanta gran pratica nei suoi libri che se ne si è formata un'idea perfettissima in modo che ogni suo detto vi sia sempre innanzi alla mente perché è non ha scritto per il volgo né si è obbligato a infilzare i suoi silogismi col metodo triviale ordinato anzi servendosi del perturbato ha messo talvolta la prova di una proposizione fra testi che parche trattino di ogni altra cosa e però bisogna aver tutta quella grande idea e saper combinare questo passo con quello a cozzar questo testo con un altro remotissimo che non è dubbio che chi avrà questa pratica saprà cavarte su libri le dimostrazioni di ogni scibile perché in essi è ogni cosa sagredo ma signor simplicio mio come l'essere le cose disseminate in qua e là non vi dà fastidio e che voi crediate con l'accozzamento con la combinazione di varie particelle tranne il sugo questo che voi e gli altri filosofi bravi farete con i testi di aristotile farò io con i versi di virgilio o di ovidio formandone centoni ed esplicando con quelli tutti gli affari degli uomini e i segreti della natura ma che dico io di virgilio o di altro poeta io ho un libretto assai più breve di aristotile ed ovidio nel quale si contengono tutte le scienze e con pochissimo studio altri se ne può formare una perfettissima idea e questo è l'alfabeto e non è dubbio che quello che saprà ben accoppiare ordinare questa e quella vocale con quelle consonanti o con quell'altra ne caverà le risposte verissime a tutti i dubbi e ne trarrà gli insegnamenti di tutte le scienze di tutte le arti in quella maniera appunto che il pittore dai semplici colori diversi separatamente posti sopra la tavolozza va con l'acquizzare un poco di questo con un poco di quello e di quell'altro figurando uomini piante fabbriche uccelli pesci ed insomma imitando tutti gli oggetti visibili senza che sulla tavolozza siano né occhi né penne né squamme né foglie né sassi anzi pure è necessario che nessuna delle cose da imitarsi o parte alcuna di quelle siano attualmente tra i colori volendo che con essi si possano rappresentare tutte le cose che se vi fossero per vi grazie penne queste non servirebbero per dipignere altro che uccelli o pennacchi salviati e sono vivi e sani alcuni gentiluomini che furono presenti quando un dottor leggente in uno studio famoso nel sentir circoscrivere il telescopio da sé non ancora veduto disse che l'invenzione era presa da aristotile e fattosi portare un testo trovò certo luogo dove si rende la ragione onde avvenga che dal fondo di un pozzo molto cupo si possano di giorno veder le stelle in cielo e disse ai circostanti eccovi il pozzo che denota il cannone eccovi i vapori grossi dai quali è tolta l'invenzione dei cristalli ed eccovi finalmente fortificata la vista nel passare i raggi per il diafano più denso ed oscuro sagredo questo è un modo di contenere tutti gli scivili assai simile a quello col quale un marmo contiene in sé una bellissima anzi mille bellissime statue ma il punto sta a saperle scoprire o vogliamo dire che sia simile alle profezie di giovacchino o a risponsi degli oracoli dei gentili che non si intendono se non dopo gli eventi delle cose profetizzate salviati e dove lasciate voi le predizioni dei genetlieci che tanto chiaramente dopo l'esito si veggono nel tema o vogliamo dire nella figura celeste sagredo in questa guisa trovano gli alchimisti guidati dall'umor melanconico tutti i più elevati ingegni del mondo non aver veramente scritto mai d'altro che del modo di far loro ma per dirlo senza palesarlo al volgo essere andati ghiribizzando chi questa e chi quell'altra maniera di adombrarlo sotto varie coperte e piacevolissima cosa è sentire i commenti loro sopra i poeti antichi ritrovando i misteri importantissimi che sotto le favole loro si nascondono e quello che importino gli amori della luna è il suo scendere in terra per endimione l'ira sua contro atteone e quando giove si converte in pioggia d'oro e quando in fiammer denti e quanti gran segreti dell'arte siano in quel mercurio interprete in quei ratti di plutone in quei rami d'oro simplicio io credo e in parte so che non mancano al mondo dei cervelli molto stravaganti le vanità dei quali non dovrebbero ridondare in pregiudizio d'aristotile del quale mi par che voi parliate talvolta con troppo poco rispetto e la sola antichità e il gran nome che si è acquistato nelle menti di tanti uomini segnalati dovrebbe bastar a renderlo riguardevole appresso di tutti i letterati salviati il fatto non cammina così signor simplicio sono alcuni suoi seguaci troppo pusillanini che danno occasione o per dir meglio che darebbero occasione di stimarlo meno quando noi volessimo applaudere alle loro leggerezze e voi ditemi grazia siete così semplice che non intendiate che quando aristotile fusso stato presente a sentire il dottor che lo voleva far autor del telescopio si sarebbe molto più alterato contro di lui che contro quelli che del dottore e delle sue interpretazioni si ridevano avete voi forse dubbio che quando aristotile vedesse le novità scoperte in cielo e non fusse per mutare opinione e per emendare i suoi libri e per accostarse alle più sensate dottrine discacciando da sé quei così poveretti di cervello che troppo pusillanimemente si inducono a voler sostenere ogni suo detto senza intendere che quando aristotile fosse tale quale essi se lo figurano sarebbe un cervello indocile una mente ostinata un animo pieno di barbarie un voler tirannico che reputando tutti gli altri come pecore stolide volesse che i suoi decreti fossero anteposti ai sensi alle esperienze alla natura stessa sono i suoi seguaci che hanno data l'autorità ad aristotile e non esso che se la sia usurpata o presa e perché è più facile il coprirsi sotto lo scudo di un altro che il comparire a faccia aperta temono ne si ardiscono ad allontanarsi un sol passo e piuttosto che mettere qualche alterazione nel cielo di aristotile vogliono impertinentemente negare quelle che vengono nel cielo della natura sagredo questi tali mi fanno sovvenire di quello scultore che avendo ridotto un gran pezzo di marmo all'immagine non so se di un ercole o di un giove fulminante e dato gli commirabili artifici o tanta vivacità e fiorezza che muoveva spavento a chiunque lo rimirava esso ancora cominciò ad averne paura se ben tutto lo spirito e la movenza era opera delle sue mani e il terrore era tale che più non si sarebbe ardito di affrontarlo con le subie il mazzuolo salviati io mi son più volte maravigliato come possa esser che questi puntuali mantenitori veni detto d'aristotile non si accorgano di quanto gran pregiudizio e sieno alla reputazione ed al credito di quello e quanto nel volergli accrescere autorità gliene detraggono perché mentre io li veggo ostinati in voler sostenere proposizioni le quali io tocchi con mano esser manifestamente false ed in volermi persuadere che così far convenga al vero filosofo e che così farebbe aristotile medesimo molto si diminuisce in me l'opinione che egli abbia rettamente filosofato intorno ad altre conclusioni a me più recondite che quando io li vedessi cedere e votare opinione per le verità manifeste io crederei che in quelle dove è per si stessero potessero avere salde dimostrazioni da meno in intese o sentite sagredo ovvero quando gli paresse di metter troppo della loro reputazione e di quella d'aristotile nel confessar di non aver saputa questa o quella conclusione ritrovata da un altro non sarebbe i manco male ritrovarla tra i suoi testi con l'accozzarne diversi conforme alla pratica significataci del signor semplicio perché se vi è ogni scibile e ben anco forza che vi si possa ritrovare salviati signor sagredo non vi fate beffe di questo avvedimento che mi par che lo proponghiate burlando perché non è gran tempo che avendo un filosofo di gran nome composto un libro dell'anima nel quale in riferire l'opinione d'aristotile circa l'esser o non essere immortale adduceva molti testi non già dei citati da alessandro perché in quelli diceva che aristotile non trattava neanche di tal materia non che determinasse cosa veruna tenente a ciò ma altri da sé ritrovati in altri luoghi reconditi che piegavano al senso pernizioso e venendo avvisato che egli avrebbe avuto delle difficoltà nel farlo licenziare riscrisse all'amico che non però restasse di procurarne la spedizione perché quando non se gli intraversasse altro ostacolo non aveva difficoltà niuna circa il mutare la dottrina d'aristotile e con altre esposizioni e con altri testi sostenere l'opinione contraria pur conforme alla mente d'aristotile sagredo oh questo dottor sì che mi può comandare che non si vuol lasciare infinocchiare d'aristotile ma vuol essomenar lui per il naso e farlo dire a suo modo vedete quanto importa è saper pigliare il tempo opportuno ehi non si deve ridurre a negoziar con ercole mentre è imbizzarrito e sulle furie ma quando sta favoleggiando tra le meoni ancelle a aviltà inaudita di ingegni servili farsi spontaneamente emancipio accettar per inviolabili decreti obbligarsi a chiamarsi persuaso e convinto da argomenti che sono tanto efficaci e chiaramente concludenti che gli stessi non sanno risolversi se si è impure scritti in quel proposito o se servano per provare quella tal conclusione ma dichiamo la pazzia maggiore che tra lor medesimi sono ancora dubbi se lì stesso autore abbia tenuto la parte affermativa o la negativa è egli questo un far loro oracolo una statua di legno e da quella correre per i responsi quella temere, quella riverire, quella adorare simplicio ma quando si lascia Aristotile chi ne ha da essere scorta nella filosofia nominate voi qualche autore salviati c'è bisogno di scorta nei paesi incogniti e selvaggi ma nei luoghi aperti e piani i ciechi solamente hanno bisogno di guida e chi è tale e ben che si resti in casa ma chi ha gli occhi nella fronte e nella mente di quelli sia da servire per scorta ne perciò dico io che non si debba ascoltare Aristotile anzi laudo il vederlo e diligentemente studiarlo e solo biasimo il darseli in preda in maniera che alla cieca si sottoscriva a ogni suo detto e senza cercarne altra ragione si debba avere per decreto inviolabile il che è un abuso che si tira dietro un altro disordine estremo ed è che altri non si applica più a cercare di intenderla a forza delle sue dimostrazioni e qualcosa è più vergognosa che sentirne le pubbliche dispute mentre si tratta di conclusioni dimostrabili uscire un di traverso con un testo e ben spesso scritto in ogni altro proposito e con esso serrar la bocca all'avversario ma quando pure voi vogliate continuare in questo modo di studiare deponete il nome di filosofi e chiamatevi o storici o dottori di memoria che non conviene che quelli che non filosofano mai si usurpino l'onorato titolo di filosofo ma è ben ritornare a riva per non entrare in un pelago infinito del quale in tutt'oggi non si uscirebbe però, signor Simplicio venite pure con le ragioni e con le dimostrazioni vostre o di Aristotile e non con testi e nude autorità perché i discorsi nostri hanno a essere intorno al mondo sensibile e non sopra un mondo di carta e perché nel discorso di ieri si cavò dalle tenebre e si espose al cielo aperto la terra mostrando che il volerla conumerare tra quelli che noi chiamiamo corpi celesti non era proposizione talmente convinta e prostrata che non gli restasse qualche spirito vitale seguita che noi andiamo esaminando quello che abbia di probabile il tenerla fissa e del tutto immobile intendendo quanto al suo intero globo e quanto possa avere di verissimilitudine il farla mobile di alcun movimento e di quale e perché in tal questione io sono ambiguo e il signor Simplicio risoluto insieme con Aristotile per la parte dell'immobilità egli di passo in passo andrà portando i motivi per la loro opinione ed io le risposte e gli argomenti per la parte contraria ed il signor Sagredo dirà i moti dell'animo suo ed in qual parte e si sentirà attirare Sagredo io sono molto contento con questo però che a me ancora resti libertà di produrre quel che mi destasse talora il discorso semplice e naturale salviati anzi dico testo io in particolare ve ne supplico perché delle considerazioni più facili e per così dire materiali credo che poche ne siano state lasciate indietro dagli scrittori tal che solamente qualcuna delle più sottili e recondite può desiderarsi a mancare e per investigare queste qual'alta sottigliezza può essere più atta di quella dell'ingegno del signor Sagredo acutissimo e perspicacissimo fine della giornata seconda parte prima registrazione di Emanuela giornata seconda parte seconda di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org registrazione di Emanuela dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata seconda parte seconda Sagredo io sono tutto quel che piace al signor Salviati ma di grazia non metti a mano in un'altra sorte di diversione di cerimonie perché ora sono filosofo e sono in scuola e non al broio Salviati sia dunque il principio della nostra contemplazione il considerare che qualunque moto venga attribuito alla Terra è necessario che a noi come abitatori di quella ed in conseguenza partecipi del medesimo e ai resti del tutto impercettibile è come se non fosse mentre che noi riguardiamo solamente alle cose terrestri ma è bene all'incontro altrettanto necessario che il medesimo movimento ci si rappresenti comunissimo di tutti gli altri corpi ed oggetti visibili che essendo separati dalla Terra mancano di quello a tal che il vero metodo per investigare se moto alcuno si può attribuire alla Terra e potendosi quale è sia è il considerare ed osservare se nei corpi separati dalla Terra si scorge apparenza alcuna di movimento il quale è ugualmente competa a tutti perché un moto che solamente si scorgesse verbi grazia nella Luna e che non avesse che far niente con Venero o con Giove né con altre stelle non potrebbe in veruna maniera essere della Terra né di altri che della Luna ora c'è un moto generalissimo e massimo soprattutto ed è quello per il quale il Sole la Luna gli altri pianeti e le stelle fisse ed insomma l'universo tutto tratta nella sola Terra ci appariscono unitamente muoversi da Oriente verso Occidente dentro allo spazio di 24 ore e questo in quanto a questa prima apparenza non ha repugnanza di potere essere tanto della Terra sola quanto di tutto il resto del mondo tratto nella Terra impero che le medesime apparenze si vedrebbero tanto nell'una posizione quanto nell'altra quindi è che Aristotile e Ptolomeo come quelli che avevano penetrata questa considerazione nel voler provare la Terra essere immobile non argumentano contro ad altro movimento che a questo diurno salvo però che Aristotile tocca un non so che contro ad un altro moto attribuitogli da un antico del quale parleremo a suo luogo Sagredo io resto molto ben capace della necessità con la quale conclude il vostro discorso ma mi nasce un dubbio del quale non so liberarmi e questo è che attribuendo il Copernico alla Terra un altro movimento oltre al diurno il quale per la regola pur ora dichiarata dovrebbe restare a noi quanto all'apparenza impercettibile nella Terra ma visibile in tutto il resto del mondo parmi di poter necessariamente concludere o che egli abbia manifestamente errato nell'assegnare alla Terra un moto del quale non apparisca in cielo la sua general corrispondenza ovvero che se la rispondenza vi è altrettanto sia stato manchevole Tolomeo a non reprovar questo siccome reprovò l'altro salviati molto ragionevolmente avete dubitato e quando verremo a trattare dell'altro movimento vedrete di quanto intervallo abbia il Copernico superato di accortezza e perspicacità d'ingegno Tolomeo mentre egli ha veduto quello che esso non vede dico la mirabile corrispondenza con la quale tal movimento si riflette in tutto il resto dei corpi celesti ma per ora sospediamo questa parte e torniamo alla prima considerazione intorno alla quale andrò proponendo cominciandomi dalle cose più generali quelle ragioni che parche favoriscano la mobilità della terra per sentir poi dal signor semplicio le repugnanti e prima se noi considereremo solamente la mole immensa della sfera stellata in comparazione della piccolezza del globo terrestre contenuto da quella per tanti milioni di volte e più penseremo alla velocità del moto che deve in un giorno e in una notte fare un'intera conversione io non mi posso persuadere che trovarsi potesse alcuno che avesse per cosa più ragionevole e credibile che la sfera celeste fosse quella che desse la volta ed il globo terrestre restasse fermo sagredo se per tutta l'università degli effetti che possono avere in natura dipendenza da movimenti tali seguissero indifferentemente tutte le medesime conseguenze a capello tanto dall'una posizione quanto dall'altra io quanto alla mia prima e generale apprensione stimerei che colui che reputasse più ragionevole far muovere tutto l'universo per ritenere ferma la terra fusse più irragionevole di quello che essendo salito in cima alla vostra cupola non per altro che per dare una vista alla città e dal suo contado domandasse che se gli facesse girare intorno tutto il paese a ciò non avesse egli ad aver la fatica di volgere la testa e ben vorrebbero essere molte e grandi le comunità che si traesser da quella posizione e non da questa che pareggiassero nel mio concetto e superasser questo assurdo sì che mi rendessere più credibile quella che questa ma forse aristotile tolomeo e il signor simplicio ci devono trovare i loro vantaggi dei quali sarà bene che siano proposti a noi ancora se vi sono o mi sia dichiarato come è non vi siano ne possano essere salviati io siccome per molto che ci abbia pensato non ho potuto trovare diversità alcuna così mi par d'aver trovato che diversità alcuna non vi possa essere onde io stimoli più cercarla essere in vano però notate il moto intanto è moto e come moto opera in quanto ha relazione a cose che di esso mancano ma tra le cose che tutte ne partecipano ugualmente niente opera ed è come se non fusse e così le mercanzie delle quali è carica la nave intanto si muovono in quanto lasciando Venezia passano per Corfu per Candia per Cipro e vanno in Aleppo li quali Venezia Corfu Candia eccetera restano ne si muovono con la nave ma per le balle casse ed altri colli dei quali è carica e stivata la nave e rispetto alla nave medesima il moto da Venezia in Soria è come nullo e niente altera la relazione che è tra di loro e questo perché è comune a tutti ed è ugualmente da tutti è partecipato e quando delle robe che sono in nave una balla si sia discostata da una cassa a un soldito questo solo sarà stato per lei movimento maggiore in relazione alla cassa che il viaggio di 2000 miglia fatto da loro di conserva semplicio questa è dottrina buona soda e tutta peripatetica salviati io l'ho per più antica e dubito che Aristotile nel pigliare da qualche buona scuola non la penetrasse interamente e che però avendo la scritta alterata sia stato causa di confusione mediante quelli che vogliono sostenere ogni suo detto e quando egli scrisse che tutto quel che si muove si muove sopra qualche cosa immobile dubito che equivocasse dal dire che tutto quel che si muove si muove rispetto a qualche cosa immobile la qual proposizione non patisce difficoltà veruna e l'altra ne ha molte sagredo di grazia non rompiamo il filo e seguite avanti il discorso incominciato salviati essendo dunque manifesto che il moto il quale sia comune a molti mobili è ozioso e come nullo in quanto alla relazione di essi mobili tra di loro poiché tra di essi niente si muta e solamente è operativo nella relazione che hanno essi mobili con altri che manchino di quel moto tra i quali si muta abitudine ed avendo noi diviso l'universo in due parti una delle quali necessariamente mobile e l'altra immobile per tutto quello che possa depender da cotal movimento tanto è far muover la terra sola quanto tutto il resto del mondo poiché l'operazione di tal moto non è in altro che nella relazione che cade tra i corpi celesti e la terra la qual sola relazione è quella che si muta ora se per conseguire il medesimo effetto ad unguem tanto fa se la sola terra si muova cessando tutto il resto dell'universo che se restando ferma la terra sola tutto l'universo si muova di un stesso modo chi vorrà credere che la natura che pur per comun consenso non opera con l'intervento di molte cose quel che si può fare col mezzo di poche abbia letto di far muovere un numero immenso di corpi vastissimi e con una velocità inestimabile per conseguire quello che col movimento mediocre di un solo intorno al suo proprio centro poteva ottenersi semplicio io non bene intendo come questo grandissimo moto sia come nullo per il sole per la luna per gli altri pianeti e per l'innumerabile schiera delle stelle fisse e come direte voi esser nulla il passare il sole da un meridiano all'altro alzarsi sopra quest'orizzonte abbassarsi sotto quello arrecare ora il giorno ora la notte simili variazioni far la luna e gli altri pianeti e le stelle fisse ancora salviati tutte coteste variazioni raccontate da voi non son nulla se non in relazione alla terra e che ciò sia vero rimuovete con l'immaginazione e la terra non resta più al mondo né nascere né tramontar di sole e di luna né orizzonti né meridiani né giorni né notti né insomma per tal movimento nasce mai mutazione alcuna tra la luna e il sole o altre qualsivoglino stelle sian fisse o erranti ma tutte le mutazioni hanno relazione alla terra le quali tutte insomma non importano poi altro che il mostrare il sole ora alla Cina poi alla Persia dopo all'Egitto alla Grecia alla Francia alla Spagna all'America eccetera e farle stesso della luna e del resto dei corpi celesti la qual fattura segue puntualmente nel modo medesimo se senza imbrigarsi gran parte dell'universo si faccia rigirare in se stesso il globo terrestre ma raddoppiamo la difficoltà con un'altra grandissima la quale è che quando si attribuisca questo gran moto al cielo bisogna di necessità farlo contrario ai moti particolari di tutti gli orbi dei pianeti dei quali ciascheduno senza controversia al movimento uso proprio da occidente verso oriente e questo assai piacevole e moderato e conviene poi fargli rapire l'incontrario cioè da oriente in occidente da questo rapidissimo moto diurno dove che facendosi muover la terra in se stessa si leva la contrarietà dei moti ed il solo movimento da occidente in oriente si accomoda a tutte le apparenze e soddisfa a tutte compiutamente simplicio quanto alla contrarietà dei moti importerebbe poco perché aristotile dimostra che i moti circolari non son contrarii fra di loro e che la loro non si può chiamar vera contrarietà salviati lo dimostra Aristotile oppure lo dice solamente perché così compliva a certo suo disegno se contrarii sono quelli come egli stesso afferma che scambiavolmente si distruggono io non so vedere come due mobili che si incontrino sopra una linea circolare si abbiano a offender meno che incontrandosi sopra una linea retta sagredo di grazia fermate un poco ditemi signor simplicio quando due cavalieri si incontrano giustrando a campo aperto oppure quando due squadre intere o due armate in mare si vanno ad investire e si rompono e si sommergono chiamereste voi con tali incontri contrarii tra di loro simplicio diciamoli contrarii sagredo come dunque nei moti circolari non è contrarietà questi essendo fatti sopra la superficie della terra o dell'acqua che sono come voi sapete sferiche vengono ad essere circolari sapete voi signor simplicio quali sono i moti circolari che non sono tra loro contrarii? sono quelli di due cerchi che si toccano per di fuora che girandone uno fa naturalmente muover l'altro diversamente ma se uno sarà dentro all'altro è impossibile che i moti loro fatti in diverse parti non si contrastino l'un l'altro salviati ma contrarii o non contrarii queste sono altercazioni di parole ed io so che infatti molto più semplice e naturalcosa è il poter salvare il tutto con un movimento solo che l'introdurne due se non volete chiamarli contrarii diteli opposti né io vi porgo questa introduzione per impossibile né pretendo di trarre da essa una dimostrazione necessaria ma solo una maggior probabilità si rinterza l'inverisimile col disordinare sproporzionatissimamente l'ordine che noi veggiamo sicuramente essere tra quei corpi celesti la circolazione dei quali non è dubbia ma certissima e l'ordine è che secondo che un'orbe è maggiore finisce il suo rivolgimento in tempo più lungo ed i minori in più breve e così saturno descrivendo un cerchio maggior di tutti gli altri pianeti lo compisce in 30 anni giove si rivolge nel suo minore in anni 12 marte in 2 la luna passa il suo tanto più piccolo in un sol mese e non ben sensibilmente vediamo delle stelle medicee la più vicina a giove fare il suo rivolgimento in brevissimo tempo cioè in ore 42 in circa la seguente in 3 giorni e mezzo la terza in giorni 7 e la più remota in 16 e questo tenore assai concorde non punto verrà alterato mentre si faccia che il movimento delle 24 ore sia del globo terrestre in se stesso che quando si voglia ritenere la terra immobile è necessario dopo l'esser passati dal periodo brevissimo della luna agli altri conseguentemente maggiori fino a quel di marte in due anni e di lì a quel della maggiore sfera di giove in anni 12 e da questa all'altra maggiore di saturno il cui periodo di 30 anni è necessario dico trapassare ad un'altra sfera incomparabilmente maggiore e farla finire una intera rivoluzione in 24 ore e questo poi è il minimo disordinamento che si possa introdurre perché se altri volesse dalla sfera di saturno passare alla stellata e farla tanto più grande di quella di saturno quanto a proporzione converrebbe rispetto su un movimento tardissimo di molte migliaia d'anni bisognerebbe con molto più sproporzionato salto trapassare da questa ad un'altra maggiore e farla convertibile in 24 ore ma dandosi la mobilità alla terra l'ordine dei periodi viene benissimo osservato e dalla sfera pigrissima di saturno si trapassa alle stelle fisse del tutto immobili e vien si a sfuggire una quarta difficoltà la qual bisogna necessariamente ammettere quando la sfera stellata si faccia mobile e questa è la disparità immensa tra i moti di esse stelle delle quali altre verranno a muoversi velocissimamente in cerchi vastissimi altre lentissimamente in cerchi piccolissimi secondo che queste e quelle si troveranno più o meno vicine ai poli che pure ha dell'inconveniente sì perché noi veggiamo quelle del moto delle quali non si dubita muoversi tutte in cerchi massimi sì ancora perché pare con non buona determinazione fatto il costituire corpi che s'abbiano a muover circolarmente in distanze immense dal centro e fargli poi muovere in cerchi piccolissimi e non pure le grandezze dei cerchi ed in conseguenza le velocità dei moti di queste stelle saranno diversissimi dai cerchi e moti di quell'altre ma le medesime stelle andranno variando sui cerchi e sue velocità e sarà il quinto inconveniente avvenga che quelle che duemila anni fa erano nell'equinoziale ed in conseguenza descrivevano col moto cerchi massimi trovandosene ai tempi nostri lontane per molti gradi bisogna che siano fatte più tarde di moto e ridottesi a muoversi in minori cerchi e non è lontano dal poter accader che venga tempo nel quale alcuna di loro che per l'addietro si sia mossa sempre si riduca congiugnendosi col polo a star ferma e poi ancora dopo la quiete di qualche tempo torni a muoversi dove che le altre stelle che si muovono sicuramente tutte descrivono come si è detto il cerchio massimo dell'orbeloro ed in quello immutabilmente si mantengono accresce l'inverisimile e si è il sesto inconveniente a chi più saldamente discorre l'essere innescogitabile qual deva essere la solidità di quella vastissima sfera nella cui profondità siano così tenacemente saldate tante stelle che senza appunto variar sito tra loro concordemente vengono con si grandi sparità di moti portate in volta o seppure il cielo è fluido come assai più ragionevoli ovviamente conviene credere sicché ogni stella per se stessa per quello va dia vagando qual legge regolerà i moti loro ed a che fine per far che rimirati dalla terra appariscano come fatti da una sola sfera a me pare che per conseguire ciò sia tanto più agevole ed accomodata maniera il costruirle immobili che il farle vaganti quanto più facilmente si tengono a segno molte pietre murate in una piazza che le schiere dei fanciulli che sopravi corrono e finalmente per la settima istanza se noi attribuiamo la conversione diurna al cielo altissimo bisogna farla di tanta forza e virtù che seco porti l'innumerabile moltitudine delle stelle fisse corpi tutti vastissimi e maggiori assai della terra e di più tutte le sfere dei pianeti ancorché e questi e quelle per loro natura si muovono in contrario ed oltre a questo è forza concedere che anche l'elemento del fuoco e la maggior parte dell'aria siano parimente rapiti e che il solo piccol globo della terra resti contumace e renitente a tanta virtù cosa che a me pare che abbia molto del difficile né saprei intender come la terra corpo pensile e librato sopra il suo centro indifferente al moto e dalla quiete posto e circondato da un ambiente liquido non dovesse cedere ella ancora ed esser portata in volta ma tali intoppi non troviamo noi nel far muovere la terra corpo minimo e insensibile in comparazione dell'universo e perciò inabile a fargli violenza alcuna sagredo io mi sento raggirare per la fantasia alcuni concetti così inconfuso destatemi dai discorsi fatti che se io voglio potermi con attenzione applicare alle cose da dirsi è forza che io vegga se mi succedesse meglio ordinargli e trarne quel costrutto che vi è se però ve ne sarà alcuno e per avventura il procedere per interrogazioni mi aiuterà a più agevolmente spiegarmi però domanda al signor Simplicio prima se è crede che al medesimo corpo semplice mobile possano naturalmente competere diversi movimenti oppure che un solo convenga che sia il suo proprio naturale Simplicio d'un mobile semplice un solo e non più può essere il moto che gli convenga naturalmente e gli altri tutti per accidente e per partecipazione in quel modo che a colui che passeggia per la nave suo moto proprio è quello del passeggio e per partecipazione quello che lo conduce in porto dove egli mai col passeggio non sarebbe arrivato se la nave col moto suo non ve l'avesse condotto sagredo ditemi secondariamente quel movimento che per partecipazione viene comunicato a qualche mobile mentre egli per se stesso si muove di altro moto diverso dal partecipato è egli necessario che risegga in qualche soggetto per se stesso oppur può essere anche in natura senza altro appoggio semplicio aristotile vi risponde a tutte queste domande e vi dice che siccome d'un mobile uno è il moto così di un moto uno è il mobile ed in conseguenza che senza l'inerenza del suo soggetto non può né essere neanche immaginarsi alcun movimento fine della giornata seconda parte seconda registrazione di Emanuela giornata seconda parte terza di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox punto org registrazione di Emanuela dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata seconda parte terza sagredo io vorrei che voi mi diceste nel terzo luogo se voi credete che la luna e gli altri pianeti e corpi celesti abbiano loro movimenti propri e quali e siano semplicio annogli e son quelli secondo i quali e vanno scorrendo il zodiaco la luna in un mese il sole in un anno marte in due la sfera stellata in quelle tante migliaia e questi sono i moti loro propri e naturali sagredo ma quel moto col quale io veggo le stelle fisse e con esse tutti i pianeti andare unitamente da levante a ponente e ritornare in oriente in 24 ore in che modo gli compete semplicio annolo per partecipazione sagredo questo dunque non risiede in loro e non risedendo in loro né potendo essere senza qualche soggetto nel quale risegga e forza farlo proprio e naturale di qualche altra sfera semplicio per questo rispetto hanno ritrovata gli astronomi ed i filosofi un'altra sfera altissima senza stelle alla quale naturalmente compete la conversione diurna e questa hanno chiamata il primo mobile il quale poi rapisce seco tutte le sfere inferiori contribuendo e partecipando loro il movimento suo sagredo ma quando senza introdurre altre sfere incognite e vastissime senza altri movimenti o rapimenti partecipati con lasciare a ciascheduna sfera il suo solo e semplice movimento senza mescolare movimenti contrari ma farli tutti per il medesimo verso come è necessario che siano dipendendo tutti da un sol principio tutte le cose camminano e rispondono con perfettissima armonia perché rifiutar questo partito e dar assenso a quelle così strane e laboriose condizioni semplicio il punto sta in trovare questo modo così semplice e spedito sagredo il modo mi par belletrovato fate che la terra sia il primo mobile cioè fatela rivolgere in se stessa in 24 ore e per il medesimo verso che tutte le altre sfere che senza partecipare tal modo a nessuno altro pianeta o stelle tutte avranno i loro orti o casi ed insomma tutte le altre apparenze semplicio l'importanza è il poterla muovere senza mille inconvenienti salviati tutti gli inconvenienti si torranno via secondo che voi li andrete proponendo e le cose dette sin qui sono solamente i primi e più generali motivi per i quali par che si renda non del tutto improbabile che la diurna conversione sia piuttosto della terra che di tutto il resto dell'universo le quali io non vi porto come leggi infrangibili ma come motivi che abbiano qualche apparenza e perché benissimo intendo che una sola esperienza o concludente dimostrazione che si avesse in contrario basta abbattere in terra questi ed altri centomila argomenti probabili però non bisogna fermarsi qui ma procedere avanti e sentire quel che risponde il signor Simplicio e quale migliori probabilità o più ferme ragioni egli adduce in contrario Simplicio io dirò prima alcuna cosa in generale soprattutto queste considerazioni insieme poi verrò a qualche particolare parmi che universalmente voi vi fondiate sulla maggior semplicità e facilità di produrre i medesimi effetti mentre stimate che quanto a causargli tanto sia il muover la terra sola quanto tutto il resto del mondo tratto nella terra ma quanto all'operazione voi reputate molto più facile quella che questa al che io vi rispondo che a me ancora parli stesso mentre io riguardo alla forza mia non pur finita ma debolissima ma rispetto alla virtù del motore che è infinita non è meno agevole il muover l'universo che la terra e che una paglia e se la virtù è infinita perché non se ne deve egli esercitare piuttosto una gran parte che una minima pertanto parmi che il discorso in generale non sia efficace salviati se io avessi mai detto che l'universo non si muove per mancamento di virtù nel motore io avrei errato e la vostra correzione sarebbe opportuna e vi concedo che a una potenza infinita tanto è facile il muover centomila quanto uno ma quello che ho detto io non ha riguardo al motore ma solamente ai mobili ed in essi non solo alla loro resistenza la quale non è dubbio essere minore nella terra che nell'universo ma ai molti altri particolari pur ora considerati al dir poi che ad una virtù infinita sia meglio esercitarne una gran parte che una minima vi rispondo che dell'infinito una parte non è maggior dell'altra quando a men due si è infinite ne si può dire che del numero infinito il centomila sia parte maggiore che il due se ben quello è cinquantamila volte maggior di questo e quando per muover l'universo ci voglia una virtù finita benché grandissima in comparazione di quella che basterebbe per muover la terra sola non però se ne impiegherebbe maggior parte dell'infinita né minore sarebbe che infinita quella che resterebbe oziosa talché l'applicar per un effetto particolare un poco più o un poco meno virtù non importa niente oltre che l'operazione di tal virtù non ha per termine e fine il solo movimento diurno ma sono al mondo altri movimenti assai che noi sappiamo e molti altri più ve ne possono essere incogniti a noi avendo dunque riguardo ai mobili e non si dubitando che operazione più breve e spedita è il muover la terra che l'universo e di più avendo l'occhio alle tante altre abbreviazioni ed agevolezze che con questo solo si conseguiscono un verissimo assioma ad Aristotile che ci insegna che frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora ci rende più probabile il moto diurno essere della terra sola che dell'universo tratto nella terra semplicio voi nel referir l'assioma avete lasciato una clausula che importa il tutto e massime nel presente proposito la particola lasciata è un equebene bisogna dunque esaminare se si possa ugualmente bene soddisfare al tutto con questo e con quello assunto salviati il vedere se l'una e l'altra posizione soddisfaccia ugualmente bene si comprenderà dagli esami particolari dell'apparenze alle quali si ha da soddisfare perché finora si è discorso e si discorrerà ex ipotesi supponendo che quanto a soddisfare all'apparenze a men due le posizioni siano ugualmente accomodate la particola poi che voi dite essere stata lasciata da me ho piuttosto sospetto che sia superfluamente aggiunta da voi perché il dire è ugualmente bene è una relazione la quale necessariamente ricerca due termini almeno non potendo una cosa aver relazione a se stessa e dirsi verbi grazia la quiete essere ugualmente buona come la quiete e perché quando si dice in vano si fa con più mezzi quello che si può fare con manco mezzi si intende che quel che si ha da fare deva essere la medesima cosa e non due cose differenti e perché la medesima cosa non può dirsi è ugualmente ben fatta come se è medesima adunque l'aggiunta della particola è ugualmente bene è superflua ed una relazione che è un termine solo sagredo se noi non vogliamo che ci intervenga come ieri ritornisi di grazia nella materia ed il signor Simplicio comincia a produr quelle difficoltà che gli paiono contrarianti a questa nuova disposizione del mondo Simplicio la disposizione non è nuova anzi antichissima e che ciò sia vero Aristotile la confuta e le sue confutazioni sono queste prima se la terra si muovesse o in se stessa stando nel centro o in cerchio essendo fuori del centro è necessario che violentemente ella si muovesse di tal modo impero che e non è suo naturale che se fosse suo l'avrebbe ancora ogni sua particella ma ognuna di loro si muove per linea retta al centro essendo dunque violento e preternaturale non potrebbe essere sempiterno ma l'ordine del mondo è sempiterno adunque eccetera secondariamente tutti gli altri mobili di moto circolare parcherestino indietro e si muovono di più di un moto trattone però il primo mobile per lo che sarebbe necessario che la terra ancora si muovesse di due moti e quando ciò fosse bisognerebbe di necessità che si facessero mutazioni nelle stelle fisse il che non si vede anzi senza variazione alcuna le medesime stelle nascono sempre dai medesimi luoghi e nei medesimi tramontano terzo il moto delle parti è del tutto e naturalmente al centro dell'universo e per questo ancora in esso si sta muove poi la dubitazione se il moto delle parti è per andare naturalmente al centro dell'universo oppure al centro della terra e conclude esser suo istinto proprio di andare al centro dell'universo e per accidente al centro della terra del qual dubbio si discorse ieri a lungo conferma finalmente li stesso col quarto argomento preso dall'esperienza dei gravi li quali cadendo da alto a basso vengono a perpendicolo sopra la superficie della terra e medesimamente i proietti tirati a perpendicolo in alto a perpendicolo per le medesime linee ritornano a basso quando bene fossero stati tirati in immensa altezza argomenti necessariamente concludenti il moto loro essere al centro della terra che senza appunto muoversi gli aspetta e riceve accenna poi in ultimo esser dagli astronomi prodotte altre ragioni in confermazione delle stesse conclusioni dico dell'esser la terra nel centro dell'universo ed immobile ed una sola ne produce che è il risponder tutte le apparenze che si vengono nei movimenti delle stelle alla posizione di essa terra nel centro la qual rispondenza non avrebbe quando ella non vi fosse le altre prodotte da Ptolomeo e da altri astronomi le potrò arrecare ora se così vi piace o dopo che harete detto quanto vi occorre in risposta di queste di Aristotile salviati gli argomenti che si producono in questa materia sono di due generi altri hanno riguardo agli accidenti terrestri senza relazione alcuna alle stelle ed altri si cavano dalle apparenze ed osservazioni delle cose celesti gli argomenti di Aristotile sono per lo più cavati dalle cose intorno a noi e lascia gli altri agli astronomi però sarà bene se così vi pare esaminare questi presi dalle esperienze di terra e poi verremo all'altro genere e perché da Ptolomeo da Ticone e da altri astronomi e filosofi oltre agli argomenti d'Aristotile presi confermati e fortificati da loro ne sono prodotti degli altri si potranno unir tutti insieme per non aver poi a replicarle medesime o simili risposte due volte però signor Simplicio o vogliate riferirgli voi o vogliate ch'io vi levi questa briga son per compiacervi Simplicio sarà meglio che voi gli portiate che per averci fatto maggiore studio gli erete più in pronto ed anco in maggior numero salviati per la più gagliarda ragione si produce da tutti quella dei corpi gravi che cadendo da alto a basso vengono per una linea retta e perpendicolare alla superficie della terra argomento stimato irrefragabile che la terra stia immobile perché quando ella avesse la conversion diurna una torre dalla sommità della quale si lasciasse cadere un sasso venendo portata dalla vertigine della terra nel tempo che il sasso consuma nel suo cadere scorrerebbe molte centinaia di braccia verso oriente e per tanto spazio dovrebbe il sasso percuotere in terra lontano dalla radice della torre il quale effetto confermano con un'altra esperienza cioè con lasciar cadere una palla di piombo dalla cima dell'albero di una nave che stia ferma notando il segno dove ella batte che è vicino al pie dell'albero ma se dal medesimo luogo si lascerà cadere la medesima palla quando la nave cammini la sua percossa sarà lontana dall'altra per tanto spazio quanto la nave sarà scorsa innanzi nel tempo della caduta del piombo e questo non peraltro se non perché il movimento naturale della palla posta in sua libertà è per linea retta verso il centro della terra fortificasi tal argomento con l'esperienza ad un proietto tirato in alto per grandissima distanza qual sarebbe una palla cacciata da un'artiglieria drizzata a perpendicolo sopra l'orizzonte la quale nella salita e nel ritorno consuma tanto tempo che nel nostro parallelo l'artiglieria e noi insieme saremmo per molte miglia portati dalla terra verso Levante tal che la palla cadendo non potrebbe mai tornare appresso al pezzo ma tanto lontana verso occidente quanto la terra fosse scorsa avanti aggiungono di più la terza e molto efficace esperienza che è tirandosi con una colubrina una palla di volata verso Levante e poi un'altra con egual carica e dalla medesima elevazione verso Ponente il tiro verso Ponente riuscirebbe estremamente maggiore dell'altro verso Levante impero che mentre la palla va verso occidente e l'artiglieria portata dalla terra verso oriente la palla verrebbe a percuotere in terra lontana dall'artiglieria tanto spazio quanto è l'aggregato dei due viaggi uno fatto da sé verso occidente e l'altro dal pezzo portato dalla terra verso Levante e per l'opposito del viaggio fatto dalla palla tirata verso Levante bisognerebbe detrarne quello che avesse fatto l'artiglieria seguendola posto dunque per esempio che il viaggio della palla per sé stesso fosse 5 miglia e che la terra in quel tal parallelo nel tempo della volata della palla scorresse 3 miglia nel tiro di ponente la palla cadrebbe in terra 8 miglia lontana dal pezzo cioè le sue 5 verso ponente e le 3 del pezzo verso Levante ma il tiro d'oriente non riuscirebbe più lungo di 2 miglia che tanto resta detratto dalle 5 del tiro le 3 del moto del pezzo verso la medesima parte ma l'esperienza mostra i tiri essere uguali adunque l'artiglieria sta immobile e per conseguenza la terra ancora ma non meno di questi i tiri altresì verso mezzogiorno o verso tramontana confermano la stabilità della terra impero che mai non si correbbe nel segno che altri avesse tolto di mira ma sempre sarebbero i tiri costieri verso ponente per lo scorrere che farebbe il bersaglio portato dalla terra verso levante mentre la palla è per aria e non solo i tiri per le linee meridiane ma neanche i fatti verso oriente o verso occidente riuscirebbero giusti ma gli orientali riuscirebbero alti e gli occidentali bassi tutta volta che si tirasse di punto in bianco perché sendo il viaggio della palla in amendù e i tiri fatto per la tangente cioè per una linea parallela all'orizzonte ed essendo che al moto diurno quando sia della terra l'orizzonte si va sempre abbassando verso levante ed alzandosi da ponente che però ci appariscono le stelle orientali alzarsi e le occidentali abbassarsi adunque il bersaglio orientale s'andrebbe abbassando sotto il tiro onde il tiro riuscirebbe alto e l'alzamento del bersaglio occidentale renderebbe basso il tiro verso occidente tal che mai non si potrebbe verso nessuna parte tirar giusto e perché l'esperienza è in contrario e forza dire che la terra sta immobile semplicio semplicio oh queste sono ben ragioni alle quali è impossibile trovare risposta che vaglia salviati vi giungono forse nuove semplicio veramente sì ed ora veggo con quante belle esperienze la natura ci è voluta essere cortese per aiutarci a venire in cognizione del vero oh come bene una verità si accorda con l'altra e tutte cospirano a rendersi inespugnabili sagredo che peccato che l'artiglieria non fussero al tempo di aristotile avrebbe ben egli con esse espugnata l'ignoranza e parlato senza punto titubare delle cose del mondo salviati ho avuto molto caro che queste ragioni vi sia ingiunte nuove a ciò che voi non restiate nell'opinione della maggior parte dei peripatetici che credono che se alcuno si parte dalla dottrina d'aristotile ciò avvenga da non avere intese né penetrate ben le sue dimostrazioni ma voi sentirete sicuramente delle altre novità e sentirete da questi seguaci del nuovo sistema produr contro se stessi osservazioni esperienze e ragioni di forza assai maggiore che le prodotte da aristotile e tolomeo o da altri oppugnatori delle medesime conclusioni e così verrete a certificarvi che non per ignoranza o inesperienza si sono indotti a seguire tale opinione sagredo egli è forza che con questa occasione io vi racconti alcuni accidenti occorsimi da poi in qua che io cominciai a sentir parlare di questa opinione essendo assai giovanetto che appena avevo finito il corso della filosofia tralasciato poi per essermi applicato ad altre occupazioni occorse che certo il tramontano di Rostocchio e credo che il suo nome fosse cristiano Wurstisio seguace dell'opinione del copernico capitò in queste bande ed in una accademia fece due ovver tre lezioni in questa materia con concorso di uditori e credo più per la novità del soggetto che per altro io però non vi intervenni avendo fatta una fissa impressione che tale opinione non potesse essere altro che una solenne pazzia interrogati poi alcuni che vi erano stati sentii tutti burlarsene eccettuatone uno che mi disse che il negozio non era ridicolo del tutto e perché questo era reputato da me per uomo intelligente assai e molto circospetto pentitomi di non vi essere andato cominciai da quel tempo in qua secondo che mi incontravo in alcuno che tenesse l'opinione copernicana a domandarlo se egli era stato sempre dell'istesso parere né per molti chi non abbia interrogati ho trovato pur un solo che non m'abbia detto d'essere stato lungo tempo dell'opinione contraria ma essere passato in questa mosso dalla forza delle ragioni che la persuadono esaminategli poi ad uno ad uno per vedere quanto bene e possedessere le ragioni dell'altra parte gli ho trovati tutti averle prontissime tal che non ho potuto veramente dire che per ignoranza o per vanità o per far come si dice il bello spirito si siano gettati in questa opinione all'incontro di quanto io abbia interrogati dei peripatetici e tolemaici che per curiosità ne ho interrogati molti quale studio abbiano fatto nel libro del copernico ho trovato pochissimi che appena l'abbiano veduto ma di quelli che io creda che l'abbiano inteso nessuno e dei seguaci pur della dottrina peripatetica ho cercato di intendere se mai alcuno di loro ha tenuto l'altra opinione e parimente non ne ho trovato alcuno la onde considerando io come nessun è che segua l'opinione del copernico che non sia stato prima della contraria e che non sia benissimo informato delle ragioni di aristotile e di tolomeo e che all'incontro nessuno è dei seguaci di tolomeo ed aristotile che sia stato per addietro dell'opinione del copernico e quella abbia lasciata per venire in quella d'aristotile considerando dico queste cose cominciai a credere che uno che lascia un'opinione imbevuta con latte e seguita da infiniti per venire in un'altra da pochissimi seguita e negata da tutte le scuole e che veramente sembra un paradosso grandissimo bisognasse per necessità che fosse mosso per non dire forzato da ragioni più efficaci per questo sono io divenuto curiosissimo di toccar come si dice il fondo di questo negozio e reputo a mia gran ventura l'incontro di a me in due voi dai quali io possa senza aver una fatica sentir tutto quel che è stato detto e forse che si può dire in questa materia sicuro di dover essere in virtù dei vostri ragionamenti cavato di dubbio e posto in istato di certezza simplicio ma purché l'opinione e la speranza non vi va di affallita e che in ultimo non vi troviate più confuso che prima fine della giornata seconda parte terza registrazione di Emanuela giornata seconda parte quarta di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org registrazione di Marzia Marianera dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata seconda parte quarta sagredo mi par d'essere sicuro che cotesto non possa intervenire in veruna maniera simplicio e perché no io so un buon testimonio a me medesimo che quanto più si va avanti più mi confondo sagredo cotesto è indizio che quelle ragioni che sin qui vi erano parse concludenti e vi tenevano sicuro della verità della vostra opinione cominciano a mutare aspetto nella vostra mente ed a lasciarvi pian piano se non passare almeno inclinare verso la contraria ma io che sono e sono stato finora indifferente confido grandemente d'avermi a ridurre inquiete e insicurezza e voi stesso non me lo negherete se volete sentire qualcosa mi persuada a così sperare simplicio la sentirò volentieri e non men grato mi sarebbe che in me operasse il medesimo effetto sagredo favoritemi dunque di rispondere alle mie interrogazioni e prima ditemi signor simplicio non è la conclusione della quale noi cerchiamo la cognizione se si deve tenere con aristotile e tolomeo che stando ferma la terra sola nel centro dell'universo i corpi celesti si muovano tutti oppur se stando ferma la sfera stellata ed il sole nel centro la terra ne sia fuori e siano suoi quei movimenti che ci appariscono essere del sole e delle stelle fisse simplicio queste sono le conclusioni delle quali si disputa sagredo queste due conclusioni non sono elleno tali che per necessità bisogna che una sia vera e l'altra falsa simplicio così è noi siamo in un dilemma una parte del quale bisogna per necessità che sia vera e l'altra falsa perché tra il moto e la quiete che sono contraddittori non si dà un terzo sì che si possa dire la terra non si muove e non sta ferma il sole e le stelle non si muovono né stanno ferme sagredo la terra il sole e le stelle che cosa sono in natura sono cose minime oppure considerabili simplicio sono corpi principalissimi nobilissimi integranti dell'universo vastissimi considerabilissimi sagredo è il moto e la quiete quali accidenti sono in natura simplicio tanto grandi e principali che la natura stessa per quelli si definisce sagredo tal che il muoversi eternamente e l'essere del tutto immobile sono due condizioni molto considerabili in natura e indicanti grandissima diversità e massime attribuite a corpi principalissimi dell'universo in conseguenza delle quali non possono venire se non eventi dissimilissimi simplicio così è sicuramente sagredo o rispondetemi ad un altro punto credete voi che in dialettica in retorica in fisica in metafisica in matematica e finalmente nell'università dei discorsi siano argomenti potenti a persuadere e a dimostrare altrui non meno le conclusioni false che le vere simplicio signor no anzi tengo per fermo e son sicuro che per la prova di una conclusione vera e necessaria siano in natura non solo una ma molto dimostrazioni potissime e che intorno ad essa si possa discorrere e rigirarsi con mille e mille riscontri senza intoppar mai inveruna ripugnanza e che quanto più qualche sofista volesse intorbidarla tanto più chiara si farebbe sempre la sua certezza e che all'opposito per far apparir vera una proposizione falsa e per persuaderla non si possa proporre altro che fallace sofismi paralogismi equivocazioni e discorsi vani inconsistenti e pieni di repugnanze e contraddizioni sagredo ora se il moto eterno e la quieta eterna sono accidenti tanto principali in natura e tanto diversi che da essi non possono dependere se non diversissime conseguenze e massime applicati al sole e dalla terra corpi tanto vasti ed insigni nell'universo ed essendo di più impossibile che l'una delle due proposizioni contraddittorie non sia vera e l'altra falsa non si potendo per prove della falsa produr altro che fallace ed essendo la vera persuasibile per ogni genere di ragioni concludenti e demostrative come volete che quello di voi che si sarà presso a sostenere la proposizione vera non mi abbia a persuadere bisognerebbe bene che io fossi di ingegno stupido di giudizio stravolto e stolido di mente e di intelletto e cieco di discorso che io non avessi a discernere la luce dalle tenebre le gemme dai carboni il vero dal falso simplicio io vi dico e vi ho detto altre volte che il maggior maestro per insegnare e conoscere i sofismi e paralogismi ed altre fallace è stato aristotile il quale in questa parte non si può mai essere ingannato sagredo voi l'avete pur con aristotile che non può parlare ed io vi dico che se aristotile fosse qui e rimarrebbe da noi persuaso o scelrebbe le nostre ragioni e con altre migliori persuaderebbe noi ma che voi medesimo nel sentir recitare le esperienze dell'artiglieria non l'avete voi conosciute ed ammirate e confessate più concludenti di quelle d'aristotile con tutto ciò non sento che il signor salviati il quale le ha prodotte sicuramente esaminate scandagliate puntualissimamente confessi d'esser persuaso da quelle nemmeno da altre di maggiore efficacia ancora che egli accenna d'esser per farci sentire e non so con che fondamento voi vogliate riprendere la natura come quella che per la molta età si è imbarbogita ed abbia dimenticato a produrre ingegni speculativi né sappia fare più se non di quelli che facendosi mancipi d'aristotile abbiano a intender col suo cervello e sentir coi suoi sensi ma sentiamo il rimanente delle ragioni favorevoli alla sua opinione per venire poi all'orcimento coppellandole e ponderandole con la bilancia del saggiatore salviati prima che proceder più oltre devo dire al signor sagredo che in questi nostri discorsi foda copernicista e lo imito quasi sua maschera ma quello che internamente abbiano in me operato le ragioni che parchio produca in suo favore non voglio che voi lo giudichiate dal mio parlare mentre siamo nel fervor della rappresentazione della favola ma dopo che averò deposto l'abito che forse mi troverete diverso da quello che mi vedete in scena ora seguitiamo avanti produce tolomeo ed i suoi seguaci un'altra esperienza simile a quella dei proietti ed è delle cose che separate dalla terra lungamente si tartengono per aria quali sono le nugole e gli uccelli volanti è come che di quelle non si può dire che siano portate dalla terra non essendo alle aderenti non par possibile che elle possa inseguire la velocità di quella anzi dovrebbe parere a noi che tutte velocissimamente si muovessero verso occidente e se noi portati dalla terra passiamo il nostro parallelo in 24 ore che pure è almeno 16.000 miglia come potranno gli uccelli tener dietro un tanto corso dove all'incontro senza aver una sensibile differenza gli vediamo volar tanto verso Levante quanto verso occidente e verso qualsivoglia parte oltre a ciò se mentre corriamo a cavallo sentiamo assai gagliardamente ferirci il volto dall'aria qual vento dovremmo noi perpetuamente sentir dall'oriente portati con sì il rapido corso intorno all'aria eppur nulla di tale effetto si sente è ci un'altra molto ingegnosa ragione presa da certa esperienza ed è tale il moto circolare ha facoltà di estrudere dissipare e scacciar dal suo centro le parti del corpo che si muove qualunque volta o il moto non sia assai tardo o esse parti non sian molto saldamente attaccate insieme che perciò che perciò quando verbi grazia noi facessimo velocissimamente girare una di quelle gran ruote dentro le quali camminando uno o due uomini muovono grandissimi pesi come la massa delle gran pietre del mangano o barche cariche che da un'acqua in un'altra si traghettano strascinandole per terra quando le parti di essa ruota rapidamente girata non fossero più che saldamente conteste si dissiperebbero tutte né per molto che tenacemente fossero sopra la sua esteriol superficie attaccati sassi o altre materie gravi potrebbero resistere all'impeto che con gran violenza le scaglierebbe in diversi parti lontane dalla ruota ed in conseguenza dal suo centro quando dunque la terra si muovesse con tanto e tanto maggior velocità qual gravità qual tenacia di calcine o di smalti riterrebbe i sassi le fabbriche e le città intere che da sì precipitosa vertigine non fussero lanciate verso il cielo e gli uomini e le fiere che niente sono attaccati alla terra come resisterebbero un tanto impeto dove che all'opposito e queste ed assai minori resistenze di sassetti di rena di foglie vediamo quietissimamente riposarsi in terra e sopra quella ridursi cadendo ancorché con lentissimo moto eccovi signor Simplicio le ragioni potentissime prese per così dire dalle cose terrestri restano quelle dell'altro genere cioè quelle che hanno relazione all'apparenza celesti le quali ragioni tendono veramente più a dimostrare l'essere la terra nel centro dell'universo ed a spogliarla in conseguenza del movimento hanno intorno ad esso attribuitogli dal Copernico le quali come di materia alquanto differente si potranno produr dopo che avremo esaminata la forza di queste fin qui proposte sagredo che dite signor Simplicio parvegli che il signor Salviati possegga e sappia esplicare le ragioni tolemaiche e aristoteliche credete voi che nessuno peripatetico sia altrettanto posseditore delle dimostrazioni copernicane Simplicio se non fosse il gran concetto che per i discorsi avuti sin qui mi son formato della saldezza della dottrina del signor Salviati e dell'acutezza di ingegno del signor Sagredo io con loro buona grazia mi vorrei partire senza più sentire altro parendomi impossibil cosa che contradirsi possa a si palpabili esperienze e vorrei senza sentire altro restare nella mia opinione antica perché mi par che quando bene ella fosse falsa l'essere appoggiata su tanto veri simili ragioni la renderebbe scusabile e se queste son fallace quali vere dimostrazioni furono mai così belle Sagredo e pur bene che noi sentiamo le risposte del signor Salviati le quali se saranno vere e forza che sieno ancora più belle e infinitamente più belle e che quelle sian brutte anzi bruttissime se è vera la proposizion metafisicale che il vero e il bello sono una cosa medesima come ancora il falso e il brutto però signor Salviati non perdiamo più tempo Salviati fu se ben mi ricorda il primo argomento prodotto dal signor Simplicio questo la terra non si può muover circolarmente perché tal moto gli sarebbe violento e però non perpetuo dell'essere poi violento la ragione era perché quando fosse naturale le parti sue ancora si muoverebbero naturalmente in giro il che è impossibile perché naturale delle parti è il muoversi di moto retto all'ingiù qui rispondo che avrei avuto caro che Aristotile si fosse meglio dichiarato quando disse le parti ancora si muoverebbero circolarmente impero che questo muoversi circolarmente può intendersi in due modi uno è che ogni particella separata dal suo tutto si muovesse circolarmente intorno al suo proprio centro descrivendo i suoi piccoli cerchiettini l'altro è che muovendosi tutto il globo intorno al suo centro in 24 ore le parti ancora girassero intorno al medesimo centro in 24 ore il primo sarebbe un'impertinenza non minore che se altri dicesse che di una circonferenza di cerchio ogni parte bisogna che sia un cerchio ovvero perché la terra esterica ogni parte di terra bisogna che sia una palla perché così richiede l'assioma edem estratio totius et partium ma se egli intese nell'altro cioè che le parti a imitazione del tutto si muoverebbero naturalmente intorno al centro di tutto il globo in 24 ore io dico che lo fanno ed a voi invece d'aristotile toccherà provar che no simplicio questo è provato da aristotile nel medesimo luogo mentre dice che il naturale delle parti è il moto retto al centro dell'universo onde il circolare non gli può naturalmente competere salviati ma non vedete voi che nelle medesime parole vi è anche la confutazione di questa risposta simplicio in che modo e dove salviati non dice egli che il moto circolare alla terra sarebbe violento è però non eterno e che questo è assurdo perché l'ordine del mondo è eterno simplicio dicelo salviati ma se quello che è violento non può essere eterno bel converso quello che non può essere eterno non potrà essere naturale ma il moto della terra all'ingiù non può essere altramente eterno adunque meno può essere naturale né gli potrà essere naturale moto alcuno che non gli sia anque eterno ma se noi faremo la terra mobile di moto circolare questo potrà essere eterno ad essa e dalle parti è però naturale simplicio il motoretto è naturalissimo delle parti della terra egli è eterno né mai accaderà che di motoretto non si muovano intendendo però sempre rimossi gli impedimenti salviati voi equivocate signor simplicio ed io voglio pur vedere di liberarvi dall'equivoco però ditemi credete voi che una nave che dallo stretto di gibilterra andasse verso palestina potesse eternamente navigare verso quella spiaggia muovendosi sempre con egual corso simplicio non altramente salviati e perché no simplicio perché quella navigazione è ristretta e terminata tra le colonne e il lito di palestina ed essendo la distanza terminata si passa in tempo finito se già altri non volesse col ritornare indietro con movimento contrario tornar poi a replicar il medesimo viaggio ma questo sarebbe un moto interrotto e non continuato salviati verissima risposta ma la navigazione dello stretto di magaglianes per il mar pacifico per le molucche per il capo di buona speranza e di lì per il medesimo stretto e di nuovo per il mar pacifico eccetera credete voi che la si potesse perpetuare simplicio potrebbe sì perché essendo questa una circolazione che ritorna in se stessa col replicarle infinite volte si potrebbe perpetuare senza avere un interrompimento salviati adunque una nave in questo viaggio potrebbe durare a navigare in eterno simplicio potrebbe quando la nave fosse incorruttibile ma dissolvendosi la nave si terminerebbe di necessità la navigazione salviati ma nel mediterraneo quando anche la nave fosse incorruttibile non però potrebbe muoversi perpetuamente verso palestina per esser tal viaggio terminato due cose adunque si ricercano a ciò che un mobile senza intermissione possa muoversi eternamente l'una è che il moto possa di sua natura essere interminato e infinito e l'altra che il mobile sia parimente incorruttibile ed eterno simplicio tutto questo è necessario salviati adunque già per voi stesso venite ad aver confessato essere impossibile che mobile alcuno si muove eternamente di motoretto essendo che il motoretto o vogliatolo in su o vogliatolo in giù voi stesso lo fate terminato dalla circonferenza e dal centro sicché quando bene il mobile cioè la terra sia eterna tuttavia per non essere il motoretto di sua natura eterno ma terminatissimo non può naturalmente competere la terra anzi come pure ieri si disse Aristotile medesimo è costretto a fare il globo della terra eternamente stabile quando poi voi dite che le parti della terra sempre si muoveranno all'ingiù rimossi gli impedimenti equivocate gagliardamente perché all'incontro bisogna impedirle contrariarle e violentarle se voi volete che le si muovano perché cadute che le sono una volta bisogna con violenza rigettarle in alto a ciò tornino a cader la seconda e quanto agli impedimenti questi gli tolgono solamente l'arrivare al centro che quando ci fosse un pozzo che passasse oltre al centro non però una zolla di terra si muoverebbe oltre a quello se non in quanto traportata dall'impeto lo trapassasse per ritornarvi poi e finalmente fermarvisi quanto dunque al poter sostenere che il movimento per linea retta convenga o possa convenire naturalmente né alla terra né ad altro mobile mentre l'universo resti nel suo ordine perfetto toglietevene pur giù del tutto e fate pur forza se voi non lo volete concedere il moto circolare di mantenerle e difenderle l'immobilità semplicio quanto all'immobilità gli argomenti di aristotile e più gli altri prodotti da voi mi pare che la concludano necessariamente finora e gran cose ci vorranno per mio giudizio confutargli fine della giornata seconda parte quarta registrazione di marzia marianera grazie a tutti Grazie a tutti.